eccoci buongiorno a tutti spero che mi sentiate bene io sono alessio marconi di sinistra classe rivoluzione vi do il benvenuto a questo seminario che abbiamo organizzato per celebrare il centesimo anniversario della nascita del partito comunista d'italia devo dire in questi giorni si sono sentiti si è parlato di questo evento ovviamente ci sono quelli che vedono in questa in questa svolta storica l'origine di tutti i mali c'è chi fa titoli mi sembra su repubblica di aver letto qualcosa all'inizio delle scissioni della sinistra insomma diciamo di ordine grottesco più recentemente mi è capitato di sentire delle dichiarazioni di occhetto a cui hanno chiesto ma che bilancio facciamo di questi cent'anni di partito comunista e il suo commento era ma c'è stato un elemento cattivo e uno buono quello cattivo è stato la rivoluzione russa c'era l'elemento di origine ma poi per fortuna c'è stata la via italiana al socialismo ci avrebbe da dire meno male si è visto che grandi risultati ha portato questo elemento buono ecco devo dire che per noi probabilmente i valori sono esattamente invertiti rispetto a rispetto a questa dichiarazione questo appuntamento di discussione che abbiamo organizzato per noi vuole andare nella direzione di studiare di comprendere non un evento così simbolico estremamente importante ma assestante ma di inserirlo all'interno di un processo storico non si può comprendere questo evento se non si collega appunto alla rivoluzione che c'era stata in russia probabilmente il più importante evento sicuramente della lotta di classe a livello storico nel 17 il biennio rosso la crisi rivoluzionaria l'occupazione delle fabbriche in italia nel settembre del 1920 e non si può comprendere se non si entra poi nei dibattiti che diedero luce a questo a questo partito e che lo attraversarono anche negli anni successivi per riprendere una celebre un celebre invito di lenin celebrateci di meno e studiateci di più questo è l'intenzione proprio quello di comprendere questo evento che il processo è trarne le lezioni che servono oggi a chi vuole portare avanti l'eredità di comprensione di battaglia politica che diede l'energia diede la luce per quel per quella svolta per fare questo abbiamo nell'ultimo nell'ultimo mese pubblicato una serie di contributi che trovate sul nostro sito teorico www.marxismo.net sono cinque articoli che affrontano appunto i diversi aspetti durante e subito dopo la nascita del partito comunista d'italia gli autori di questi articoli interverranno in questo in questo seminario e i materiali poi è nostra intenzione utilizzarli per renderli disponibili a tutti anche in forma cartacea con una pubblicazione peraltro uno di questi articoli il mito di gramsci l'occidentale è stato appena pubblicato in inglese sul sito della nostra organizzazione internazionale che è la tendenza marxista internazionale invito tutti ad andare anche su quel sito che è www.marxist.com non voglio farla lunga perché abbiamo cinque ore per questo seminario ma ci sono contributi importanti e sono convinto che tantissimi dei partecipanti vorranno intervenire per cui vi spiego solo rapidamente come si svolgerà questa discussione quando smetterò di parlare io interverrà per una relazione introduttiva vittorio saldutti che fa parte della sezione di napoli di sinistra classe rivoluzione ed è membro della redazione della nostra rivista teorica falce martello che appunto introdurrà la discussione con un intervento circa di tre quarti d'ora al termine del quale apriremo il dibattito quindi chiunque voglia intervenire per portare contributi per fare domande può chiedere la parola segnandosi in chat per qualunque necessità la chat può essere usata è possibile fare domande possibile anche per comunque necessità tecnica c'è anche la possibilità di scrivere direttamente al moderatore invito tutti durante la discussione a tenere chiusi gli audio e i video in modo da non interferire con la con chi sta parlando e puntiamo a terminare questa discussione per le 19 e 30 e quindi per le 19 o qualche minuto prima daremo la parola a franco bavila direttore di falce martello per per concludere la discussione a questo punto mentre parlavo dovremmo essere arrivati a 180 partecipanti circa abbiamo dato qualche minuto in più per aggiungersi come dicevo l'ha già sentito chi era già collegato abbiamo avuto davvero moltissime richieste di di partecipazione più di 300 più di 320 e e quindi devo dire che questo è già un successo aggiungo che questa discussione è registrata e quindi la troverete poi sul nostro canale youtube e dovrebbe essere se sta andando tutto bene tecnicamente dovrebbe essere in corso anche uno streaming in diretta su sulla pagina di rivoluzione di facebook detto questo non voglio rubare altro tempo e quindi se vittorio è pronto lascerei a lui la parola chiedo a chi mi assiste anche paolo grassi se può dargli la parola nell'elenco dei partecipanti paolo il 21 gennaio del 1921 quindi poco più poche ore da da oggi cento anni fa nel teatro di di divorno veniva letta questa dichiarazione da giovanni baci giovanni baci era il presidente della congresso del partito socialista italiano che appunto si riuniva a livorno ecco dopo tre giorni di discussioni giovanni baci legge una dichiarazione dei fatti legge risultati del congresso delle emozioni presentate appunto al congresso di livorno e dai seguenti risultati votanti furono 162 mila oltre 162 mila pochi astenuti la mozione dei massimalisti i nomi delle emozioni erano date dalle città dove siano riunite le emozioni prima del congresso la mozione dei massimalisti raccolte circa poco meno di 100 mila voti la mozione dei comunisti guidati da curati e va raccolto 14 mila voti nella sala del teatro del teatro goldoni ci fu un frastuono salì sul podio amareo bordica che fece una dichiarazione una parte di questa dichiarazione recita la frazione comunista dichiara che la maggioranza del congresso col suo voto si è posta fuori dalla terza internazionale comunista i delegati che hanno votato la mozione della frazione comunista abbandonino la sala e sono convocati alle 11 al teatro san mario per deliberare la costituzione del partito comunista sezione italiana della terza internazionale dice il racconto stenografico di quella seduta è la scissione quindi la mattina del 21 gennaio una parte dei delegati esce dalla sala del teatro goldoni si reca in un teatro ma ridotto lì vicino cantando l'internazionale e ne fatti nasce una nuova organizzazione questo è il momento culminante di un processo molto più lungo che abbraccia diversi anni che coinvolge migliaia di persone migliaia di lavoratori perché fondamentalmente il partito comunista d'italia nasce con una base soletaria e una vicenda che appunto coinvolge alcuni dirigenti alcuni nomi già li ho fatti prima protagonisti di questa storia sono curati un dirigente storico del socialismo italiano terrati che avrà un percorso particolare e altre due figure che abbiamo anche indicato nella locandina del del nostro evento bordiga e gramici che sono in qualche modo i principali dirigenti comunisti e gli artefici in modo diverso della nascita di questo di questo appunto una trama complessa che si snoda in anni difficilissimi per il movimento operaio internazionale in cui si sosteguono una guerra mondiale con milioni di morti principalmente lavoratori rivoluzioni alcune vittoriose adesso ricordava prima la rivoluzione russa fondamentalmente che da inizio a un processo di rivoluzione in tutto il continente altre meno fortunate negli anni in cui nasceva il partito comunista d'italia la rivoluzione ungherese o quella in germania subivano delle sconfitte epocali ma in alcuni casi non definitivi e appunto su questo in questo quadro operano le figure di cui di cui parlavo elaborano una loro linea un loro pensiero in anni appunto complessi e elaborano appunto alcune delle idee che poi saranno fondamentali per l'evoluzione del comunismo in italia o almeno per una prima fase del movimento comunista in italia che poi appunto conoscerà notevoli rivoluzioni anche negli anni in un contesto appunto che in italia vede la rivoluzione del 19 nel 20 il denio rosso e poi l'avanzata della reazione con gli imporsi della del fascismo pochi mesi di o dopo la nascita del partito comunista è difficile individuare un inizio di questo processo appunto sono vicende umane intellettuali di combattenti della classe lavoratrice che in qualche modo dedicato la loro vita intera alla causa della della rivoluzione ma se dovessimo individuare un elemento peculiare del movimento comunista italiano del perché la nascita viene in quel momento e in quel modo che poi proveremo a vedere dobbiamo risalire a prima della guerra perché se la guerra grande guerra ha un impatto devastante a livello mondiale che cambierà totalmente la connotati al movimento operario internazionale in italia questo processo in qualche modo è anticipato è anticipato dalla spedizione dalla campagna e il governo di giudici mette in campo qualche anno prima rispetto alla guerra mondiale siamo nel 1911 che in qualche modo crea un un equivoco un'ambiguità rispetto al movimento italiano che si verrà trascinato in qualche modo anche negli anni successivi e che in qualche modo avrà un impatto sulla formazione del partito comunista in italia in che contesto ci troviamo nel 1911 evidentemente l'industrializzazione del paese ormai è avanzata soprattutto nel nel nord italia ma ci sono dei distretti industriali importanti anche nel nel mezzogiorno e tuttavia lo sviluppo che ha avuto il capitalismo italiano tra la fine dell'ottocento e inizio del del novecento ha creato delle enormi disparità lo scenario in cui opera il governo di giudici è quello di una sovrappoluzione industriale da parte appunto del dei padroni ma di una crescente povertà da parte dei lavoratori italiani con delle sacche di estrema arretratezza in particolare nel mezzogiorno d'italia ma non solo diciamo che tutte le campagne italiane vivevano ancora una fase di estrema arretratezza economica sociale e e culturale giolitti ha chiaro che la soluzione a questo a questo problema a questa dicotomia che si sviluppa nel nel paese può essere dal suo punto di vista un'avventura coloniale c'è da tempo un conflitto in corso con l'impero turco che controlla ancora sempre meno ma formalmente controlla ancora il nord del dell'africa e decide appunto di proseguire in un tentativo coloniale che aveva avuto già un precedente alcuni alcuni decenni decenni fa di avere giolitti di fronte un'opposizione che è quella del partito socialista che in qualche modo sta cambiando rispetto al agli origini della il partito socialista è un partito oramai composito socialmente c'è di tutto ci sono ovviamente moltissimi lavoratori ci sono al suo interno però anche i settori di piccola borghesia radicalizzata settori dal sentimento semplicemente democratico che avranno appunto una grande importanza in questi in questi anni e per quanto riguarda alcuni ambiti di lavoro di questo di questo partito c'è una una borghesia intellettuale che tira le fila della dell'organizzazione perché appunto il partito socialista è un partito eterogeneo e complesso che ha degli organismi al suo interno che godono di una certa autonomia sono organismi però rilevanti il gruppo parlamentare socialista che in qualche modo vive di vita propria rispetto al al partito il sindacato che è gemonizzato dalle componenti più moderate che hanno appunto come obiettivo un miglioramento minimo delle delle condizioni di lavoro e appunto queste queste componenti in qualche modo operano una specie di arcipelago complesso insieme alla direzione nazionale agli altri organismi in qualche modo l'ideologia del partito socialista italiano il programma del partito socialista italiano si è evoluto come quello delle altre socialdemocrazie in Europa la crescita della classe lavoratrice ha portato una crescita dei consensi molto spesso dei consensi elettorali a livello amministrativo e a livello centrale c'è una crescente quindi attenzione alle dinamiche parlamentari e sempre di più la battaglia non è per la trasformazione della società come era nel programma iniziale del del partito ma per un miglioramento delle condizioni in particolare per la conquista di diritti democratici giolitti questo lo sa sa che appunto il partito socialista non è più il partito radicale in qualche modo dalle ambizioni per quanto confuse rivoluzionari delle delle origini e cerca in qualche modo di trovare un sistema per cardinare un eventuale opposizione alla sua campagna lui appunto sa talmente bene diciamo il programma come si è costruito il partito negli ultimi negli ultimi anni da fare una dichiarazione che poi verrà successivamente ripresa marx è stato messo in soffitta cioè l'idea appunto di una trasformazione della della società ormai è accantonata da questo partito che sia in qualche modo adattato alla realtà del parlamento della politica italiana le idee diciamo che vengono discusse in quel partito sono sempre più riformiste moderate e sempre più anche per certi aspetti in particolare giolitti sa che c'è un settore del partito socialista che può essere allettato dalle sue dalle sue sirene c'è una destra del partito che già discute addirittura si è recato biscolato il capo di quest'area riformista dal dal re che era appunto il nemico giurato dei socialisti della della prima ora e sa che appunto giolitti sa di avere un'arma con cui in qualche modo allettare questa questa destra ed è il sottaggio universale fino a quel momento in Italia il sottaggio era estremamente limitato veramente il sottaggio universale si intende il sottaggio universale ma promette questa riforma che per un settore appunto della del partito viene definito necessità primordiale la legge del sottaggio viene promessa questa questa legge in cambio di una non belligeranza nei fatti rispetto alla campagna in via e questo apre un dibattito appunto del partito socialista che arriva appunto a scontarsi al suo interno e nel settore diciamo della destra del partito si aprono due diverse posizioni una fedele a quelli che sono ancora formalmente dettami dell'internazionale socialista che sono contrari alle campagne coloniali dei paesi occidentali a questa eh idea si fa per esempio curati che è il dirigente più famoso a livello nazionale dirigente della diciamo direttore della critica sociale dirigente mianese importante eh che si oppone appunto a questa questa campagna è un'idea che in Italia la scissione la divisione tra riformisti e rivoluzionari invece decidono di sostenere il governo giuridico e viene esclusa la destra abissolatiana viene viene esclusa perché è rilevante questo questo episodio per per diversi motivi ehm perché successivamente ti da l'idea che in Italia la scissione la divisione tra riformisti e rivoluzionari sia avvenuto in anticipo rispetto a quello che è avvenuto in altri eh in altri paesi ehm che appunto vivono questa questa esperienza durante la guerra la grande guerra la prima guerra mondiale ehm Lenin ancora in stato di rivoluzione quindi alcuni anni dopo metterà bistolati insieme a Scheidemann il leader della SPD eh a Van der Velde il dirigente eh hollandese e quindi questo fa sembrare eh che il partito italiano abbia anticipato un processo e in realtà questo processo non è ancora terminato in Italia perché appunto rimane eh attiva nel partito e conta per quanto sia ridimensionata una destra riformista particolarmente a due rire e soprattutto sa quello che eh che vuole ehm questo avvenimento è importante perché se impone una maggiore organizzazione da parte della sinistra del partito socialista non favorisce lo sviluppo di una teoria eh più avanzata non avvicina diciamo alla eh neanche lontanamente il dibattito della sinistra italiana quello che avveniva per esempio in in Russia un dibattito di chiarificazione teorica sulle questioni fondamentali eh è un dibattito spesso quell'italiano eh personalizzato dove a volte diciamo l'ironia vince sulla puntualità della della riflessione un altro un altro motivo per cui questo episodio della scissione dei disolatiani è rilevante è perché è il primo banco di prova per alcuni dirigenti che svolgeranno un ruolo molto importante nella nascita del partito comunista ehm Terrati eh inizia diciamo a farsi notare nel dibattito per l'estruzione degli stradiformisti e lo stesso Bordica un giovane eh dirigente diciamo napoletano del partito socialista al congresso che sancirà l'espulsione dei dei bisolatiani eh otterrà qualche minuto di di gloria urlando dalla platea che bisognava espellere anche Podrecca che era un altro eh esponente del della destra eh bisolatiana lo dice appunto quando chiede l'espulsione di Podrecca Bordica sta parlando con con Mussolini che in quel momento diventa la di riferimento di questa conclusissima sinistra in cui eh volontarismo sentimenti eh ribellistici generici si uniscono a una lettura del tutto immatura di Marx eh che appunto eh conferma la natura eterogenea della sinistra del partito del partito socialista. Eh un passaggio eh fondamentale è però quello che avviene qualche anno dopo cioè quando scoppia la la grande guerra o meglio nei mesi che precedono l'entrata eh dell'Italia nel nel conflitto. Ecco parlavo appunto di confusione ideologica all'interno del del partito socialista eh anche allo scoppio della guerra questa confusione affiora in maniera eh evidente tanto da coinvolgere e da far commettere in qualche modo uno uno scivolone alla figura che in qualche modo verrà identificata a lungo come il principale dirigente del comunismo italiano cioè Antonio Gramsci che eh giovanissimo negli anni della guerra di Liglia eh è già un po' più grande e partecipa in qualche modo al dibattito che si apre in Italia e in uno specifico nel partito socialista quando appunto dopo l'uscita a Sassinio di eh Francesco Ferdinando inizia eh in qualche modo a svilupparsi quel processo che poi in maniera più o meno inevitabile eh visto la la diciamo l'appeggiamento della socialdemocratia europea porterà allo scoppio appunto della della guerra. In questa occasione il partito socialista si distinse dagli altri dagli altri e questo appunto era anche il prodotto della vicenda che eh vi spiegavo prima eh l'ascissione della Bissola Tiana è in qualche modo anticipato un dibattito sulla sulla guerra. Quando l'Italia si ritrova appunto ad entrare nel nel conflitto il partito socialista differente delle altre socialdemocratie europee non vota i fegni di eh di guerra e questo eh darà l'illusione di un partito socialista più radicale rispetto ai partiti del resto d'Europa che invece sostengono le loro borgesie nazionali nel massacro ehm imperialista. Ehm il partito socialista però non è un partito che convintamente eh si batte contro 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 la guerra che è stata di un partito socialista. Eh al suo interno in realtà emergono diverse eh posizioni ehm tutte piuttosto diciamo moderate nell'opposizione all'alto. Eh Mussolini che era appunto il direttore dell'Avantida era la voce più ascoltata in questo momento della sinistra del partito passò nel giro di pochissimi anni mesi dal neocalismo all'interventismo quando eh fu chiaro che l'Italia sarebbe intervenuta al fianco dell'intesa e quindi eh in qualche modo diventava quella partecipazione, la partecipazione al conflitto nella retorica in quei in quei giorni eh il sostegno alle devocazie occidentali contro la piramide degli imperi eh degli imperi centrali. Ecco appunto Mussolini conte questo percorso che lo porta inevitabilmente all'espulsione da un partito che si dichiarava formalmente eh neutralista e ehm l'altra posizione è invece quella di Durati che ehm appunto dichiara formalmente di seguire la linea dell'internazionale socialista prima del del contesto eh mondiale ma nei fatti garantisce una sostanziale desistenza al governo e al Parlamento Durati ovviamente eh è eh parlamentare è il leader del gruppo eh parlamentare socialista che eh non opporrà nessuna particolare resistenza all'avventura militare e al massacro dei fatti di milioni di ehm di persone e addirittura in un secondo momento garantirà il sostegno della difesa della patria quando dopo caporetto l'Italia viene in qualche modo invasa dalle truppe dalle società addirittura un suo discorso parlamentare di appunto difesa nel suolo Patio verrà distribuito ai toldati eh nelle nelle puncie. La terza posizione che emerge all'interno del dibattito è quella ufficiale del del partito ed è sostenuta dalla frazione eh intransigente del del partito da alcuni elementi del centro in particolare da Lazzari che è il segretario anche se il segretario Il Partito Socialista non aveva un ruolo politico determinante ed era appunto una posizione di pacifismo passivo, astratto, per certi aspetti anche utopistico, dato il contesto in cui si operava. Era una posizione che veniva sintetizzata nello slogan né aderire né sabotare, che ovviamente quando la guerra invece coinvolge anche l'Italia diventa decisamente un non sabotare. Quindi una posizione che non costruisce un'alternativa al conflitto, che non mette i bastoni tra le ruote di un processo storico che invece comportava il massaggio. Dicevo che appunto Gramsci in questo dibattito esordisce in qualche modo, esordisce purtroppo per lui male, perché riferendosi a Bustolini come leader della sinistra del partito, aderisce in un articolo all'idea del neutralismo attivo che poi anticipava in qualche modo l'interventismo di Muscolini. In questo momento non era chiaro dove Muscolini volesse andare a parare, quindi in qualche modo Gramsci non è responsabile di questa scelta. E tuttavia si costruirà un mito che sarà poi duraturo nel dibattito all'interno del partito ufficialista di un Gramsci interventista nel primo conflitto. Ancora al Livorno, nel congresso fondativo del partito comunista, Gramsci svolgerà un ruolo secondario, non interverrà. E secondo la sua scelta di restare nell'ombra era dovuta proprio al rischio che comportava un suo intervento in quel contesto di poter in qualche modo essere accusato, di essere stato interventista in passato e in questo modo compromettere la battaglia politica che si stava conducendo. Al di là dell'errore di Gramsci è rilevante osservare come appunto non ci fosse nessuna organizzazione all'interno del partito che avesse maturato una riflessione approfondita sul conflitto, un corso sulle cause che l'avevano prodotto. In sostanza nel Partito Socialista non c'era nulla di simile al gruppo dei bolciviti in Russia, che invece da tempo si erano confrontati, avevano discursi, avevano analizzato i processi storici che stavano avvenendo nel mondo e che avrebbero portato appunto a quel conflitto. Non c'era nessuno che fosse arrivato a teorizzare qualcosa come l'imperialismo di Lenny. E questo lasciava i militanti, anche quelli che poi erano i militanti più onesti, quelli che realmente volevano il socialismo, li lasciava senza una guida teorica per l'azione. Gli anni della guerra sono appunto gli anni decisivi per la formazione dei principali dirigenti che daranno vita al Partito Comunista d'Italia. Si iniziano in questi anni a distinguere le linee di Serrati e di Bordiglia, che saranno due dei protagonisti di queste, di questo discendio. Serrati si inizia a caratterizzare per la sua intransigenza verbale, per la sua capacità in qualche modo di collegarsi al sentimento di lavorazione. E' lui che assume a un certo punto la guida dell'Avanti nel giornale ufficiale del Partito Socialista che avvia una campagna contro la guerra, caratterizzata appunto da toni molto aspri e da appunto rivendicazioni massime, da ciò appunto di massimalismo poi per l'area che vivierà nel Partito Socialista e quindi appunto per la rivendicazione costante della necessità della rivenzione. E tuttavia in questi anni si sviluppa anche quel suo legame molto forte con l'organizzazione, con il Partito Socialista e quindi quella idea, quell'incapacità di uscire dal terimetro del partito. Da un lato appunto, disposta a sinistra, guarda con l'interesse ai processi internazionali. Serrati sostiene prima che ci sia un percorso avviato la necessità di fondare una terza internazionale, di superare una seconda internazionale. E' tra i primissimi a guardare con entusiasmo a quello che avviene in Russia non solo a febbraio come anche i riformisti, ma a ottobre serrati, o che da in qualche modo le pagine dell'Avanti, per ospitare interventi dei bocceviti e a più riprese dirà che bisogna fare come in Russia. In realtà di quello che stava avvenendo in Russia si sapeva ancora molto poco, erano pochi i report, le informazioni che arrivavano da quel paese, c'era una sensuale di guerra ovviamente molto dura, ma l'idea della presa del potere da parte di un partito rivoluzionario allettava Serrati, almeno intellettualmente. Altro era comprendere il leninismo, quindi l'organizzazione di una formazione in grado di portare avanti questi obiettivi. Ecco, questo Serrati non riusciva ancora a vederlo. Fu in qualche modo ambasciatore del leninismo in Italia, ma non aveva mai una comprensione di cosa era realmente il leninismo in Russia. Bordiga inizia appunto a distinguersi dalle altre posizioni all'interno del partito socialista, proprio a partire dalla sua posizione sulla guerra, perché rispetto alle tre posizioni che in qualche modo prima ho provato a centralizzare, Bordiga si collocava più a sinistra. Bordiga aveva chiaro che non bisognava aderire in qualche modo a una concezione pacifista, quindi passiva rispetto alla guerra, ma bisognava operare per il sabotaggio del conflitto, essere granelli di sapia negli ingranaggi del sistema. Perché? Perché la guerra non era altro che l'espressione della mostosità di un sistema che appunto comportava la morte delle 15 milioni di persone. Non arrivò chiaramente a definire la necessità di un fattismo, come appunto aveva fatto Lenin negli anni precedenti, e la necessità di passare dalla guerra all'esterno, alla guerra interna contro la Bordesia. Ma sicuramente tra i dirigenti italiani era quello che per prima arrivò a una posizione rivoluzionaria e fu molto aiutato in questo anche dal suo percorso individuale. Bordesia è il primo a intuire la necessità di dover andare oltre il Partito Socialista, come organizzazione c'è, che il Partito Socialista non era un'organizzazione in grado di fare la rivoluzione. E questo perché lui, sin da giovane, aveva avuto un rapporto conflittuale con un partito di cui vedeva i limiti riformisti. Lui era sempre stato molto ostile al riformismo, che veniva incarnato in una direzione locale. lui era napoletano, di Napoli, che era totalmente schiacciata sulla dinamica elettorale. Nei fatti il partito era un comitato per eleggere alcuni bordesi alle amministrazioni locali e al Parlamento. Questo suo non amore a differenza di Serrati lo portava ad avere un atteggiamento più critico e a intuire per primo la necessità di dover superare questa organizzazione già negli anni della guerra e appunto andare in un'altra direzione, qualcosa di più simile a quello che erano stati i procediti in Russia. Infatti l'esperienza russa, che appunto conosceva, per come la si poteva conoscere in quegli anni, ebbe un effetto importante su Bordica, che iniziò in qualche modo anche ad esporsi di più, a cercare di costruire qualcosa. Prima con degli interventi fu lui a firmare l'ordine del giorno, che chiedeva di superare il pacifismo e arrivare al sabotaggio aperto del conflitto. Una mozione appunto l'ordine del giorno presentata in un congresso del partito che ottenne un significativo contempo, non fu maggioritario, ma in qualche modo ebbe la funzione positiva di sottolineare le capacità di questo dirigente, di farlo diventare un dirigente realmente nazionale. Già aveva avuto esperienze precedenti, ma questo è sicuramente l'ultimo momento in cui Bordica in qualche modo riesce a costruire attorno a sé un contempo che poi sarà fondamentale per costruire l'opposizione del partito socialista. Ecco, la sua volontà di organizzare una frazione all'interno del partito comunista in qualche modo viene limitata dal fatto che una formazione più grande va effettivamente per questi due. Una frazione appunto alla sinistra del partito, la frazione rivoluzionaria intransigente che nasce negli anni della guerra e che assorbe tutte le energie e le forze di chi in qualche modo appunto voleva arrivare alla rivoluzione, anche se in modo differente, ancora con grande confusione. A Firenze si tiene una riunione di questa frazione che è un momento significativo nella storia della formazione del partito comunista è con questa riunione che inizia la monumentale storia di istriano del partito comunista di Italia. Una riunione che si viene appunto nella città toscana e che vede per la prima volta nella stessa sala i due protagonisti di questa ricerca. Bordiga che sta cercando appunto di costruire l'azione a livello nazionale un giovane Gramsci come esponente dei socialisti di Torino e Serrati che invece è un dirigente ormai riconosciuto nella sinistra ed è in qualche modo l'eminenza grigia di questa frazione il personaggio più famoso e anche più riconosciuto a livello nazionale ed è colui che in qualche modo incarna di più la volontà da parte dei lavoratori italiani di organizzarsi di iniziare a costruire qualcosa di alternativo alla vecchia direzione di fornita dell'interno del partito socialista italiano. Perché appunto il partito socialista che negli anni che precedevano la guerra si era anche svuotato di militanti invece diventa il punto di riferimento per i lavoratori in quegli anni negli anni finali nel 17 e nel 18 e soprattutto diventa il punto di riferimento della classe lavoratrice italiana negli anni che seguono la fine della guerra nel 19 e nel 20. Tutte le organizzazioni del movimento operario e contadino in Italia conoscono una crescita esponenziale italiana. C'è appunto una corsa a organizzarsi perché il sistema ha dimostrato il suo fallimento perché in Europa si vede che c'è un'alternativa c'è l'alternativa dei soviets in Russia c'è stato appunto un governo simile in altri paesi in Ingheria e in Germania e anche in Italia ci sono delle conseguenze di quello che è successo negli anni precedenti. Ci sono lotte sempre più radicali in alcune città si inizia a porre il problema del potere di avere il potere nei luoghi di produzione e nella società inizia appunto un fermento generalizzato che in qualche modo coinvolge in prima istanza l'organizzazione tradizionale dei lavoratori. Questi avvenimenti in qualche modo accelerano la riflessione all'interno del partito socialista in particolare nella sua politica. Bordiga perfeziona in qualche modo la sua idea di organizzazione inizia a approfondire le sue idee su che cosa sia necessario fare in Italia e di cosa ci sia bisogno e quindi inizia a sviluppare la idea di un partito comunista che insisteva appunto al modello russo che sia solido ideologicamente che non accette dei compromessi con la borghesia e che ambisca appunto a fare la rivoluzione e tuttavia sviluppa un'idea un po' chiusa diciamo dell'organizzazione estremizza alcuni concetti non ha la possibilità di confrontarsi a livello internazionale con chi la rivoluzione l'ha fatta e arriva a sviluppare una concezione pushista diciamo di un piccolo gruppo che in qualche modo deve prendere il potere militarmente ma non capisce l'importanza di conquistare la sua battaglia politica gli ampi strati della della classe dall'altra parte si forma appunto un gruppo a Torino fondamentalmente attorno a una rivista che è nuovo che già esisteva ma in qualche modo viene rilanciato e cambia veste in questi anni un gruppo che paradossalmente ha limiti opposti rispetto a quelli che si possono individuare in l'unità è un'organizzazione è un gruppo che lavora nella città industriale più importante in Italia che in qualche modo respira l'aria che respira nelle officine nelle fabbriche dopo la prima guerra mondiale di sentimento di la voglia di cambiare rispetto al al passato e di resistere a un'offensiva padonale che si farà molto molto fettante ed è il gruppo che favorisce lo sviluppo di forme di autogoverno da parte dei lavoratori delle fabbriche i consigli di fabbrica che fanno appunto un aspetto petiliare del movimento operaio italiano quindi si forma in un contesto in qualche modo differente rispetto a quello in cui era abituato operare a Matteo Bordiga una napoli sicuramente ormai industriale ma che ancora non aveva quella esperienza e quella maturità che invece emerge a Milano a Torino nei centri che hanno la più lunga tradizione di lotte operaie che ha chiaro quanto sia necessario collegarsi ai lavoratori e in qualche modo fare quella che appunto poi Trump si chiamerà egemonia rispetto a questi settori e tuttavia rimane totalmente chiusa in un dibattito all'interno del partito socialista non vede la necessità del partito socialista in qualche modo ritiene sufficiente immergere il partito nella dinamica concreta della lotta di classe nelle officine di lavoro che si sta sviluppando il conflitto per rigenerare questo partito non vede invece i limiti programmatici organizzativi di questo partito il primo ad anticipare il processo di formazione di una nuova organizzazione è bordica perché appunto in questa dicotomia che si viene a creare in Italia è il primo a intudire la necessità di dare una nuova organizzazione ma diversa e lo fa però appunto con alcuni limiti che in qualche modo caratterizzano l'intera sua visione politica innanzitutto lui scende uno strumento di direzione per in qualche modo costruire questa organizzazione lui forma una frazione all'interno del partito socialista distinta dalla frazione quindi dopo alcuni detenamenti iniziali arriva a maturare l'idea di doversi in qualche modo distinguere e tuttavia individua come elemento di rimenti di rottura rispetto al massimalismo di Serrati l'elezionismo il parlamentarismo che effettivamente nel partito socialista era esasperato per molti aspetti e anche aspetti di generazione localistica con un'ossessione per le amministrazioni locali una centralità di questi organismi che in qualche modo sembravano più importanti rispetto invece all'innovazione della lotta di classe individua questo strumento per selezionare la sua area e tuttavia questo strumento oltre a essere sbagliato perché butta il bambino con l'acqua sporca cioè rinuncia alla possibilità di in qualche modo diffondere le proprie idee al corpo largo del proletariato italiano anche a fareste la battaglia elettorale è uno strumento che effetta una tensione troppo rigida perché tantissimi comunisti cioè che si iniziano già a vedere come fratelli dei nazionali russi non non ritengono questo elemento di dimente rispetto ai molti e quindi la frazione astensionista comunista astensionista di Bordiga rimane limitata nei nei numeri dall'altra parte appunto Terrati prosegue nella sua linea dichiara la necessità che il partito socialista aderisca alla terza internazionale e l'ordine nuovo appunto in qualche modo non si distingue ancora siamo appunto nel 18 nel 19 dal massimalismo almeno nel dibattito di partito poi chiaramente sta smaturando una sua posizione diversa rispetto alla centralità dei consigli di Fabia come strumento per noi ci troviamo appunto nel 19 quando in un congresso di Bologna in qualche modo vediamo sia i limiti di questi approcci di queste visioni politiche sia anche le possibilità che in qualche modo si iniziano a dominare è il congresso di Bologna un'occasione mancata per per molti aspetti e anche appunto una cassina intorno a sole dei limiti della direzione in Italia Bordiga arriva al congresso con la sua frazione comunista attenzionista che però raccoglie un numero di contenti molto molto limitato per quanto diffusi su tutto il terreno nazionale e però i numeri sono tali per cui non può procedere oltre deve fermare la sua battaglia all'interno del Partito Socialista e confluire nei fatti nella maggioranza di Terrati perché appunto in questo congresso Terrati conferma la sua maggioranza nel partito il Partito Socialista in qualche modo rivendica un legame con la luce sovietica ha un programma rivoluzionario almeno nelle parole ma non ha nessuna pratica concretamente rivoluzionaria non c'è un programma transitorio di rivendicazioni immediate che forse in qualche modo stimolare il conflitto nel nel paese che forse in qualche modo crescere l'egemonia del partito rispetto ai lavoratori del del paese non c'è nessuna organizzazione clandestina e militare per praticare concretamente la presa del potere sul modello dei bolscevichi e quindi rimane sostanzialmente un partito nel limbo un partito rivoluzionario a parole ma senza una pratica un'organizzazione un metodo realmente rivoluzionario e in questa occasione appunto Gramsci e l'ordine nuovo rimangono in qualche modo legati a questa maggioranza e diciamo i limiti di questa di questa battaglia che non si fa infatti nel progresso di Bologna sono evidenti nei medi successivi quando ci sono una serie di mobilizzazioni importantissime che hanno le di centro nelle fabbriche del nord Italia che coinvolgono i lavoratori industriali del sud i contadini di tutto il territorio con lo sciopero delle lancette prima a Torino e con l'occupazione delle fabbriche ad agosto e perché altri compagni potranno spiegare il contesto che si viene a creare e anche i limiti dell'intervento della partita specialista che abbandona gli operai di Torino nello sciopero delle lancette che li lascia isolati in questo scontro e che poi cederà la palla alla CGL al sindacato nell'occupazione delle fabbriche lasciando appunto i lavoratori nelle mani della direzione riformista del sindacato che ridurrà una lotta per il potere a una lotta per singole conquiste nei fatti la CGL condurrà il proletariato italiano a una sconfitta che sarà evocale ecco in questi mesi di fronte a questi comportamenti di fronte al tradimento dei riformisti all'incapacità dei massimalisti di andare oltre il perimetro del riformismo maturano le idee diciamo di Bordiga di Gramsci e dei socialisti torinisti di rompere definitivamente con il partito socialista e questo lo fanno anche sulla spinta di un processo internazionale che va in quella direzione al congresso al secondo congresso di internazionale comunista Lenin individua in un articolo di Gramsci pubblicato sull'ordine nuovo la linea che devono seguire i comunisti in Italia ma dà a Bordiga che in qualche modo era deluso da questa scelta dà però a Bordiga lo strumento per arrivare a separare i comunisti dai socialdemocratici del partito socialista lo strumento sono i 21 punti per l'adessione all'internazionale nei quali si fa esplicitamente il nome di Riturati ma necessità di estendere l'aria di Riturati dal partito socialista per poter in qualche modo liberarsi di questa e organizzare un partito realmente in questi anni a livello internazionale il Serrati è ancora di un certo prestigio dovuto appunto alla sua capacità e anche agli espliciti richiami che lui fa all'internazionale comunista e quindi l'internazionale comunista ritiene che si possa arrivare a una rottura di maggioranza cioè tenendo la maggioranza del partito all'interno dell'internazionale ed eliminando semplicemente la destra del partito in realtà la dinamica all'interno del paese è più complessa perché perché appunto Serrati in realtà come veniva Deppera fermissimo nel centennale non capace di un'azione risoluta di separazione dalla minoranza riformista di Riturati che pure aveva svolto il ruolo esplicitamente nel passo nei mesi delle lotte del XIX e del XX e questo appunto sarà influirà enormemente su quello che succede poi all'inordine dove si arriva appunto con gli schieramenti che dicevo all'inizio Turati che ovviamente continua nella sua linea di voler influenzare il partito socialista di voler in qualche modo fermare la rivoluzione lo dice esplicitamente in tantissimi contesti è critico è l'unica area critica apertamente della rivoluzione d'ottobre nel partito socialista ma rimane nel partito socialista perché sa che lì può influenzare le ampie masse che sotto le bandiere del partito si toglie un'area maggioritale che appunto è quella dei serratiani che rivendicano un'autonomia nazionale rispetto all'internazionale cioè dichiarano appunto di essere fedeli all'internazionale comunista che è dati che le camusca dà la sua adesione dalla adesione del partito socialista all'internazionale comunista chiede appunto di rispettare i 21 punti ma chiede di poterlo fare in una forma specifica perché in qualche modo l'Italia aveva già in parte compiuto la scissione eliminando gli isolati alcuni anni prima e i socialisti che c'erano i riformisti che erano ancora nelle file del partito erano innocui secondo il terreno che quindi appunto spinge in questa definizione alla sinistra la frazione guidata da Matteo Gordiga si evolve perché include l'ordine nuovo Gramsci dopo il cadimento dello sciopo delle lancette è risoluto a rompere con il partito socialista ha capito l'importanza diciamo di avere una nuova organizzazione c'è anche la possibilità e l'aspettativa che questa organizzazione in qualche modo tenga dentro la maggioranza nazionalista del partito e quindi si crea un compromesso un compromesso tra Bordiga che rinuncia all'astensionismo come aspetto centrale nel programma comunista e Gramsci che in qualche modo fa venire meno il ruolo dei consigli di fabbrica che aveva diviso dalla sinistra comunista perché Bordiga in qualche modo lo vedeva come secondario rispetto alla centralità del partito e con un rischio di incorporativismo legato anche a queste lente questo è il compromesso che si viene a creare quindi tra Bordiga e Gramsci e e una volta che si è stretta questa questa alleanza si procede ovviamente la speranza l'aspettativa di l'internazionale sicuramente anche di pezzi significativi di l'innovisti e in particolare di Gramsci e poi di provare in qualche modo a rompere tenendo dentro appunto i massimalisti e arrivando come poi chiedeva infatti la rivoluzione dell'internazionale comunista alla espulsione dei rivoluzionisti a Livoro non succede questo Bordiga in qualche modo manovra perché lui ritiene che tutti i massimalisti debbano essere considerati socialdemocratici quindi riformisti perduti alla causa rivoluzionaria Terrati non vuole rompere con con Turat nell'immediato e si arriva appunto a quella votazione finale che dicevo all'inizio nei fatti Terrati non espellendo Turati non rispetta i 21 punti la pressione dell'internazionale comunista Bordiga può stare dal foglio sul foglio e dichiarare che la maggioranza del partito socialista si è posta a foglio all'internazionale gli unici veri rappresentanti in Italia sono Renasce appunto il partito comunista che però è un partito fortemente legato a una sede di concezione di Bordiga che caratterizzano appunto tutti i primi anni di vita di questa realizzazione in cui penso si dice appunto Gramsci il fondatore del partito non è così anzi l'ordine nuovo ha un ruolo in qualche modo subalterno rispetto a Bordiga che è a seconda per molti aspetti e le concezioni bordigliani sono la base di un conflitto permanente il partito comunista d'Italia nasce dopo le lotte del 19 quindi una fase di ascesa della reazione e nasce peraltro con un conflitto costante sin dall'inizio in qualche modo l'internazione comunista aveva appoggiato la scissione del partito comunista ma non in quella forma avrebbe voluto appunto trovare di più mantenere dentro Terrati che rientrerà nel partito alcuni anni alcuni anni dopo l'internazione comunista prova continuamente a costruire un legame tra la ministra socialista e il partito comunista d'Italia ma non è questo il motivo fondamentale di cottura tra il confronto tra il partito comunista e l'internazionale i motivi di rimenti sono altri e riguardano l'impostazione del lavoro del partito comunista che è molto legata appunto a una serie di concezioni del politico fondatore di amore del politico in qualche modo il problema si pone quando il partito deve costruire una sua parte è un partito che nasce come una cospa di minoranza del partito socialista che vado appunto a concludere l'idea è che di Bordiga è di un partito monolitico ideologicamente formato lui parla di centralismo organico quindi un'unità diciamo del partito che si basa sulla adesione a principi costanti e un partito che però rifiuta qualsiasi piattaforma transitoria quindi appunto il programma è solo nei fatti del programma della littatura del solidariato il programma di programma c'è qui uno schiacciamento tra la tattica e il programma che isola il partito al corpo largo dei lavoratori proprio quando avanza l'ondata fascista e quindi quando avrete bisogno appunto di una forza maggiore per resistere a quella e c'è un'idea di Bordiga che ritiene appunto la socialdemocrazia totalmente collocata nel campo della borghesia la stampella della borghesia e questa idea fa sovrapporre nella sua analisi il fascismo e la socialdemocrazia lui quando diciamo il fascismo si sta strutturando come regime continua a sostenere e in ultima analisi si finirà con un governo che includerà i socialdemocratici perché la democrazia borghese è il miglior sistema per la borghesia di governo il fascismo è un aspetto episodico della storia italiana e ci sarete appunto quella conclusione e quindi il bersaglio polemico di Bordiga nei primi anni di vita del Partito Comunista è molto di più la socialdemocrazia il Partito Socialista d'Italia che non gli stessi fascisti l'internazionale comunista propone nel terzo del quarto congresso linee differenti di aviazione propone il conto unico cioè appunto la possibilità di un'alleanza statica con il con il Partito Socialista per conquistare quella maggioranza del proletariato che ancora si riconosce nel partito tradizionale della classe operaia italiana e la parola del governo operaio e contadino che appunto è auto rispetto alla vittatura del proletariato Bordiga non accetterà mai nell'uno nel fronte unico né la parola del governo operaio e contadino e questo darà battaglia nell'internazionale finché le vicende nazionali italiane e quelle internazionali si incroceranno in Italia appunto il fascismo diventa regime Bordiga verrà incarciato in realtà quasi tutti i dirigenti di peso del partito finiranno in galera e avviene questo mentre in Russia l'internazione comunista c'è il passaggio appunto dello stalinismo la procedurizzazione dei partiti quindi l'idea di omologare a un modello stalinista tutti i partiti internazionali è un'idea che in qualche modo coinvolgerà anche l'Italia questa questa idea appunto in qualche modo di porre sotto un controllo più stretto i partiti dell'internazionale avviene quando appunto Bordiga è in carcere e quando appunto Bordiga inizia anche un scontro ancora più aperto con l'internazionale sulla questione del del socialismo di questo paese che lui viene appunto intende la regenerazione di questa organizzazione in maniera burocratica tra il 24 e il 26 viene a formare un'area del partito comunista che sarà appunto egemonizzata a a Gramsci e a Cogliatti che in maniera anche spesso scorretta minano la credibilità della direzione bordigliana e operano per una sostituzione che avverrà fatalmente in qualche modo al congresso di Ione al congresso all'estero perché ormai era del tutto illegale il partito comunista in Italia e verrà appunto in qualche modo sancita il controllo del partito comunista d'Italia da parte del gruppo torinese di Gramsci in particolare che conosce bene le dinamiche internazionali sa il dibattito che c'è lo sconto che c'è da Toschi e Stalin in Russia ma preferisce concentrarsi sulla costituzione del partito d'Italia in quegli anni e quindi in qualche modo si occupa di diventare come diceva maggioranza in Italia anziché proseguire la battaglia di Bordiglia con l'ignoranza a livello internazionale appunto serrati fin dagli anni nel partito comunista ma con un ruolo nel posto secondario con il 26 con il congresso di Lione la maggioranza cambia di segno e cambia la natura stessa del partito che non è appunto più un partito legato a le concezioni di Bordiga ma è anche un partito che ne fatti opera ormai in un regime di assoluta trannestinità inizia un'altra storia del partito del partito comunista una storia che in qualche modo in questi giorni viene ripresa e che appunto si sta riscudendo come diceva prima Alessio molto della storia di questo partito tra commemorazioni avviure tra chi si limita in qualche modo a vedere solo gli aspetti positivi di questa di questa vicenda spesso a vedere solamente gli aspetti iconografici più più affascinanti e chi invece prova a relegare questa esperienza nella cantina della della storia ecco i dirigenti che dietro vita al partito comunista d'Italia e le migliaia di militanti che fu appunto un partito che vedeva nella sua fila davvero il fiore della classe operaria del nostro paese avevano sicuramente un obiettivo che loro epigoni non perseguivano che era l'ideale della trasformazione della realtà commisero degli errori da cui bisogna imparare ma che non bisogna in qualche modo avviurare quando farsi in una fila noi vogliamo rivendicare lo spirito di questi di questi rivoluzionari dei dirigenti e soprattutto di tantissimi militanti che videro la vita per la costruzione di una società alternativa per fare questo è fondamentale comprendere le idee di questi rivoluzionari analizzarle e prendere appunto il meglio perché ci servirà perché ci servirà per il futuro perché è una storia che inizia nel 21 in realtà che ha un momento decisivo di svolta nel 21 ma che non è ancora finito perché l'assustamento che vivevano i lavoratori delle fabbriche in quegli anni le sofferenze che hanno patito nelle princee della prima guerra mondiale proseguono anche se in alta forma in questo sistema e noi raccogliamo quella bandiera per portarla appunto alla vittoria che mancò a quei rivoluzionari che vogliamo sia niente Grazie mille a Vittorio per la sua ottima introduzione Allora il primo intervento dopo la relazione sarà di Alessio Vittori ad Alessio lasceremo 15 minuti perché possa spiegare anche il contributo scritto che ha preparato e che abbiamo pubblicato su marxismo.net che è i primi cinque anni del Partito Comunista d'Italia e l'internazionale comunista io chiederei a chi vuole intervenire di segnarsi in chat perché è vero che abbiamo fino alle 19.30 ma non è poi tanto perché sono sicuro che molti vorranno intervenire e quindi pregherei tutti di segnarsi in modo da poter prendere nota di chi vuole intervenire e valutare i tempi adesso lascio la parola ad Alessio Vittori si prepara Emanuele Nidi per l'intervento successivo Ecco Visto Ok Allora compagni come diceva Alessio io cercherò di fare un intervento rispetto al dibattito internazionale che c'è nel momento in cui nasce il partito comunista d'Italia perché è un dibattito a livello internazionale sicuramente molto articolato che ha diverse sfaccettature ed è molto importante capire i punti fondamentali di questo di questo dibattito sono passati nel 1921 quattro anni dalla rivoluzione d'ottobre che oltre al portato storico di questo evento fondamentale per la storia dell'umanità come diceva anche Vittorio nella relazione è anche l'opportunità l'occasione per una rottura profonda nelle file del movimento paraio con il riformismo con l'opportunismo e con il social chauvinismo che era appunto la malattia che era pervasa nel movimento operaio con il voto ai crediti di guerra durante la prima guerra mondiale e con i partiti socialdemocratici che si schieravano dalla parte delle proprie borghesie nazionali e la fondazione dell'internazionale comunista della terza internazionale è lo strumento per approfondire amplificare questa rottura con il riformismo e portare e portarlo fino a tutte le sue estreme conseguenze la terza internazionale nasce nel 1919 i primi due congressi sono impernati su da un lato la necessità di diffondere l'esperienza dei soviet attraverso i quali si era preso il potere in Russia di rafforzarne la struttura anche nei paesi in cui i soviet si presentavano ancora in maniera embrionale e sicuramente in Italia i consigli di fabbrica a cui faceva prima riferimento Vittorio erano la cosa che più poteva assomigliare appunto a questo e in generale appunto di generalizzare l'esperienza rivoluzionaria della classe operaia russa il secondo punto dei primi due congressi è quello di costruire e assicurare il carattere proletario e rivoluzionario del partito il dibattito dei primi due congressi si incentra soprattutto sulla questione dell'imminenza della presa del potere in Italia e in Germania quando nasce il partito comunista d'Italia però nel 1921 dal momento che come abbiamo visto prima in Italia l'occasione rivoluzionaria presentatasi con l'occupazione delle fabbriche era persa e la stessa cosa successe in Germania quando nasce il partito comunista d'Italia il dibattito che si sviluppa a livello internazionale è diverso cambia completamente di segno e ci si concentra su altre questioni e il punto principale che viene messo all'ordine del giorno del terzo e del quarto congresso dell'internazionale comunista è la questione di come un partito comunista un partito rivoluzionario dopo essersi costituito dopo aver rotto con il riformismo può passare alla conquista delle masse ovvero che non basta il fatto di aver costruito un partito che rispetti appunto le 21 condizioni dell'internazionale comunista ma bisogna porsi l'obiettivo di rivolgersi ai lavoratori che ancora non stanno nel partito comunista e cercare di conquistarli alle idee dei comunisti rispetto all'ascissione di Livorno le idee di Lenin e di Trotsky sono che sicuramente l'ascissione di Livorno va bene infatti nonostante il partito socialista italiano avesse aderito in realtà prima alla terza internazionale appena c'è l'ascissione di Livorno il partito comunista d'Italia viene riconosciuto come l'unica sezione ufficiale per l'Italia della terza internazionale e i socialisti vengono ammessi solo come invitati quindi sicuramente c'è un giudizio positivo rispetto all'ascissione di Livorno però contestualmente a questo si insiste che ora il punto fondamentale è quello di conquistare gli operai che ancora stanno nel partito socialista e la questione italiana è protagonista del dibattito del terzo e del quarto congresso dell'internazionale comunista perché se andiamo a vedere i materiali e i libri prodotti sui primi quattro congressi dell'internazionale comunista e appunto in particolare gli ultimi due il terzo e il quarto sono decine le lettere gli interventi particolarmente di Lenin e Trotsky sulla questione italiana e appunto sulla questione di rivolgersi ai centomila operai che erano ancora nel partito socialista e di sviluppare una tattica per avvicinarli e rispetto a quelle che sono le due figure fondamentali attorno alle quali si costruisce il partito comunista d'Italia appunto Bordiga e Gramsci c'è da dire che questo punto di rivolgersi alle masse che ancora non erano nel partito comunista d'Italia non viene intercettato correttamente né da Bordiga non lo sarà mai né in una prima fase da Gramsci che viene convinto della tattica del fronte unico appunto da rivolgere ai lavoratori socialisti soltanto alcuni anni più tardi in un fitto dibattito che intrattiene con Trotsky anche se poi in realtà non ci sarà veramente l'occasione da un punto di vista politico organizzativo per Gramsci di tradurre concretamente le cose che aveva imparato nel dibattito con Trotsky Bordiga pensa che con la rottura avvenuta con i riformisti il più è fatto e che non ci sia da mettere in campo altre azioni ed altre tattiche e che fondamentalmente sia sufficiente costruire un partito solido ideologicamente come spiegava anche Vittorio prima Gramsci in tutta una prima fase ha anche giustamente da alcuni punti di vista l'assillo dell'occasione che era stata persa con l'occupazione delle fabbriche per il tradimento del partito socialista italiano che aveva lasciato il proletariato senza una direzione in un momento decisivo in cui si poteva prendere il potere in Italia e Gramsci in tutta una prima fase è proiettato alla costruzione degli strumenti politici teorici e organizzativi che il partito appena costituito deve imbracciare per cogliere la prossima occasione rivoluzionaria e da questo punto di vista c'è da dire che tutto questo lavoro Gramsci in cui Gramsci appunto mette in campo l'idea di un quotidiano di una rivista teorica che approfondisca tutti i temi attorno ai quali il partito si deve costruire tutto questo lavoro Gramsci lo fa in antitesi alle tesi allora maggioritarie di Bordiga particolarmente le tesi del secondo congresso del partito comunista d'Italia che sono per base in generale appunto da una chiusura verso il partito socialista e da un settarismo che viene fortemente criticato dall'internazionale comunista e Gramsci da questo punto di vista si convince abbastanza presto che il partito vada per prepararsi ai prossimi avvenimenti vada organizzato su un'altra linea il terzo congresso dell'internazionale comunista è quello che si svolge cinque mesi dopo la scessione di Livorno viene definito da Trotsky la più alta scuola di strategia rivoluzionaria internazionale e sicuramente per noi rivoluzionari è uno degli avvenimenti più importanti anche per il movimento paraio in generale in quanto alla produzione teorica che viene messa in campo durante questo congresso e sono decine le risoluzioni e le tesi che è interessante andarsi a leggere anche oggi e in questo congresso nel terzo vengono sicuramente discusse le questioni tattiche più importanti per il movimento operaio e per un'organizzazione rivoluzionaria nel discorso sulla questione italiana Lenin è particolarmente duro con Lazzari il segretario del partito socialista italiano e con Serrati il dirigente fondamentale dell'area massimalista definita così perché parla di obiettivi rivoluzionari senza però organizzare concretamente la via per raggiungere questa rivoluzione per prendere il potere c'è da dire che Lenin era un profondo conoscitore del dibattito all'interno del partito socialista italiano Lenin prima diciamo che del comportamento del partito socialista italiano durante l'occupazione delle fabbriche considerava l'area massimalista di Serrati allora appunto maggioritaria nel partito socialista l'area che poteva essere più vicina ai bolshevichi e alla terza internazionale appena costituita per cui diciamo era molto addentro al dibattito nel partito socialista e come prima considerava appunto i massimalisti come l'area che poteva essere più vicina adesso dopo l'ascissione di Livorno che si sono rifiutati di espellere i riformisti di Turati che nel 21 subito dopo l'ascissione avevano e quando si apre il terzo congresso avevano appena fatto un congresso i riformisti di Turati per ribadire appunto con forza le loro idee riformiste un congresso che aveva particolarmente colpito Lenin adesso che i massimalisti appunto si erano rifiutati di rompere con l'opportunismo di Turati e con i riformisti la reazione di Lenin nei confronti di Lazzari di Serrati e della maggioranza del Partito Socialista è feroce e rivolgendosi in prima persona appunto a Lazzari e Serrati Lenin dice voi avevate 100.000 operai 98.000 quasi 100.000 operai che sono con voi però avete preferito rimanere con 14.000 riformisti piuttosto che andare con quasi 60.000 comunisti e a questo congresso come dicevo prima i socialisti ci sono e ci sono come invitati ed è questo un punto da cui parte l'analisi di Trotsky per sottolineare che i 100.000 operai che in questo momento stanno ancora con il Partito Socialista italiano e che non hanno aderito all'accessione di Livorno comunque guardano alla terza internazionale i lavoratori che stanno ancora tra i socialisti spingono i propri dirigenti ad andare a Mosca ai lavori del terzo congresso della terza internazionale e questo è un indice del fatto che appunto i 100.000 operai che stanno nel Partito Socialista guardano insomma hanno la terza internazionale i bolcevichi hanno una grande autorità anche nei confronti degli operai socialisti e questo diciamo deve essere un punto considerato dai dirigenti del Partito Comunista d'Italia per capire che anche quelli che sono rimasti nel Partito Socialista possono essere conquistati alle idee rivoluzionarie Trotsky insiste sulla questione della tattica del fronte unico spiegando particolarmente a Bordiga che il fronte unico implica ovviamente entro certi limiti e su alcuni obiettivi specifici la disponibilità da parte del Partito Rivoluzionario a condizionare la propria azione politica con quella delle organizzazioni riformiste un punto su cui Bordiga era assolutamente intransigente e non voleva sentire parlare di questa cosa e a chi contestava Trotsky il fatto a chi domandava Trotsky diciamo cerchiamo un accordo con il partito da cui ci siamo appena appena scissi e rispondendo a questa domanda Trotsky spiegava che finché c'è una disponibilità da parte dei lavoratori socialisti a condurre delle lotte specifiche insieme agli operai comunisti questa disponibilità va accolta perché serve anche per costringere i dirigenti riformisti a farsi strumento di queste lotte ed è attraverso questo che i lavoratori i lavoratori socialisti potranno vedere nella pratica la differenza appunto che ci può essere tra una direzione rivoluzionaria delle lotte e una direzione invece riformista imparare questo imparare appunto la superiorità delle idee comuniste e la superiorità delle idee rivoluzionarie rispetto a quelle riformiste non soltanto dalla teoria e dagli interventi che possono fare i dirigenti politici ma imparare questo dalla pratica nelle lotte e a Bordiga che parla di fronte unico solo dal basso Trotsky spiega che se questo fosse possibile se fosse possibile unire semplicemente le masse e gli iscritti a due partiti diversi non tenendo conto dei propri dirigenti questo sarebbe troppo semplice troppo bello ma che era solo una una illusione il fatto che appunto si potesse unire le basi dei due partiti non tenendo conto dei dirigenti riformisti che invece andavano sfidati andavano sfidati a dire dei no di fronte alla classe operaia ad un programma rivoluzionario della classe operaia vado a chiudere solo su un altro punto che è quello che viene sollevato durante il terzo e quarto congresso anche questo è rivolto particolarmente alla delegazione italiana che è quello dell'offensiva rivoluzionaria Lenin e Trotsky criticano l'idea che i comunisti possano concentrarsi sulla questione dell'offensiva rivoluzionaria senza un'adeguata preparazione e c'è sicuramente nella delegazione italiana al terzo congresso dell'internazionale comunista l'idea di prendersi una vendetta rispetto al tradimento dei socialisti avvenuto durante l'occupazione delle fabbriche però anche su questo viene si insiste sul fatto che prima di passare a un'offensiva rivoluzionaria i comunisti devono conquistare le larghe masse dei lavoratori e che c'era stato un errore da parte del partito socialista italiano che aveva fatto appello alla rivoluzione ma non si era preparato per la rivoluzione e su questo chiudo e c'è un punto che viene particolarmente spiegato che i bolshevichi erano arrivati alla presa del potere proprio perché c'era stato un lungo lavoro di preparazione prima di arrivare al potere e che di conquista dei soviet e che era questo lavoro di preparazione che i comunisti italiani si dovevano preparare penso che queste lezioni cioè di come un partito comunista deve porsi l'obiettivo di conquistare le masse operaie che ancora non si dicono comunisti possa essere una lezione che era valida allora e che è valida anche per noi per gli eventi che ci aspettano ringrazio Alessio e chiedo scusa se a un certo punto vi chiedo di chiudere ma è importante rispettare i tempi per permettere a chi si segna di intervenire ora c'è Emanuele Nidi che ha dieci minuti e che è il tempo che cercheremo di garantire e poi ci sarà Andrea Davol prego Emanuele sì grazie io vorrei proporre una riflessione di carattere generale sulla figura di Antonio Gramsci Gramsci è stato ricordato ampiamente nelle celebrazioni nelle riflessioni di questi giorni ovviamente per quanto lo sappiamo è già stato detto abbia giocato un ruolo in qualche modo minore rispetto ad Amadeo Bordig nella fondazione del partito comunista ma senza dubbio il pensiero Gramsciano rappresentato per molti versi il picco massimo toccato dal marxismo italiano nella fase successiva alla prima guerra mondiale e alla rivoluzione d'ottobre Gramsci ha vissuto da protagonista uno dei vertici della lotta di classe nell'Europa del dopoguerra il biennial rosso è stato in grado di offrire un'analisi lucida del fascismo in un momento in cui gli altri dirigenti del partito brancolavano nel buio ha provato a calare le parole d'ordine e il programma rivoluzionario della terza internazionale in un contesto difficilissimo quello dell'Italia fascista le sue analisi del capitalismo italiano e della questione meridionale meritano certamente ancora oggi lo studio di qualunque militante Gramsci ha anche commesso degli errori degli errori importanti non avrebbe senso nascondercelo il più grave probabilmente consiste nel non aver colto la natura del conflitto politico in atto negli anni venti in Unione Sovietica e non è cosa da poco la degenerazione del regime nato dalla rivoluzione russa ha avuto effetti devastanti per il movimento comunista a livello globale molto al di là dei confini dell'Urs un'organizzazione come la terza internazionale quella descritta da Alessio nel suo ultimo intervento che nei primi congressi coniugava l'internazionalismo più intransigente alla più ampia democrazia interna fu trasformata nel giro di pochi anni in un docile strumento in mano alla burocrazia stalinista per poi essere smantellata definitivamente nel 1943 il soffocamento della democrazia operaia in Unione Sovietica seguì la mortificazione di qualunque forma di democrazia interna nei partiti comunisti di tutto il mondo e alla fine degli anni venti la stalinizzazione dell'internazionale aveva già prodotto dei disastri eppure chi si rivolgesse agli scritti gransciani per cercare un'analisi di questo processo rimarrebbe deluso anzi nei momenti in cui abbia occasione di pronunciarsi apertamente gransci si schierò dalla parte della direzione stalinista del partito comunista dell'Unione Sovietica contro Trotsky e contro l'opposizione di sinistra da questo punto di vista vedere in gransci un protagonista della lotta allo stalinismo in Italia come ha fatto in passato la parte internazionale per esempio rappresenterebbe una forzatura evidente c'è un episodio ormai molto noto che ha in qualche modo sostenuto questa lettura scorretta nell'ottobre del 26 Gramsci scrisse a nome dell'ufficio politico del PCD una lettera indirizzata al contatto centrale del partito sovietico in un momento impegnato in una lotta senza chiusione di colpi contro l'opposizione Gramsci esprimeva perplessità rispetto alla sprezza dello scontro in atto e chiedeva che il confronto con l'opposizione fosse mantenuto nell'ambito della battaglia politica tra idee e programmi differenti come sappiamo la realtà sarebbe stata molto diversa e nel giro di 15 anni tutti i principali oppositori di Stalin furono impugionati o assassinati Gramsci aveva inviato questa lettera a Togliatti che ne criticò il contenuto e ne impedì di fatto la diffusione del contatto centrale russo da cui uno scontro durissimo in seguito ricordato spesso come esemplare delle differenti sostanziali tra questi due dirigenti ed effettivamente un episodio che ci dice qualcosa dell'onestà intellettuale di Gramsci eppure in quella famosa lettera non vi sono critiche alle posizioni politiche difese dalla maggioranza dalla maggioranza staliniana al contrario pur criticandone il metodo Gramsci si schierò esplicitamente dalla parte di Stalin per quanto infastidito dalla risposta di Togliatti arrivò al punto di proporre una riformulazione della lettera per mettere in maggiore evidenza le critiche all'opposizione un ulteriore momento di attrito questa volta più serio si verificerò qualche anno dopo quando Gramsci ormai in carcere venne a conoscenza della teoria del social fascismo promossa dall'internazionale e se ne dissociò apertamente la teoria del social fascismo promossa dall'internazionale in quegli anni si basava sull'idea che fascisti e socialdemocratici rappresentassero ormai due facce della stessa medaglia che non fosse possibile alcun tipo di alleanza tra il partito comunista e gli altri partiti operai in qualche modo viene ripreso un po' quelle idee estremiste di Bordiga che già Vittorio spiegava ma su basi molto diverse il social fascismo va inquadrato in un generale orientamento avventurista abbracciato dall'internazionale rappresenta un buon esempio di quanto questa riuscisse in quegli anni a passare da un estremo all'altro dal collaborazionismo di classe più spudorato al settarismo più cieco per l'Italia veniva previsto un'imminente crollo del fascismo e l'apertura di una prospettiva rivoluzionaria che il movimento comunista doveva abbracciare e cogliere a costo di enormi rischi pratici la realtà infatti come sappiamo fu molto diversa ma questa linea venne imposta a livello globale contribuendo enormemente ad indebolire il movimento operaio nella lotta antifascista la teoria del fascismo aveva avuto un ruolo importante nel disarmare politicamente il partito comunista tedesco per esempio di fronte all'avanzata del nazismo i comunisti italiani che purtroppo avevano potuto osservare molto da vicino il fascismo avrebbero potuto e dovuto intervenire nel dibattito internazionale per correggere questa posizione suicida al contrario la direzione del partito l'accolse in toto l'opinione di Gramsci sulla questione era ampiamente nota riteneva la teoria del suo fascismo letteralmente un cazzotto nell'occhio e non ne faceva mistero c'è chi ha sostenuto addirittura che se non fosse stato in prigione in quel momento il partito sulla base di questo dissenso l'avrebbe potuto espellere certamente anche in quell'occasione Gramsci mostrò un'indipendenza di pensiero e una coerenza rarissime nel PDC nel PCD scusate di quegli anni ma in fondo si trattava di una critica ad una precisa svolta tattica e non alla più generale impalcatura teorica e organizzativa che la sosteneva la critica all'estremismo della cosiddetta svolta era fondamentale ma errori altrettanti importanti erano stati commessi e sarebbero stati commessi in futuro in nome di una politica di segno opposto votata all'opportunismo e alla collaborazione con i partiti borghese ecco su questo punto Gramsci non ha avuto molto da dire ancora una volta non possiamo dedurre da una singola presa di posizione per quanto indubbiamente giusta un'analisi organica della degenerazione politica della terza internazionale non vale la pena interrogarsi sul perché di questo punto cieco e non è facile orientarsi tra le tante e in certi casi contraddittorie cose di posizione di Gramsci conosciamo dai quaderni del carcere i suoi giudizi su Trotsky tanto duri verrebbe da dire quanto approssimativi pieni di palesi inesattezze fra intendimenti ed è proprio questa superficialità che dà da pensare di più dal momento che in passato Gramsci aveva dimostrato di conoscere bene il pensiero del rivoluzionario russo con cui si era fra l'altro confrontato in prima persona l'impressione è che la paura di dividere il partito italiano già provato dello scontro interno con Bordiga lo avesse alla fine spinto a sottovalutare l'impatto delle vicende sovietiche sul movimento comunista nel suo complesso eppure Gramsci mi avvia le conclusioni non potrà mai essere liquidato come uno stalinista la sua concezione della rivoluzione italiana è impensabile senza il protagonismo attivo delle classi subalterne la democrazia consigliare l'indipendenza politica del movimento operaio per questo motivo Gramsci è irriducibile all'ortodossia staliniana e alla pratica del partito comunista italiano di Togliatti che pure farà di lui un santino celebrandone la figura e allo stesso tempo svilendone e deformandone il pensiero non a caso proprio da quadri politici entrati in stretto contatto con Gramsci in acquia il nucleo del primo gruppo trascista italiano la nuova opposizione italiana in nome di Pietro Tresso Alfonso Leonetti Paolo Ravazzoli non sono citati di frequente nelle celebrazioni per il centonario oppure si tratta di esponenti della prima ora del partito comunista d'Italia quando vengono espulsi questi membri del partito facevano parte dell'ufficio politico non hanno tempo di entrare nella vicenda di questi militanti dico solo che Tresso che sarebbe rimasto per tutta la vita un militante trascista diventando anche un dirigente della corte internazionale dovuto fuggire dalla polizia fascista in Francia l'era poi catturato dai nazisti torturato arrestato riesce a fuggire soltanto per essere assassinato da un gruppo di sicari stalinisti ecco anche la vicenda di questi militanti che hanno condotto una battaglia estremamente minoritaria per difendere le idee pure del marxismo rivoluzionario va in modo di vedere ricordata proprio nella storia di uomini come Pietro Tressor ha chiuso la migliore eredità io credo del partito comunista d'Italia delle origini e chiudo grazie Emanuele Nidi ora abbiamo l'intervento di Andrea Davolo dopo Andrea si prepara Federica Concia io chiederei entro l'intervento di Andrea a chi ha intenzione di intervenire di segnarsi così poi chiudiamo la lista e possiamo appunto gestire il tempo che abbiamo a disposizione prego Andrea Può essere interessante riprendere e provare ad approfondire quelle che erano prima del 21 le posizioni dei gruppi dell'ordine nuovo di Gramsci del Soviet di Bordica proprio sulla questione del partito e di come questo andasse costruito perché questi due gruppi hanno profili politici molto diversi elementi originali specifici alcuni vicini alla tradizione bolshevica altri invece lontani da essa un primo elemento importante di differenziazione tra questi due gruppi è la loro natura la loro caratteristica mentre il gruppo di Bordica si costituisce ufficialmente nel dicembre del 18 come vera e propria frazione all'interno del partito socialista lo stesso non possiamo dire riguardo al gruppo di Gramsci l'ordine nuovo infatti non aveva una propria piattaforma politica e la stessa omogenità del gruppo subisce numerose rotture nel corso della sua storia la più importante delle quali fu per esempio quella tra Gramsci e Tasca sulla priorità ad assegnare al lavoro nei consigli di fabbrica piuttosto che nelle camere del lavoro inizialmente l'ordine nuovo è di fatti una pubblicazione una rassegna di cultura socialista come riportato nell'intestazione all'interno del quale descrivono quadri intellettuali ed operai con esperienze e idee differenti anche se poi nell'evoluzione della pubblicazione decisiva è stata sicuramente l'ispirazione delle idee di Gramsci in particolare rispetto alla parola d'ordine dei consigli di fabbrica del controllo della produzione il gruppo dell'ordine nuovo quindi non si pone immediatamente il problema di costruire una direzione politica alternativa per la classe operaia italiana e non può farlo anche a causa della sua disomogeneità e dell'assenza di una vera piattaforma politica questo grosso limite spiega l'isolamento della battaglia che il gruppo di Gramsci dovette condurre in solitudine appunto e con il boicottaggio della direzione del PSI durante lo sciopero delle lancette del 19 infatti mentre l'ordine nuovo chiedeva al gruppo dirigente del PSI di allargare il movimento fuori e oltre Torino Serrati non raccoglieva l'appello e lo faceva sostanzialmente cadere nel vuoto l'isolamento del gruppo dell'ordine nuovo del gruppo dei socialisti torinesi di fatti corse alla sprovvista Gramsci e suoi il fatto di non essersi mai posti il problema di un coordinamento organizzato su scala nazionale della loro azione politica e anche della loro azione sindacale fu un errore gravissimo che avrà ripercussioni decisive l'anno seguente durante il movimento di occupazione delle fabbriche solo dopo la sconfitta del movimento delle occupazioni Gramsci pose ormai tardivamente troppo tardi la questione del partito e della costruzione di un'altra direzione politica per le masse certo già prima del 20 durante lo sciopero delle lancette Gramsci presentò ad esempio un documento intitolato non a caso non casualmente direi proprio per un rinnovamento del partito socialista in cui sono certamente aspramente criticate le insufficienze del PSI la posizione espressa in quel documento venne giudicata dallo stesso Lenin sostanzialmente giusta e in linea con i principi della terza internazionale in esso Gramsci sosteneva che la fase della lotta di classe in Italia fosse arrivata al punto che o il proletariato avrebbe assunto il potere politico attraverso il controllo dei mezzi di produzione oppure la borghesia avrebbe sterrato una tremenda reazione tuttavia Gramsci che fra l'altro dopo lo sciopero del 19 dovrà a un certo punto far fronte anche ad un isolamento all'interno del suo stesso gruppo come dimostra la polemica con Tasca ma anche l'avvicinamento di Togliatti e di Terracini ai massimalisti torinesi ecco Gramsci in quel momento pensa ancora e lavora ad un rinnovamento del Partito Socialista appunto convinto che la costruzione dell'intervento nei consigli di fabbrica dell'unità proletaria nei consigli di fabbrica possa portare il Partito Socialista ad una linea più conseguentemente rivoluzionaria ed omogenea in verità Gramsci dopo la sconfitta dello sciopero delle lancette partecipa all'osservatore anche al convegno nazionale del gruppo bordighista propone a Bordiga l'unificazione della sua corrente con l'ordine nuovo ma possiamo dire che solo dopo la sconfitta decisiva delle occupazioni Gramsci riuscì a superare definitivamente l'atteggiamento di sostanziale sottovalutazione della funzione e dell'importanza di costruire appunto una frazione nazionale omogenea e alternativa al gruppo dirigente massimalista dall'altra parte abbiamo il gruppo del Soviet che come dicevamo all'inizio diversamente dall'ordine nuovo era un gruppo coeso politicamente ben definito organizzato e già in una retta del 19 scritta da Bordiga a Lenin Bordiga esprime l'intenzione di operare una scissione dal PSI per costruire un partito puramente comunista è importante però approfondire l'atteggiamento tattico del gruppo di Bordiga rispetto al problema della costruzione del partito in primo luogo è già citato astensionismo ovvero la posizione di non partecipare alle elezioni per non disperdere per non augurare le forze in una battaglia che secondo Bordiga avrebbe solo dato maggior forza ai riformisti e maggior forza alle posizioni di compromesso con la borghesia una posizione astratta che Lenin attaccò frontalmente nell'estremismo malattie infantili del comunismo e che è stata anche alla base per esempio del rifiuto che Bordiga rivolse a Gramsci quando quest'ultimo gli propose appunto l'unificazione dei due gruppi dopo il fallimento degli scioperi del 19 perché la condizione posta da Gramsci fu appunto la rinuncia alle tesi dell'astensionismo strategico ma vi era un altro e forse più decisivo elemento di risenso tattico e strategico che differenziava Bordiga e da Gramsci e cioè quello relativo appunto ai consigli di fabbrica abbiamo visto che il gruppo dell'ordine nuovo si caratterizzò soprattutto per il deciso orientamento a rintervenire nel movimento torinese dei consigli per la corretta intuizione politica che questi potessero essere l'embrione del potere operaio così come lo furono i soviet nella rivoluzione russa ma mancò di una strategia nazionale che ne permettesse lo sviluppo che permettesse la vittoria di quel movimento al contrario il gruppo di Bordiga riconobbe in anticipo la necessità di costruire una direzione alternativa ai massimalisti ma non fu in grado di individuare una tattica che gli permettesse di entrare in collegamento con le masse e quindi strapparle all'influenza dei dirigenti socialisti questo anche e soprattutto per la posizione formalistica settaria che Bordiga mantenne sui consigli di fabbrica considerati come un movimento che avrebbe semplicemente contribuito a modificare i sindacati ciò che conta per la teorizzazione di Bordiga è la presso del potere solo dopo la presso del potere guidata rapido comunista si potranno secondo Bordiga istituire consigli operai territoriali che Bordiga contrappone i consigli di fabbrica tuttavia Bordiga non scende mai ad un discorso più articolato su come farli nascere e non è illustrato perché di fatti non si pone ed è sottovalutato il problema del rapporto dialettico tra il partito e le masse nel processo rivoluzionario e quindi il problema di come arrivare alla presso del potere il programma e la tattica erano purtroppo temi sconosciuti all'elaborazione di Bordiga non si capisce appunto come il partito avrebbe potuto conquistare le masse e la presso del potere diventa in questo contesto una parola d'ordine quasi messianica di fatti vediamo dunque come Gramsci e Bordiga ebbero entrambi grandi intuizioni politiche ma anche gravi limiti esattamente speculari per certi versi l'esperienza bolshevica d'altra parte per le difficoltà del tempo era sì conosciuta come aspirazione generale lo slogan bisogna fare come in Russia ma poco fra l'altro lo slogan che accomunava come abbiamo visto la corrente di Bordiga il gruppo di Gramsci anche ai massimalisti riservati ma era appunto un'esperienza poco conosciuta come patrimonio politico anche questo quindi può spiegare la debolezza politica che accompagna i primi anni di vita del Partito Comunista d'Italia la poca preparazione che i quadri ebbero anche di fronte all'imminente profilarsi della minaccia fascista e ho terminato grazie ad Andrea ora abbiamo Federica Concia dopo Federica si prepara Antonio Erpice prego i compagni nell'ottobre del 25 quindi a 5 anni dall'occupazione delle fabbriche a 4 dalla nascita del Partito Comunista d'Italia Confindustria riconosce l'esclusività della contrattazione aziendale al sindacato fascista i sindacati non fascisti sono dichiarati illegali e nello stesso periodo una legge sulle associazioni permette lo scioglimento di tutti i partiti avversi al fascismo e quindi anche del Partito Comunista come si arriva a questo momento appunto richiederebbe di percorrere varie fasi che non possiamo fare adesso ma possiamo dire delle cose anzitutto possiamo provare a capire come il Partito lesse il fenomeno fascista e che tipo di indirizzo si propose di seguire per reagire all'avanzata del fascismo il Partito al momento della sua fondazione non porta con sé la maggioranza dei lavoratori che ancora seguono il Partito socialista come le prime elezioni dopo la scessione già dimostrano di fronte a questa situazione e di fronte all'avanzare della reazione diventa necessario per il giovane partito il compito di conquistare la maggioranza del proletariato così come indica l'internazionale sotto la direzione di Lenin e Trotsky i dirigenti comunisti in questa fase considerano il partito però come l'organo della classe operaia così che si esprime la classe operaia aggiungerà da sé alla rivoluzione e deve trovare il partito pronto a condurla alla vittoria quindi l'obiettivo fondamentale in questa fase è conservarsi ideologicamente integri per trovarsi pronti quando il momento verrà e va sottolineato che in questa fase non si crede che il momento dello scoppio rivoluzionario sia lontano da venire al contrario si crede che il fascismo mette in luce la crisi dello stato borghese spazza via ogni illusione nella democrazia e quindi in qualche modo addirittura accelera il momento dello scoppio rivoluzionario questa formulazione viene sancita nelle tesi approvate al secondo congresso del partito le cosiddette tesi di Roma e ciò mentre negli stessi documenti precongressuali si sottolinea lo stato di gravissima depressione della classe opera italiana cioè ricordiamoci un periodo di reazione di licenziamenti di attacchi diretti ai lavoratori il partito nega che la conquista della maggioranza sia indispensabile per un'azione rivoluzionaria efficace e preferisce in questo momento prevale l'idea di garantirsi contro il rischio di degenerazione questo è il motivo fondamentale per cui non si accettano accordi con partiti ideologicamente non puri per cui si respinge la parola del fronte unico tanto che appunto il presidium dell'internazionale dice che il partito comunista pecca di una paura settaria del contatto con la vita reale Gramsci al congresso di Leone qualche anno dopo nel 26 sottolineerà invece la necessità che il partito si ponga come parte della classe che sappia accompagnarla in tutte le posizioni intermedie quindi anche prima della rivoluzione un'attenzione maggiore al radicamento tra gli operai caratterizzava Gramsci anche prima ma questa è una posizione che si affina nel tempo e che gli permetterà anche di comprendere l'urgenza di parole d'ordine transitorie e democratiche e in ciò Gramsci risente dell'influenza di un lungo dibattito con l'internazionale in particolare nel momento in cui questa è diretta da alieni nettrotti in questa fase però prevale una sottovalutazione del fascismo l'idea è che il capitalismo sia uno strumento nelle mani della borghesia Bordiga afferma che la borghesia non si sogna di sopprimere la democrazia anzi in questa fase il partito sottolinea da un lato che il partito socialista dimostra sempre più di essere un partito antirivoluzionario dall'altro che il fascismo si sta più o meno normalizzando partecipa alle elezioni eccetera addirittura si finisce col dire che l'una e l'altra cioè il socialismo la socialdemocrazia il fascismo sono in ultima analisi concordi nel frenare la rivoluzione e Bordiga arriva ad affermare fascisti e socialdemocratici sono due aspetti dello stesso nemico di domani ora se in questa prima fase una certa sottovalutazione del fenomeno fascista appare anche comprensibile meno l'idea che ci possa essere una connivenza tra le due forze soprattutto considerando quanto il partito socialista subisce degli attacchi duri e feroci da parte del fascismo in questa fase comunque questa analisi diventa molto meno giustificabile negli anni a venire nel periodo di maggior consolidamento del fascismo tra il 25 e il 26 Bordiga ancora afferma non crediamo all'antitesi tra democrazia e fascismo Bordiga considera il fascismo come l'espressione della borghesia in blocco e non giunge ad inquadrare il fascismo come un fenomeno più complesso più contraddittorio una lettura più lucida ci verrà da Gramsci al congresso di Lione che sottolineerà come il fascismo possa trionfare in virtù del fallimento della democrazia di gestire la crisi sociale aperta col dopoguerra con gli strumenti che le sono propri dall'altro che può trionfare per il fallimento la sconfitta della rivoluzione a causa del tradimento dei socialisti legge più a fondo anche la capacità che il fascismo ha avuto di mobilitare la piccola borghesia come un elemento fondamentale della sua vittoria e giunge anche a dire che con la conquista del potere da parte del fascismo si è giunti a un'unità organica della borghesia nel fascismo tuttavia nonostante questa lettura si continua a prevedere uno scoppio rivoluzionario a più o meno breve scadenza siamo nel 26 quando giungono queste analisi e quindi è l'idea che ci si trovi ancora in una fase di preparazione alla rivoluzione e da qui ne discende che tutte le altre forze politiche che si opporranno alla rivoluzione socialista sono forze da combattere e in questo senso fascismo e opposizione anche il partito socialista collaborano nei loro obiettivi contro rivoluzionari da qua viene fuori un'idea di un fronte unico esclusivamente dal basso cioè che non prevede accordi con gli altri partiti e questa prospettiva guiderà l'azione dei comunisti in anni cruciali di rafforzamento del fascismo l'idea è di rivolgersi agli operai degli altri partiti operai in particolare agli operai socialdemocratici invitandoli a lottare per obiettivi rivoluzionari su piattaforme elaborate dal partito e addirittura in questa fase di reazione si arriva ad avanzare la parola d'ordine dei comitati operai e contadini che vengono considerati embrioni dei soviet appunto quindi organi di un processo rivoluzionario e poi cellule embrionali del futuro stato operaio e intanto l'attacco ai dirigenti di quegli operai a cui ci si rivolge è un attacco durissimo e quindi in qualche modo si finisce con l'invitare gli operai che seguono il partito socialista a rompere quei loro dirigenti che vengono chiamati traditori contro i rivoluzionari e a lottare sotto la bandiera dei comunisti anche le blande richieste che arrivano al partito socialista per azioni di lotta comune vengono presentate quasi nella forma di ultimato lottare insieme per le parole d'ordine comunista o nessuna lotta comune tanto che i socialisti avranno gioco facile nel rifiutare dichiarando che è infantile la concezione del fronte unico proposto dal partito comunista che raffigura ai socialisti come traditori per poi pretendere che si combatta insieme quel setteggiamento in realtà risente anche di una situazione particolare di ciò che è avvenuto che sta avvenendo nell'Unione Sovietica e nell'internazionale dopo la morte di Lenin quando l'internazionale appunto è sotto la direzione di Zinoviev al quinto congresso si impone la parola d'ordine del fronte unico dal basso come mero strumento agitativo e addirittura si dichiara che il governo operaio e contadivo che era una delle parole d'ordine che già prima si proponeva di avanzare non è altro che uno pseudonimo della dittatura del proletariato e non come la intendevano Lenin e Troschi per una tappa verso la dittatura del proletariato cioè specificamente loro dicevano proponete al partito socialista un governo operaio di lottare per rivendicazioni minime se accettano la lotta andrà anche fuori dal Parlamento sarà una lotta per le strade per sopportare questa azione ora l'internazionale nel 25 giunge addirittura a dichiarare che il fascismo è l'ala destra e la socialdemocrazia l'ala sinistra della borghesia e quindi l'obiettivo diventa lottare contro entrambi si continua a prospettare una crisi profonda imminente del capitalismo e una conseguente radicalizzazione e scoppio rivoluzionario altrettanto imminente quello che però invece si registra nella situazione internazionale è che il fascismo in Italia si va consolidando sempre di più che l'occasione rivoluzionaria nel 23 in Germania è perduta Trotsky prospetta una fase di relativa stabilizzazione del capitalismo la prospettiva invece di Zinoviev è molto differente e quindi noi assistiamo a una situazione particolare per cui Gramsci in particolare arriva a una elaborazione politica più matura più profonda accetta anche la prospettiva del fronte unico ma questo avviene mentre si compie contemporaneamente una svolta estremista nella lettura della fase politica nella definizione della socialdemocrazia e del rapporto con essa e quindi la parola d'ordine del fronte unico diventa una parola d'ordine sterile anche il grande vantaggio che viene dal far parte dell'internazionale e quindi la possibilità di mettere a frutto l'esperienza dei rivoluzionari nei diversi paesi l'utilizzo delle esperienze accumulate come monito come guida per il futuro quello che era di fatto il metodo utilizzato da Lenin e Trotsky si trasforma nel suo contrario sotto la direzione di Zinoviev e poi di Stalin l'incapacità a indirizzare i partiti che fanno parte della terza internazionale gli errori commessi da quei partiti sotto le loro direttive e la sconfitta di alcuni tentativi rivoluzionari diventano il modo per condannare singoli dirigenti per attuare delle svolte brusche tattiche dopo quelle sconfitte e soprattutto viene meno un'analisi libera un dibattito aperto su quelle esperienze che è l'unico modo per prepararsi alle occasioni rivoluzionarie future e chiudo grazie grazie anche Federica ora ha la parola Antonio Erpice con cui vedo due account vediamo dare l'audio quello giusto Antonio anche ad Antonio lasciamo cinque minuti in più ok 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 ci sono ricordo che appunto uno dei cinque contributi che ha pubblicato è proprio quello di Antonio sul massimalismo sempre disponibile sul sito marxismo.net dopo Antonio ci sarà Domenico Minadio prego Antonio grazie si compagni io vorrei dire proprio delle cose sul massimalismo a partire dal congresso di Bologna del 19 che è appunto il momento in cui questa corrente si afferma alla guida del partito ora come è noto dopo il congresso Lenin scriverà una lettera a Serrate e Lazzari per congratularsi per la brillante vittoria del comunismo al congresso e mettendoli in guardia rispetto al probabile sabotaggio di riformisti che appunto restano nel partito a questa lettera Serrate risponde e in questa risposta in realtà c'è un sunto delle sue concezioni in generale delle concezioni del massimalismo infatti Serrate dice che dopo il congresso di Bologna la situazione è andata maturando la crisi economica che travaglia il paese che non può non condurre ad una situazione rivoluzionaria non può evidentemente essere risolta con i palliativi proposti dalle classi dirigenti ciò significa che la vittoria è vicina e richiede una maggiore responsabilità da parte del partito ecco perché dice Serrati io sono d'avviso che ci occorre procedere in modo che la rivoluzione scoppia a suo tempo debito né colpi di mano né soverchie lentezze tale mi pare debba essere la nostra tattica noi dobbiamo attendere serenamente operando gli eventi che maturano per noi ora è evidente come per Serrati la rivoluzione è un processo che matura da solo cioè una volta che la situazione è rivoluzionaria questo evolve verso il proprio sbocco naturale e tutto al più il compito dei rivoluzionari è quello di saper cogliere l'occasione che quando questa si presenta ora in un approccio di questo tipo in realtà la passività è implicita ed è in qualche modo una parte strutturale di questa concezione e non è un caso che proprio questo tipo di approccio cioè l'immobilismo per esempio del partito ha una difficoltà a reagire a indirizzare i processi rivoluzionari in generale i processi che avvengono si riproporrà più volte e quindi il problema per esempio dell'immobilismo rispetto al bienio rosso o l'incapacità di contrastare la reazione nel periodo di ascesa del fascismo sono tratti peculiari appunto che avranno un effetto poi gigantesco sui limiti non solo del massimalismo ma in generale anche del processo di formazione di un partito rivoluzionario in Italia legato alla terza internazionale e in realtà però questa concezione che è una concezione diciamo della rivoluzione per certi versi gradualista in cui la rivoluzione è un accumulo di forze in realtà è una concezione che non è altro che la concezione che aveva la seconda internazionale Lenin appunto dirà esplicitamente quando Serrati interverrà a Mosca nel secondo congresso dell'internazionale nel 1920 ci dispiace che Serrati abbia parlato senza dire niente di nuovo perché i suoi discorsi sono quelli che sentivamo nella seconda internazionale e su questo Lenin ha assolutamente ragione perché su queste basi la rivoluzione d'ottobre non si sarebbe mai verificata in realtà il massimalismo è una versione aggiornata di una tradizione che esiste in Italia che è quella dell'intrassigentismo cioè della sinistra del partito socialista che pone come discriminante fondamentale rispetto al riformismo e fa di questo il proprio perno l'avversità alla collaborazione di classe per cui di fronte all'idea che Turati o gli altri riformisti propongono di una necessità da parte dei socialisti di appoggiare un pezzo della borghesia per le riforme per migliorare le condizioni dei lavoratori eccetera la sinistra si oppone a questa commistione propone diciamo una visione classista ma non è in grado assolutamente lo speriamo anche Vittorio nella prima parte della sua relazione di fornire una visione generalmente strategicamente alternativa strategicamente rivoluzionale e da questo punto di vista in realtà è comprensibile per quanto sia ovviamente sbagliato il fatto che di fronte alla richiesta dell'internazionale di espellere i riformisti di espellere appunto Turati il gruppo parlamentare attorno a lui eccetera Serati risponde i riformisti sono già stati espulsi nel 1912 quando poi come spiegava già Vittorio quel passaggio non è altro che un passaggio dove vengono estromesse dal partito quei settori più sciovinisti più apertamente filoimperialisti rispetto a quello che sarà la politica che porterà avanti il governo italiano in quegli anni ma il problema rimane inventato all'interno del partito socialista ancora subito dopo il bene rosso attorno al dibattito che precede subito dopo Livorno Serati in realtà spera di risolvere il problema del rapporto con i turatiani con l'appello alla disciplina e aspettando un passo falso di Turati cioè aspettando che questo possa entrare in il governo e quindi una visione tutta formale della disciplina e anche di quella che è il rapporto che il gruppo parlamentare ha in generale i formisti hanno con il partito perché in realtà non è che c'è bisogno dell'ingresso di turati nel governo cosa che non farà mai ma il problema è per sabotare non serve questo per sabotare la politica del partito perché in realtà c'è una continuità nel lavoro che questi portano avanti nel concepire il partito come un partito organicamente opportunista e quindi il problema della rottura con questo settore è quello che appunto Lenin invocherà come aspetto preliminare per la formazione di un partito autenticamente rivoluzionare il problema si porrà ma e Serrati non sarà in grado di affrontarlo e qua veniamo ad un altro aspetto decisivo che riguarda le concezioni dei massimalisti che è la stessa concezione del partito e non solo la concezione della rivoluzione perché Serrati è ingabbiato in una visione che fa dell'unitarismo dell'idea appunto di tenere le diverse componenti del partito unite il proprio punto fermo e da questo punto di vista in realtà emerge come ci sia una concezione molto lontana dalla concezione di una concezione leninista e una concezione rivoluzionaria cioè nei fatti rifiuto di un partito politicamente omogeneo e anche qua ancora una volta c'è l'idea che l'obiettivo del partito è quello di espandersi un po' alla volta di arrivare a conquistare pezzi della società e che tutto questo possa essere in qualche modo il presupposto poi per garantire il successo della rivoluzione per cui questo accumulo graduale di forze oltre ad esprimere la subalternità rispetto al ruolo dei riformisti in realtà è anche negli argomenti diserrati necessario cioè il fatto di tenere il partito unitario unito e non romperlo non dividersi con i riformisti è necessario perché servono le competenze di questi settori le loro capacità per dirigere la futura rivoluzione e la società post-rivoluzionaria e ancora di più bisogna scongiurare questa rettura perché questa rottura implicherebbe una rottura con una parte significativa del radicamento del partito come sappiamo infatti i riformisti controllano il sindacato hanno un'egemonia in alcune parti significative del nord Italia in Siapeville in alcune parti della Lombardia della Toscana cioè dove c'è un insediamento storico del socialismo che si basa anche sul controllo dei municipi delle leghe delle cooperative delle camere del lavoro e quindi c'è la preoccupazione di perdere questi pezzi del partito e quindi di fronte alla necessità di arrivare a prendere il potere di essere più più deboli ora in realtà questa è una concezione che è molto distante da quella che è la battaglia che fece Reboccivì che fu una battaglia di anni come hanno spiegato anche altri compagni di chiarificazione teorica di differenziazione rispetto al rapporto con la borghesia in generale a quelli che erano i compiti dei rivoluzionari per la rivoluzione russa e soprattutto tutto questo lavoro che Bolshevich fecero fu il presupposto per poter garantire la conquista della maggioranza della maggioranza all'interno del proletariato all'interno della società russa noi sappiamo che in realtà ancora per buona parte dei 17 i Bolshevichi e i rivoluzionari erano minoranza e lo furono fino a poco prima dell'ottobre e in realtà fu la chiarezza delle idee la capacità di relazionarsi con i settori più combattivi avanzati delle masse che fu diciamo uno degli aspetti decisivi di Lenin e dei Bolshevichi e nello stesso tempo la centralità che assunse i soviet alla battaglia che i Bolshevichi fecero lì dentro permise diciamo il fatto che i Bolshevichi guadagnarono la maggioranza dei lavoratori alla rivoluzione ma non era il punto di partenza della rivoluzione e non lo è se ne fu sicuramente dopo la rivoluzione di febbraio e si arrivò come dicevo prima a questa possibilità solo poco prima dell'ottobre quindi quanto ho detto finora queste differenze sono ovviamente decisive per comprendere il centrismo poi alla fine che caratterizza Serrate il massimalismo cioè noi ci troviamo di fronte ad una corrente che si radicalizza sull'onda della situazione rivoluzionale che attraversa l'Italia nel dopoguerra che si basa su questa grande spinta e questa irruzione delle masse all'interno dei processi della lotta di classe diciamo dello scontro che avviene ad una portata molto alta e per il ruolo che ha ovviamente la rivoluzione russa sui lavoratori italiani per l'effetto che ha su questi e di riflesso anche sulle stesse organizzazioni della classe e quindi sullo stesso partito socialista che quindi accoglie in qualche modo tutto questo il processo rivoluzionario che si è verificato lo individua a riferimento ma appunto come dicevano i compagni prima non lo studiano non lo prende sul serio riferimento non è in grado di trarne dei veri insegnamenti come hanno fatto appunto i boscevichi questa cosa qua cioè quindi questa dinamica in cui si parla di rivoluzione senza poi rendere senza poi prepararla no? semplicemente cioè di ridurre la rivoluzione a un discorso che prima o poi avrà una propria evoluzione autonoma come dicevo prima è una differenza sostanziale ovviamente con il boscevismo e questa incomprensione su quanto dal punto di vista tattico dal punto di vista della capacità di costruire gli obiettivi transitori le parole d'ordine necessarie per conquistare la massa dei lavoratori questa incomprensione è evidente per il massimalismo e in particolare per Serrati che ancora anche su altro non capisce in realtà gli elementi di differenza fondamentale diciamo non coglie gli insegnamenti del boscevismo per esempio lui quando va nel congresso del 20 in Russia si astiene su alcune delle tesi decisive se lo si vede dal punto di vista della politica dei boscevisti cioè le tesi sulle questioni nazionali e coloniali e quella sulla politica agraria su questo per esempio rispetto alla politica dei contadini lui critica la posizione dei boscevichi della terra e dei contadini ma mantenendosi sulla posizione diciamo tradizionale dei socialisti italiani non solo della coltivizzazione delle terre e quindi l'argomento è noi abbiamo costruito il nostro insediamento in particolare tra i braccianti lottando contro le proprietà dei terrieri non possiamo pensare che noi rivendichiamo per i contadini la proprietà della terra senza capire che per esempio questo elemento in un paese come l'Italia dove i contadini avevano un peso significativo era doveva essere la capacità di interloquire con questi settori un elemento decisivo per costruire una proposta politica realmente rivoluzionaria e non che imitasse in qualche modo le parole d'ordine dei soviet di istituzioni operai in grado di essere alternativa all'ordine borghese senza però forse il problema di come riempirlo dal punto di vista dei contenuti delle proposte e di raccogliere attorno a questo poi un consenso crescente in pochi anni diciamo nel 21 c'è la scissione di Livorno ma nel giro degli anni successivi in realtà tutte queste contraddizioni del massimolismo esplodono ed esplodono pesantemente intanto perché l'idea di tenere insieme tutto il partito le diverse organizzazioni subisce diverse organizzazioni legate alla classe subisce un colpo durissimo nell'aggressione che il fascismo porta avanti già all'inizio del che si intensifica all'inizio del 22 e che produce il fatto che tutta una serie di roccaforti del partito vengono vengono messe sotto attacco a ferro e fuoco appunto con lo squadrismo dall'altro lato i riformisti in realtà sviluppano una posizione apertamente collaborazionista l'idea che per ostacolare il fascismo bisogna fare costruire un fronte legalitario e quindi nei fatti quest'idea cioè l'idea che il partito unito sia più forte viene viene smantellata e quando c'è l'accessione appunto con i riformisti poco prima della marcia della marcia su Roma del 22 quello che si verifica in realtà è che quando Serrati prova a sostenere la politica di fusione con il partito comunista d'Italia che propone l'internazionale nel momento in cui c'è questa rottura finalmente con i settori riformisti in realtà all'interno del partito socialista si costituisce una francia che diventa maggioritaria guidata da Nenni che si oppone alla fusione che rivendica ancora una volta perché questa è una costante che durerà per gli anni l'adesione del partito socialista alla terza internazionale ma nello stesso tempo in realtà contrasterà l'idea di sciogliersi e di fondersi con il partito comunista per cui l'approdo sarà che mentre i massimalisti avevano 98.000 voti a Livorno che il gruppo che poi sarà quello che si equalizzerà attorno alla frazione terzina internazionalista o terzina che è quella che approderà poi nel PCD nel 24 sarà un gruppo ormai ridotto ovviamente anche per il grande processo di sgrediazione che il movimento operale subisce ovviamente sotto i colpi del fascismo si ridurrà a qualche migliaia di attivisti e di militanti che approderanno poi all'interno lo stesso Serrati approderanno nel 24 al partito comunista d'Italia con una politica sbagliata però che nel frattempo aveva non solo dilapitato le forze di un movimento e aveva reso in realtà poi chiaro come mancassero tutta una serie di presupposti politici e teorici per un approdo nel 21 ad un partito rivoluzionario ma allo stesso tempo in realtà rendendo più complicato il lavoro di costruzione appunto di un partito comunista e quindi di un'organizzazione rivoluzionaria in grado di essere il riferimento per i lavoratori in Italia per la presa del potere sono tutti diciamo errori giganteschi perché avvengono in un periodo di pochi anni ma dove si condensano processi politicamente rilevantissimi che poi inevitabilmente il proletariato e i lavoratori nel suo insieme pagheranno e subiranno per gli anni a venire e io ho finito perfetto grazie ad Antonio ora abbiamo Domenico Minadeo a cui riattiviamo l'audio e dopo Domenico avremo l'intervento di Francesco di Francesco Giuliani che sarà un intervento più lungo perché appunto esporrà il testo che abbiamo recentemente pubblicato rispetto ai quaderni dal carcere e quindi li lasceremo una mezz'ora perché l'argomento necessita di un tempo di un tempo superiore prego Domenico sì grazie Alessio ma io volevo cominciare il mio intervento collegandomi insomma alla parte finale dell'introduzione quando appunto Vittorio ci descriveva un po' le vicende del terzo congresso del partito comunista d'Italia cioè appunto congresso di Lione che rappresentò appunto una una rottura una rottura molto grave perché i primi anni del partito comunista italiano furono appunto caratterizzati da un dibattito aperto dove c'era una democrazia per poter esporre le proprie posizioni e attorno a questo dibattito appunto con la fondazione del partito si raccolsero le migliori forze del movimento operaio italiano appunto con i loro fondatori invece in quel congresso si ebbe una una rottura grave possiamo dire insomma che ci può essere quasi volendo un po' estremizzare una storia del partito comunista prima del 26 e dopo del 26 questo chiaramente collegato con gli avvenimenti a livello internazionale che vedevano gli sviluppi appunto all'interno dell'internazionale quindi del partito locevico con la burocratizzazione insomma di quel partito è lo scontro appunto che possiamo riassumere tra Stalin e Trosti perché quello che avviene poi negli anni successivi di fatti insomma nel partito comunista è che forse nelle difficoltà perché comunque c'era un regime fascista con molti erano imprigionati le cellule del partito comunista erano sicuramente molto esigue molti erano anche in immigrazione ma diciamo che il debattito genuino che si era sviluppato nei primi anni viene interrotto e tutti i dirigenti insomma che poi hanno guidato il partito in primi stogliati insomma poi tutti gli altri si erano trasformati poi in definitiva in docili strumenti di quella che era la degenerazione della terza internazionale quindi dell'ascesa di Stalin alla guida di quella internazionale per cui il dibattito non era esaurito e tutte le sezioni tutte le sezioni dell'internazionale di questo sicuramente anche quella italiana non facevano altro che riprendere diciamo le loro direttive quindi applicarle nelle proprie sezioni nazionali e accanto credo ai dirigenti che hanno fondato il partito comunista d'Italia appunto di cui stiamo discutendo oggi con Bordiga e Gramsci io credo che debbono essere ascritti e questo mi sembra che già lo diceva nel suo intervento appunto Emanuele anche i dirigenti che poi in seguito hanno provato a opporsi a questa degenerazione che era avvenuta a livello internazionale che chiaramente a livello nazionale poi i dirigenti cercavano di seguire quindi da questo punto di vista credo che un dirigente appunto di primo piano che è venuto alla ribalta poi di cui è vero si parla si parla molto poco perché poi la storia appunto cerca di fa comodo sia alla borghesia ma a tutti insomma la storia stalinista insomma invece di mettere in primo risalto sempre appunto figure come 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 togliate invece ci fu chi ebbe il coraggio anche durante la burocratizzazione appunto delle vari partiti in quella situazione difficile una di queste figure è Pietro Tresso Pietro Tresso ha subito la sorte poi che ha subito anche il fondatore del Partito Comunista d'Italia per dare un segno di quello che è stata poi la degenerazione insomma che ha avuto il Partito Comunista d'Italia cioè il fondatore del Partito Comunista fu espulso nel 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 ventinove e Pietro Tresso fu uno insieme a Leonetti e a Ravazzoli che cercò di opporsi alla la degenerazione anzi loro agli inizi quando cominciarono le prime divergenze non cercarono subito diciamo così dei collegamenti a livello internazionale per cercare di fondare una nuova formazione ma anzi si batterono all'interno del Partito perché pensavano di poter ancora aggiustare le linee politiche di quelle partite non capendo chiaramente già quali erano in corso a livello internazionale quindi si riflettevano anche in Italia insomma la degenerazione già profonda insomma che stava attraversando tutto il partito in effetti Leonetti scusate Tresso faceva parte dell'ufficio politico e lui si cominciò ad avere le prime divergenze quando alla fine del del 29 all'interno dell'ufficio politico su ordine Mosca fu presentato un progetto che si chiamava Progetto Gallo che era subordinato alla teoria del terzo periodo cioè che appunto che in tutti i paesi capitalisti stava per il capitalismo stava per per cadere che quindi i comunisti si dovevano si dovevano preparare e appunto questo progetto Gallo che fu presentato appunto all'ufficio all'ufficio politico in pratica diceva che il fascismo era diciamo lì per 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 cadere che quindi i comunisti si dovevano si dovevano preparare a una ascesa rivoluzionaria e quindi si dovevano preparare per la presa per la presa del potere e da qui che Tresso chiaramente rimase molto perplesso insomma da questa da questa prospettiva e cominciò a riflettere che forse non era quella diciamo l'analisi giusta e presentò una controproposta all'interno dell'ufficio politico appunto che diede proprio il nome di controprogetto Blasco Blasco che insomma poi sarà il suo pseudonimo perché chiaramente erano tutti in clandestinità e quindi si usavano altri nomi che però non venne non venne accettato perché appunto il la bolshevizzazione quindi che questo appunto avvenne nel congresso di di Lione potiamo scrivere insomma col congresso di Lione in Italia non ammetteva diciamo così che alcuni compagni potessero avere idee diverse da quelle che era invece la direzione cioè il capo aveva sempre aveva sempre ragione e per cui questo controprogetto appunto di Blasco di di Tresto che vedeva tra di loro anche il sostegno insomma di Leonette Travazzoli che facevano parte del comitato centrale venne nosteggiato e nel giro di pochi mesi perché di questo stiamo parlando se alla fine appunto del 29 Tresto si oppone a questa linea nel giro di pochi mesi questi dirigenti vengono espulsi dal dal partito questo era il livello del dibattito che si ebbe appunto accettando quelle direttive quelle linee politiche che venivano dettate da Mosca cioè veniva a morire quello che invece è il sale per un partito rivoluzionare cioè la discussione la sana discussione tra compagni che si convincono attraverso le idee attraverso appunto le argomentazioni anche perché diciamo quella che fu la divergenza non era tanto sul fatto che poi in Italia il fascismo sarebbe caduto su una rivoluzione proletaria su questo insomma anche Tresto era d'accordo ma come spiegarono poi nei bollettini futuri non era quello il momento giusto in cui non si vedeva insomma questa ascesa rivoluzionaria ma la cosa più che loro misero in evidenza in quel momento era che il partito comunista non aveva quel legame con le masse contadine e operaie in Italia per cui non c'era nessuna possibilità in quel momento per i dirigenti comunisti di poter dirigere una una rivoluzione e da questa da questa divergenza poi i tre riescono a venire in contatto con il raggruppamento che Trotsky insomma stava cercando di fare insomma a livello internazionale con la sua opposizione punto di sinistra internazionale attraverso insomma il dirigente francese Alfred Rosmer vengono in contatto con il rivoluzionario russo e fondono la nuova opposizione italiana che è sicuramente insomma l'organizzazione che ha cercato di tenere in alto anche in condizioni molto molto difficili perché oltre a fatti insomma di condizioni difficili proprio a livello materiale bisogna anche sottolineare sempre che poi lo stalinismo ha provveduto anche all'eliminazione fisica di chi si opponeva la propria la propria linea linea politica l'eliminazione fisica che appunto è toccato al fondatore dell'opposizione sinistra cioè Trotsky suo figlio Lev nel 36 a Parigi ma anche allo stesso dresso bene questi compagni credo che un altro patrimonio che ogni militante comunista insomma debba conoscere proprio appunto la pubblicazione di questa nuova opposizione italiana che ebbe vita breve perché purtroppo sia Dresso Ravazzolo e Leonetti furono erano emigrati in Francia dove insomma la la Ligue francese che era appunto la sezione della posizione di sinistra internazionale aveva dei grossi dissidi all'interno per cui insomma ebbe vita breve però credo che abbiano dato uno un contributo fondamentale insomma che tutti dobbiamo conoscere davanti a me appunto ciò proprio il bollettino numero 10 di quella nuova opposizione di sinistra dove loro analizzano in maniera marxista insomma la situazione appunto italiana in quel momento e come delineano già in quel momento chiaramente anche erano anche venuti già in contatto con con Trotsky avevano avuto già anche della corrispondenza in cui delineano già su quali basi su come si potranno sviluppare e quindi come potrà accadere il fascismo in Italia quindi tra virgolette diciamo così tracciano la line di quella che poi sarà appunto la resistenza in Italia e quindi la possibilità a parte dei lavoratori di prendere il potere questo valore di questi dirigenti credo che anche se oggi ci occupiamo della nascita del partito comunista credo che debbano avere il loro posto e devono essere appunto dei rivoluzionari che devono essere conosciuti dai militanti a chi si approccia insomma e chi inizia una militanza perché comunque ripeto dopo il 26 insomma il partito comunista italiano ha sicuramente una deriva ma in questa deriva sicuramente una delle figure che credo debba essere conosciuta appunto è quella di Petro Tresso Petro Tresso che come dicevo prima verrà poi imprigionato verrà insomma torturato racconta come all'interno insomma delle prigioni attraverso poche lettere insomma che ha avuto a disposizione di poter scrivere come i rapporti tra chi sosteneva le idee del marxismo quello genuino quindi appunto seguiva seguiva Tros che chi invece aveva seguiva invece Stalin erano rapporti molto tesi si litigava insomma all'interno c'erano accese discussioni e il più delle volte si cercava di ignorare perché poi lo salimismo a questo è arrivato cioè l'eliminazione fisica di chi si opponeva alle loro politiche di fatti Tresso subì questa sorte perché poi fatto evadere da questo carcere dove comunque c'erano anche altri compagni che si chiamavano alle lettere di Troschi lui fu appunto ammazzato da un dirigente locale stalinista che era proprio un agente che quindi insomma subì questo tipo di sorta ecco credo che oggi conoscere anche queste figure crede che possa sicuramente insomma aiutare di parte della formazione di ogni singolo compagno perché poi quella generazione appunto del partito comunista non ha permesso diciamo alle leggi genuine del marxismo di poter vivere in Italia e per poter riconoscere insomma poi le idee appunto di Troschi dovremmo aspettare la fine appunto della resistenza nella seconda guerra mondiale insomma perché queste idee potessero comunque continuare a circolare anche qui in Italia mi fermo qua grazie ringrazio molto Domenico e ne approfitto per ricordare che Domenico Minadeo ha fatto una relazione video più estesa proprio su questo argomento sulla vita e l'attività rivoluzionaria di Pietro Tresso che è pubblicata sul nostro canale YouTube e che ovviamente invito tutti ad andare a vedere per approfondire questo argomento colgo l'occasione visto che Domenico citava la questione appunto della della degenerazione stalinista della repressione da parte stalinista e anche fine di un'opera di falsificazioni per per annunciare per chi non lo sa o ricordare a chi già lo sa la nostra ultima pubblicazione che è questo libro Lenin e Trotsky per cosa lottarono veramente che è un testo che offre davvero una eccellente risposta a tutta una serie di falsificazioni da parte stalinista rispetto alla vita e alle idee e all'attività di Trotsky in particolar modo nel tentativo di staccarlo dalla storia del bolshevismo e in particolar modo dalla figura dalla figura di Lenin cercando invece di creare una continuità fra Lenin e Stalin e poi diciamo anche fra tutto quello che fu la il cosiddetto socialismo reale e il regime burocratico stalinista al di là della figura individuale di Stato questo testo è stato scritto nel 1969 in risposta proprio a un articolo di uno stalinista dedicato a Trotsky e nella risposta a questo articolo di Monty Johnston è occasione per ripercorrere alcune delle elaborazioni fondamentali di Trotsky dei dibattiti del partito bolshevico e anche dei dibattiti nel periodo della incipiente burocratizzazione del regime del regime sovietico e peraltro è arricchito da una serie di testi aggiuntivi fra cui le ultime lettere scritte da Lenin in cui proprio si vedeva come pur fra mille difficoltà per le sue condizioni di salute Lenin vedeva bene lo sviluppo di questa burocratizzazione e tentò e di fatto propose a Trotsky un fronte un blocco proprio per cercare di fermare questa deriva che stava appunto prendendo sempre più forza all'interno dell'apparato statale e di conseguenza nel partito nel partito bolshevico molte di queste lettere furono tenute nascoste negli archivi per decenni addirittura appunto alcune sono state pubblicate successivamente alla stessa pubblicazione che noi qui che noi qui abbiamo abbiamo inserito e è un'opera di ricostruzione diciamo così della verità storica e molto utile appunto per la formazione di qualunque militante militante rivoluzionario quindi vi consiglio di andare a cercarlo Lenin e Trotsky per cosa lottarono veramente lo trovate ovviamente in tutte le nostre sezioni locali ma anche nella nostra libreria online che si sta man mano arricchendo di nuovi titoli e che diciamo anche in questa fase in cui è più difficile incontrarsi fisicamente è una riserva di teoria di teoria marxista adesso vi mettiamo in chat anche la pagina della libreria della libreria marxista detto questo lascio la parola a Francesco Giuliani per il suo intervento dopo il quale parlerà Emilio Di Lorenzo Grazie Alessio spero che i compagni mi perdoneranno se inizio con una citazione che può apparire eccentrica di quanto ha detto in radio un paio di giorni fa Zingaretti in occasione del centenario della nascita del centenario esatto della nascita del Partito Comunista d'Italia segretario nazionale del PD ha sostenuto la tesi non nuova peraltro che il Partito Comunista ricercò nell'ambito del Movimento Comunista internazionale di costruire e qui lo lo cito una variante europea democratica rispettosa della libertà e rinnovata nel suo profilo ideale e programmatico quindi una variante diremmo nelle sue parole democratica del comunismo e che il PC fu lo cito di nuovo un grande partito nazionale fondatore della della Repubblica ora non si tratta qui di prestare troppa attenzione o credito alle tesi di Zingarete si tratta di capire che cosa echeggia però in questa affermazione fatta in una in una in una radio di di area PD e che è già un'attesi molto vecchia e che possiamo sintetizzare così sin dalla stalinizzazione del PC degli anni 30 di cui ci ha parlato molto bene domenico appena ora e soprattutto dopo la fine della seconda guerra mondiale il gruppo dirigente del PC ha cercato il più possibile di separarsi di allontanarsi da quella che era stata la sua radice da quella che era stata la rivoluzione d'ottobre ed il bolshevismo questo allontanamento era già stato un fatto negli anni negli anni 30 un fatto che però data la profondità come dire della della nascita del del movimento comunista e anche della profondità della 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 storia del radicamento del partito comunista italiano delle aspirazioni rivoluzionarie che ha incanalato a quel gruppo dirigente che aveva mantenuto la bandiera rossa ma solo formalmente a quel gruppo dirigente sono occorsi diversi decenni per liberarsi anche formalmente di quel di quel vincolo e in questa operazione un ruolo particolare ce l'ha avuto la deformazione del del pensiero di Gramsci a partire da Togliatti a partire dal dalla fine degli anni 30 e ancora di più con la nascita del partito nuovo nel 44 Togliatti ha cercato di separare in ultima istanza Gramsci dalla rivoluzione d'ottobre e da Lenin Gramsci diciamo la sua traiettoria il suo destino è dovuto in primo luogo a questa scelta del PC di Togliatti successivamente anche all'epoca per esempio di Berlinguer e del compromesso storico tra PC e democrazia cristiana negli anni settanta sempre Gramsci è stato utilizzato per accreditare delle svolte a destra del PC cioè quando il gruppo dirigente di quel partito scendeva più apertamente in campo per gestire le contraddizioni del capitalismo e per fare da pompiere rispetto a situazioni di offensiva della classe operaia situazioni anche pre rivoluzionarie beh quando il PC giocava questo ruolo bisognava in qualche modo ancora negli anni settanta giustificarlo teoricamente e così anche in Berlinguer Gramsci diventa un'immaginetta un santino che si deve il più possibile distorcere e in qualche modo invocare a sostegno di una propria linea politica interclassista di unità nazionale quindi diciamo antimarxista fino fino al midollo Gramsci è oggi di gran lunga la figura più nota in Italia e all'estero del movimento comunista italiano di quella che fu la sezione italiana dell'internazionale comunista però bisogna dire che all'epoca né negli anni venti né negli anni trenta non svolse mai funzioni di primissimo piano nell'internazionale comunista le sue energie furono consacrate soprattutto sul terreno come dire nazionale sul terreno del lavoro della sezione italiana della terza internazionale diversamente tanto da Bordiga che aveva una prospettiva come dire internazionale più chiara Bordiga ebbe un ruolo importante sebbene anche di opposizione a Lenin nei primi anni della terza internazionale e diversamente anche da Togliatti che negli anni trenta invece ebbe un ruolo centrale nella internazionale comunista stalinizzata Togliatti per esempio fu il capo dei commissari politici delle brigate internazionali in Spagna e che cosa voleva dire questo quello che è un uomo che impose da una posizione di primo piano la linea del soffocamento della rivoluzione sociale in Spagna nel trentasei trentasette ora la la traiettoria di Gramsci invece è molto più legata alle vicende alle vicende italiane anche la sua immagine imbalsamata è stata utilizzata soprattutto appunto dal gruppo dirigente del PC per giustificare le proprie svolte a destra oggi la situazione per alcuni aspetti è paradossale tra i garanti della fondazione Gramsci noi annoveriamo tra i peggiori dirigenti liberali e riformisti provenienti dall'ex PC Veltroni D'Alema Cuperlo il ministro attuale delle Gualtieri Fassino insomma un vero e proprio museo degli orrori questo perché prima lo stalinismo e poi la socialdemocrazia diciamo PDS DS e anche PD hanno sempre cercato di deformare ma anche di avere il monopolio su quel Gramsci deformato utilizzarlo in qualche modo per sostenere la propria la propria politica quindi abbiamo a che vedere con la come dire se analizziamo il pensiero di Gramsci e come è stato mummificato con un problema che arriva fino all'oggi anche bisogna dire tutti i cascamide di quella che era la sinistra radicale chiamata la sinistra radicale fino a qualche anno fa insomma adesso sono forze residuali come Rifondazione Comunista il PC il PC di Rizzo insomma tutta quella galassia lì con diversi accenti non critica la continuità tra Gramsci e Togliatti gli accenti appunto possono essere diversi ma su un punto nessuno sgarra non si può dire che ci fu su terreni fondamentali una rottura tra Gramsci e il partito nuovo di Togliatti per sostanziare queste affermazioni spesso quindi la continuità Gramsci togliatti in ambito politico ma ci sono anche esponenti come dire accademici di questa tendenza spesso si sono utilizzate delle citazioni dai quaderni dal carcere di Gramsci quindi le note che Gramsci scrive negli anni finali della sua vita quando il fascismo il regime fascista lo ha privato della libertà spesso queste citazioni anzi di norma queste citazioni sono messe fuori dal loro contesto e rarissimamente sono messe in relazione col percorso politico complessivo di Gramsci da un punto di vista marxista di chi oggi prova a leggere Gramsci e la storia del PC per capire qual è il patrimonio rivoluzionario alle nostre spalle e come cambiare il mondo oggi ecco è analizzare Gramsci e i quaderni dal carcere senza metterli in relazione con lo sviluppo politico di Gramsci col dibattito nel movimento comunista internazionale è un metodo sbagliato e che non può che portare a conclusioni di comodo sbagliate e dunque non utili a chi vuole capire il mondo per trasformarlo ora per verificare se Gramsci è stato veramente come si sostiene da Togliatti in poi l'anticipatore della linea di unità nazionale democratica che il PC ha praticato durante la resistenza e poi anche dopo noi abbiamo una via maestra secondo me per darci una risposta seria andare a vedere cioè che cosa quali erano le prospettive delineate da Gramsci rispetto alla caduta del fascismo e al ruolo e alle parole d'ordine che i comunisti avrebbero dovuto avanzare in quella in quell'occasione in quella in quella prospettiva ora nel 1926 diciamo il PC con Gramsci alla testa formula le tesi di Lione di cui insomma si sente si sente talora parlare ma raramente si trovano delle analisi puntuali in queste tesi di Lione i delegati appunto del partito chiaramente danno una risposta su quello sulla natura del movimento che rovescerà il fascismo la risposta è molto chiara il fascismo sarà fatto crollare magari a seguito di una di una dispatta militare questo non viene escluso ma il movimento che farà crollare il fascismo avrà una natura proletaria operaia leggo la tesi numero 4 brevissimamente il capitalismo è l'elemento predominante nella società italiana e la forza che prevale nel determinare lo sviluppo di essa da questo dato fondamentale deriva la conseguenza che non esiste in Italia possibilità di una rivoluzione che non sia la rivoluzione socialista nei paesi capitalistici la solo classe che può attuare una trasformazione reale e profonda è la classe operaia queste sono parole molto chiare che configurano una natura anticapitalista diciamo così socialista del movimento che abbatterà il fascismo e che assegnano alla classe lavoratrice dell'industria il ruolo centrale dominante il motore nella in questo in questo processo ora tutto questo suona abbastanza lontano dalla linea tattica di un togliatti che nel 44 su ordine di Stalin si accoda si integra nel governo Badoglio fa cadere la pregiudiziale antimonarchica e soprattutto dice è vietato fare come in Russia perché perché l'Italia deve ancora compiersi una piena trasformazione borghese quindi la resistenza è soltanto un movimento dal carattere democratico tesi che appunto è implicitamente contestata da da Lione e più avanti le tesi di Lione insistono dicendo dicendo che qualora il regime fascista fosse stato abbattuto sotto come dire con delle masse dirette da gruppi antifascisti sedicenti democratici queste sono le parole del del programma di Lione questo non potrebbe essere che il frutto di un tradimento di una debolezza del partito rivoluzionario che dunque sarebbe stato scavalcato da forze riformiste che attraverso parole d'ordine di libertà giustizia democrazia e varie altre astrazioni vuote avrebbero guidato come dire su un binario morto il movimento contro il fascismo impedendogli di diventare un movimento contro il capitalismo quindi nelle tesi di Lione in realtà c'è anche l'avvertimento del pericolo che riformiste liberali potessero deragliare parlando di Costituzione democrazia eccetera un movimento di massa di classe contro il fascismo ma la di Gramsci possiamo vedere anche altro perché quando nel 1930 altri compagni ne hanno parlato quindi andrò velocemente su questo c'è la il social fascismo cioè l'internazionale comunista adotta l'idea che socialdemocrazia e fascismo siano stele gemelle e che la crisi del fascismo in Italia sia imminente e che sono inutili le parole d'ordine democratiche Gramsci si oppone si oppone ma non da un punto di vista democratico puramente democratico come è stato fatto ritenere in seguito da Togliatti Berlinguer e i loro epigoni perché come ricorda in una relazione che fa al PC Atos Lisa nel 1933 Atos Lisa è un funzionario del PC che passa trascorre un breve periodo in carcere con Gramsci a quello che lui dice e la fonte è assolutamente affidabile è un rapporto che lui manda alla direzione clandestina del PC la posizione di Gramsci è che si deve essere a favore della parola d'ordine invece dell'assemblea costituente ma i comunisti secondo Gramsci debbono partecipare all'assemblea costituente essendo da un lato i più audaci sostenitori delle libertà democratiche di sciopero di stampa di associazione eccetera ma anche sostenendo l'assoluta illusorietà di una transizione al socialismo per via parlamentare quindi con una posizione che fa piazza pulita anche delle successive lucubrazioni togliattiane sulla via italiana ovvero sia nazionale democratica e parlamentare al 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 socialismo Gramsci avrebbe avrebbe detto che attraverso i propri rappresentanti e qui cito Atos Lisa l'azione del partito deve essere intesa a svalutare svalutare tutti i progetti di riforma pacifica dimostrando alla classe lavoratrice italiana come la sola soluzione possibile in Italia risieda nella rivoluzione proletaria e questa si dice proprio che sono parole chiare ora la questa posizione certo è simile a quanto nello stesso momento e indipendentemente avevano elaborato Troschi e i tre Solionetti e Ravazzoli i dirigenti troschisti italiani che abbiamo già menzionato in particolar modo Troschi scrivendo ai tre nel 1930 dice che il partito comunista non dovrà respingere le esigenze democratiche espresse dalle masse soprattutto perché quando c'è un lungo periodo di negazione delle libertà democratiche di dittatura c'è una come dire la dittatura produce aspirazioni e anche illusioni democratiche giustamente secondo Troschi ma Troschi dice il PC non dovrà rigettare queste esigenze invece al contrario cito qui Troschi dovrà imprimere loro l'aspetto più audace e più categorico che sia possibile perché non si può imporre la dittatura del proletariato alle masse popolari non si può realizzarla che conducendo la battaglia la battaglia a fondo per tutte le rivendicazioni le esigenze e i bisogni transitori delle masse e alla testa di queste masse quindi qui peraltro è già abbastanza chiaro il metodo della rivendicazione transitoria che poi Troschi avrebbe sviluppato negli anni successivi e anche la critica persistente a quel puro propagandismo che oggi abbiamo appunto ripreso e ha avuto tanto ruolo alla nascita del Partito Comunista d'Italia questa coincidenza di posizioni naturalmente non significa che ci sia una che si possa definire come dire una particolare vicinanza tra Gramsci e l'opposizione di sinistra una vicinanza complessiva e su questo entriamo voglio entrare su altre questioni appunto contenute nei quaderni perché se noi andiamo a vedere quale posizione Gramsci sviluppa rispetto a Trotsky nei quaderni ci sono giudizi approssimativi forse anche giudizi talora grossolani e noi ne dobbiamo capire la logica la dinamica perché Trotsky e Gramsci era piuttosto al corrente del dibattito che esisteva in Unione Sovietica anche se senz'altro non aveva capito e tematizzato il processo di degenerazione burocratica dell'URSS e poi dell'internazionale comunista in ogni caso i Gramsciologi riformisti per provare a stiracchiare Gramsci in un senso riformista spesso usano una frase che molti di voi avranno già sentito molto spesso la cito per come dire rinfrescarla a tutti Gramsci a un certo punto scrive in Oriente lo Stato era tutto la società civile era primordiale e gelatinosa nell'Occidente tra Stato e società civile c'era un giusto rapporto e nel tremolio dello Stato si scorgeva subito una robusta struttura della società civile lo Stato era solo una trincea avanzata dietro cui stava una robusta catena di fortezze e di case matte questa probabilmente la citazione del passaggio chiave dei quaderni dal carcere per comprendere da un lato io credo alcuni limiti politici di Gramsci dall'altro le deformazioni che hanno trasformato Gramsci che comunque rimase sempre un comunista un rivoluzionario che lo hanno trasformato per fini di bassa bottega in un riformista pantofolaio sostenitore di una battaglia puramente culturale contro questa società cosa vuol dire Gramsci con quella citazione secondo Togliatti e i suoi epigoni vuol dire sostanzialmente che in Russia e negli stati capitalisti più arretrati la rivoluzione poteva concepirsi anche appunto attraverso un coronamento insurrezionale attraverso la presa del potere ma che fondamentalmente la presa del potere era un elemento storico del passato delle aree periferiche e residuali del capitalismo ma nei paesi del capitalismo avanzato Europa in primis Europa occidentale in primis quel momento quell'ottobre 17 era irripetibile era utopico era sbagliato e credo che molti di noi risuonino delle discussioni che abbiamo potuto avere nel passato soprattutto a chi ha qualche anno in più perché c'è un vero e proprio utilizzo riformista di questa nota di di Gramsci il quale ha una responsabilità a mio avviso nell'aver accentuato nell'aver caricato i tratti della differenza tra oriente e occidente come li chiama lui in questo c'è un primo errore fattuale a mio avviso proprio di analisi storica di quella che è stata la rivoluzione russa che è scoppiata in alcune città a partire da Pietrogrado che non erano affatto l'oriente gelatinoso la concentrazione della classe operaia a Pietrogrado era superiore nettamente rispetto al livello di concentrazione della classe operaia a Torino, Milano, Londra o Parigi a Pietrogrado nel 17 il 40% della classe lavoratrice che si contava centinaia di migliaia lavorava in fabbriche con più di mille lavoratori c'era un capitale concentrato frutto di grandi anche investimenti del capitale straniero e dunque non si può come dire appiattire questa Russia sulla Russia delle campagne quindi l'Oriente come dire la Russia del 17 non era tutta una cosa gelatinosa ma aveva uno sviluppo diseguale e combinato d'altra parte che iniziare la rivoluzione in Russia sarebbe stato più facile che in Occidente ma che sarebbe stato più difficile continuarla per il basso livello delle forze produttive della Russia stessa questa era opinione condivisa banalmente da tutto il bolshevismo delle origini da Lenin da Trotsky e per esempio nella difficoltà maggiore della presa del potere in Europa occidentale ne scrive anche Trotsky quando nei suoi scritti militari per esempio ci dice questo cito in paesi altamente sviluppati con enormi centri abitati con una guardia bianca già militarmente inquadrata la guerra civile può assumere ed in molti casi senza dubbio assumerà una fisionomia assai meno dinamica molto più serrata vale a dire un carattere affine alla guerra di posizione questo passaggio molto profondo di Trotsky concettualizza che appunto il bolshevismo non è affatto come dire la tradizione che ha reso grezzo il marxismo anzi l'ha sviluppato e l'ha affinato come nessun altro ha fatto e dunque nella misura in cui Gramsci calca tra l'Oriente dove si può fare l'assalto al cielo dove l'insurrezione ha una sua giustificazione quindi dove ci può essere anche oltre la guerra di posizione la guerra di manovra l'assalto frontale e un occidente dove che sembra appunto solo terreno della guerra di posizione ecco su questo su questa opposizione che Gramsci a mio avviso carica eccessivamente gli epigoni hanno potuto aprirsi delle brecce e alla fine arrivare a sostenere che più o meno con dei sede ma probabilmente che il Gramsci dei quaderni alla fine è più maturo perché ha capito che in Europa occidentale in America non si può più fare come in Russia quindi è più maturo perché ha capito che ha ragione i riformisti questa è una conclusione naturalmente che fa innanzitutto un torto a Gramsci ma che mostra l'utilizzo strumentale di Gramsci da parte di generazioni appunto di epigoni mantenendo che ci sono esitazioni tentennamenti se non è mancanza di chiarezza in alcuni passaggi di Gramsci che per esempio in un'altra nota su questo rapporto tra Oriente e Occidente guerra di posizione guerra di movimento scrive l'ultimo fatto del genere cioè guerra di movimento nella storia della politica sono stati gli avvenimenti del 1917 cioè la rivoluzione russa essi hanno segnato una svolta decisiva nella storia dell'arte e della scienza politica in cui poi dopo si capisce che Gramsci intende che come dire è stato un punto finale probabilmente il 1917 rispetto alla storia dell'arte e della scienza politica ora è difficile arrivare a conclusioni definitive talora su Gramsci perché naturalmente i quaderni non sono delle un'opera compiuta sono un'opera che è stata edita postuma e dunque in qualche modo anche presentandola come opera compiuta come nuova teoria che avrebbe superato il marxismo si è compiuta un'operazione filologicamente scorretta ma perché è orientata politicamente da da determinati interessi ma perché poi e qui chiudo questo Gramsci che accentua come dire l'enfasi sulla necessità della guerra di posizione in occidente cioè conquistare pazientemente l'egemonia tra le masse e fin qui ogni marxista non può che essere d'accordo perché questo Gramsci più volte attacca Trotsky nelle note dei quaderni ad esempio appioppandogli la teoria dell'offensiva quindi appioppandogli una teoria non di Trotsky in base alla quale la caratteristica del proletariato nella lotta politica deve essere quella di andare sempre all'offensiva quindi accusando Trotsky di non aver capito l'arte dell'egemonia e dunque di non avere una strategia adeguata per la rivoluzione in occidente e di essere una sorta di Napoleone che vuole esportare la rivoluzione con le baionette oppure un cadorna Gramsci parla di cadormismo politico è una metafora cadorna generale esercito italiano che sosteneva militarmente una sorta di teoria dell'offensiva per cui bisognava andare sempre avanti poi è arrivato Caporetto a forza di andare sempre avanti poi sono andati tutti indietro e Trotsky però sostiene esattamente il contrario tanto nei dibattiti nei primi anni della terza internazionale in cui è proprio lui nel 21 a criticare i teorici dell'offensiva sul terreno politico e dell'arte militare Trotsky dice il punto nella lotta di classe e nella strategia rivoluzionaria non è chi attacca per primo ma è chi sa quando attaccare e quando difendersi e io penso e qui concludo che le esitazioni di Gramsci le critiche non fondate di Gramsci a Trotsky facciano parte del suo percorso politico che prima dell'arresto è un percorso politico legato alla fase della bolshevizzazione della terza internazionale che non ha appunto niente a che fare col bolshevismo ma è chiamata così nella misura in cui è la prima fase in cui alla discussione politica si sostituiscono metodi burocratici e organizzativi lo stesso Gramsci viene messo in sella del partito comunista nel 1924 quando è in minoranza viene messo in sella con una manovra guidata da Zinoviev che era allora presidente dell'internazionale perché Gramsci si adegua più di Bordiga a quella linea e si adegua anche a criticare Trotsky nel conflitto che era appena scoppiato nel partito comunista dell'Unione Sovietica e Gramsci dunque quando anche a fine anni 20 inizia a avere dissidi con la terza internazionale tende a mettere un cuneo tra sé e Trotsky tende a voler smarcare la sua critica dalla Lega Comunista Internazionale dall'opposizione di sinistra internazionale e in qualche modo esprime su molti terreni una vicinanza con un'altra opposizione quella di destra guidata da da Bukharin col quale Gramsci era stato d'accordo già da metà anni 20 quando sosteneva con Bukharin che la NEP la nuova politica economica in Russia dovesse essere approfondita e che Bukharin proponendo l'approfondimento della NEP stesse applicando correttamente il concetto di egemonia di egemonia impostando correttamente i rapporti tra contadini e operari quindi c'è a mio modo di vedere una difficoltà da parte di Gramsci di tematizzare la degenerazione burocratica dell'Unione Sovietica e del movimento comunista che lo porta a tenere le distanze da da Trotsky e dalla linea come dire che è autenticamente prosegue e aggiorna il marxismo e che è la bandiera appunto e anche il corpo di analisi che ci dobbiamo portare dietro nelle battaglie del futuro con ciò non significa che Gramsci non sia stato per tutta la sua vita un comunista e un militante contrariamente a quanto si suggerisce alla fine in tanti circoli accademici e che dunque non possiamo come dire permettere senza ribattere che venga assorbito dai riformisti che egli con tutte le oscillazioni del mondo però che Gramsci combatte per tutta la sua vita morendo da comunista grazie ringrazio molto Francesco per questo suo contributo ora interviene Emilio Di Lorenzo dopo di lui ha la parola Marzia Ippolito prego Emilio salve compagni grazie Alessio Amadeo Bordiga è di sicuro la personalità che fece da che funse da maggiore propulsione nella formazione del partito comunista d'Italia la storia di Bordiga è una storia singolare nel movimento comunista nel movimento operario anche a livello internazionale tanto che appunto si è strutturata una corrente del pensiero comunista appunto il bordichismo la biografia politica di Bordiga però è una serie di battaglie che spesso vengono messe in secondo piano rispetto a quelle che erano diciamo le sue idee più conosciute che sono già la situazione dell'assenzionismo in primis in realtà Bordiga si fa notare già fin da giovane nella federazione giovanile socialista dalle pagine dell'avanguardia che era l'organo di stampa della federazione si scaglia contro il il culturismo che è appunto promosso da da tasca secondo il quale i giovani dovevano formarsi e quindi privilegiare lo studio Bordiga vi si oppone in realtà i giovani si dovevano formare all'interno delle lotte delle lotte giovani socialisti si riferisce è importante notare che già nei primi anni della sua militanza Bordiga guarda la dimensione nazionale del partito socialista italiano ma in qualche modo l'area politica della sezione napoletana condiziona la sua formazione e le sue idee una condizione che si porterà insomma quasi per tutta la vita Bordiga infatti nasce a Resina vicino a Napoli nel 1889 da una famiglia piuttosto piuttosto agiata il padre è un professore di economia economia agraria e cresce quindi in un contesto borghese tuttavia quasi da subito da giovanissimo Bordiga prende le distanze da questo da questo ambiente e inizia fin dai tempi del liceo affannosa lettura dei classici del marxismo già a 21 anni aderisce al partito socialista italiano che come lo strumento appunto di emancipazione della della classe operaria tuttavia fin da da subito Bordiga si accorge della della natura della sezione napoletana del partito socialista che lo diceva anche Vittorio della relazione nei primi dieci anni del novecento era una una sezione composta principalmente da notabili da professionisti e quindi diciamo pezzi della borghesia che sostenevano appunto l'area più di destra del partito socialista e quindi quella che in qualche modo si faceva abissolati oltre anche dei massoni e alcuni pezzi del sindacalismo rivoluzionario quello che teneva in piedi insieme tutte queste varie formazioni erano appunto gli interessi elettorali infatti appunto la sezione del PSI è tra quelle che diciamo più sono proiettate verso l'elettoralismo il 2 aprile 1912 Bordiga prendendo atto appunto di un tale livello di degenerazione del partito socialista esce da questa organizzazione e fonda il circolo Carlo Marx insieme a un gruppo di suoi compagni che lui stesso chiama socialisti rivoluzionari ed insieme proveranno a sviluppare una politica autenticamente rivoluzionaria che si contrapponeva appunto al blocco diciamo socialista che avviera insomma in tutto il napoletano rientrerà nel PSI solamente nel 1904 dopo l'espulsione dei massoni in questi anni Bordiga appunto riprendendo appunto il controllo della sezione napoletana del partito italiano si rende appunto protagonista e sostiene le lotte degli operai napoletani in particolare durante la settimana rossa dobbiamo considerare che in particolare a Napoli e nelle zone diciamo limitrofe vi erano numerose numerose che comunque creavano diciamo degli elementi che aveva che erano appunto attrattivi nei confronti appunto di un impariato e che in qualche modo diciamo erano gli elementi che facevano da contraddizione rispetto ad un'economia prevalentemente agraria che era in tutto il meridione d'Italia tuttavia appunto lo svilupparsi di queste lotte anche diciamo l'aggressività del padronato in particolare a Napoli rendono diciamo classico a Bordiga come nei fatti anche il meridione d'Italia sia parte appunto completamente assoggettato al sistema capitalistico nazionale italiano e che quindi anche rispetto a quanti dicevano che nel sud Italia bisognava sviluppare il capitalismo Bordiga appunto si contrappone a questa idea e fa appello alle mobilitazioni di tutti gli operai del sud Italia nelle lotte operaie napoletane però la CGL che era nei fatti ancora diretta da dirigenti riformisti era e traghettò appunto quelle lotte su un terreno elettorale per Bordiga dunque diventa sempre più chiaro che è necessario dare una battaglia ai riformisti nelle organizzazioni operaie e lottare per un partito rivoluzionario vi furono una serie di eventi anche di carattere internazionale che fecero da spartiacco in questa battaglia in questa guerra di cui già diceva appunto Vittorio e altri compagni sulla questione appunto di Bordiga sulla sua posizione che era di convocare uno sciopero generale per ostacolare l'entrata in guerra contro dell'entrata in guerra dell'Italia a differenza appunto della parola d'ordine né aderire né sabotare ma anche appunto la questione della rivoluzione russa e la possibilità di una rivoluzione in Germania incidono sul rivoluzionario napoletano che da questo punto di vista inizia a fare appunto delle riflessioni sul partito e sulla necessità appunto di rompere con i riformisti queste riflessioni diventano sempre più più frecute e nei fatti a partire da questo si formano appunto quelli che sono i capoesaldi del pensiero di Bordica che sono in particolare del partito e la posizione è astensionista quello che spinge Bordica a queste nuove elaborazioni è la necessità di imporre una lotta intransigente ai riformisti che inquinavano appunto con le loro idee proletariato italiano e con lo sviluppo della rivoluzione e per fare questo Bordica si serve nei fatti di una rilettura eccessivamente dottrinaria del antismo la teoria marxista dello Stato nella lettura bordigliana viene completamente estremizzata e gli parte appunto da un principio corretto cioè che lo Stato è uno strumento nelle mani della della borghesia e però appunto deve questo questo principio deve essere parte però di una visione strategica all'interno di un processo rivoluzionario di lungo periodo per Bordica invece quel principio diventa la leva sul quale costruire il partito rivoluzionario un punto decisivo del programma in altre parole nella concezione di Bordica programma tattica e strategia si sovrappongono in maniera meccanica quindi quello che manca a Bordica nei fatti è una visione dialettica della della teoria rivoluzionaria ovvero la capacità di mettere in relazione una strategia libera una tattica flessibile il principio della natura borghese dello Stato diventa in Bordica un punto imprescindibile del programma del partito ovvero astenersi dai parlamenti dai parlamenti borghesi e quindi il partito doveva concentrare tutte le sue forze per costruire l'introzenario al momento opportuno e nei fatti questo diventa l'elemento su quale Bordica forgia la sua lotta contro i riformisti e quindi anche contro Serrati ma rimane comunque diciamo un problema sostanziale ovvero come quella che appunto è una posizione strategica viene fatta percepire alle masse cioè il problema appunto di come conquistare ampie masse strati delle masse proletarie non arriva appunto a Bordica e come appunto è stato già detto questo diventa aspetto di una discussione al secondo congresso dell'internazionale comunista dove appunto Lenin attraverso i suoi scritti l'estremismo malattia infantile del comunismo polemizza con i sinistri che sostengono che il parlamentarismo è superato e che quindi è necessario appunto una lotta che sia solamente rivoluzionaria non utilizzando appunto il Parlamento il Parlamento borghese Lenin fa notare appunto che ampi strade del proletariato europeo guardano ancora le forze alle forze parlamentari e che dunque per Lenin è necessario utilizzare una e quindi utilizzare anche lo stesso Parlamento come una tribuna per il programma rivoluzionario e anzi al tempo stesso utilizzare dimostrare alle grandi masse che il riformismo impersonificato appunto nella forma di farti eleggere nelle istituzioni borghese che appunto la risposta adeguata ai bisogni delle classi sfruttate è necessario invece un lavoro paziente che mira appunto alla conquista del proletariato e degli altri degli altri strati della società come i contadini e la piccola borghesia questo di certo significava abbandonare il terreno della lotta di classe di classe appunto della militanza più agitativa basata appunto sui riscioperi e sul processo appunto di lotta anzi per l'en era fondamentale per un partito rivoluzionario riuscire a coniugare la lotta legale legale con quella illegale nei fatti il rapporto tra avanguardia e massa è una questione che non trova mai una risposta esaustiva e che diventa un problema anche nella sua concezione del partito che risulta sempre più settario soprattutto a partire dagli anni dopo la fondazione del partito comunista d'Italia e quindi appunto diventa un partito che deve essere ideologicamente omogeneo e che in qualche modo non riesce poi a parlare alle grandi masse che appunto possono vivere anche fasi di arretramento nella nella crescita come detto appunto questi sono alcuni lo dicevano anche altri compagni i principali errori che poi ha commise che appunto erano basati su quella che era stata l'esperienza che Bordiga aveva vissuto nella sua sezione nella sezione ma anche nella battaglia nel PSI dopo e che lo portano appunto a una svolta che nei fatti non riempie quella che è anche la tradizione la tradizione bolshevistica ed è per questo che poi a Bordiga vengono attribuate tutta una sottolineato che comunque Tino diciamo che è rimasto in vita è rimasto comunque un rivoluzionario autentico e che non ha necessità di una rivoluzione come strumento di emancipazione per la classe operaia grazie Emilio allora io ho ancora se ho segnato bene cinque interventi segnati che sono Marzia Ippolito Massimiliana Piro Roberto Sarti Jacopo Renda e Claudio Bellotti prima delle conclusioni di Franco Babila quindi se mi fossi perso qualcuno vi chiedo di segnalarmelo la parola ce l'ha Marzia Ippolito dopo di lei Massimiliana Piro sì compagni esisteva nel partito comunista una minoranza di destra in alcune fasi il suo peso politico divenne rilevante specialmente insieme all'internazionale che la riterrà la frazione più affidabile per il compimento della sua linea la destra è guidata da Angelo Tasca che sin dall'ascissione di Livorno è un dirigente del partito comunista con una lunga storia nel movimento sindacale e in quello socialista lo spazio che la destra riesce a conquistare all'interno del partito è innanzitutto legato all'estremismo della direzione di Bordiga di cui parlava Emilio prima e al rapporto conflittuale tra questa e l'internazionale comunista la destra inoltre si nutre anche dell'assenza in Italia di una frazione bolshevica che avesse introiettato e messo in pratica il metodo rivoluzionario al pari di altri Tasca aderisce all'ascissione di Rivorno perché trae la conclusione che l'esito del bienio rosso è innanzitutto dovuto all'immobilismo del partito socialista italiano ed è per questo che se ne distacca diversamente da altri però al problema della direzione per Tasca si somma anche la diversa analisi sulla condizione della classe Tasca non si potesse ottenere nulla di più se non una rivoluzione democratica per lui non esistono in nessun momento le condizioni per fare come si è fatto in Russia nel nel 17 il filo conduttore di questi anni del suo pensiero è quello della sfiducia nei mezzi della classe questa analisi è la proposta è quella proposta per il bienio rosso ma è la stessa che fa anche per la prima guerra mondiale in cui appunto un periodo in cui la lotta doveva essere per la conquista delle libertà democratiche la sua è un'impostazione culturalista insiste sulla necessità di elevare la coscienza delle masse con lo studio e questo sarà il cuore della contrapposizione che apre con Bordiga e che lo differenzia innanzitutto rispetto alla concezione del partito nel 21 e maggiormente nel 22 in occasione del quarto congresso dell'internazionale comunista si pone la necessità del fronte unico se però nel terzo congresso questo è concepito come strumento di attacco della classe in un contesto che viene reputato come rivoluzionario nel quarto congresso la situazione cambia il 22 l'anno infatti dell'avanzata della reazione che vede la borghesia attaccare i lavoratori sul terreno economico e la cui veste politica è proprio l'avanzata del fascismo il fronte unico viene teorizzato per unire la classe a partire dalle sue organizzazioni di riferimento ma anche per smascherare i tradimenti della socialdemocrazia e dei riformisti Bordiga non accetterà mai questa tattica ammettendo al massimo un fronte unico dal basso o un fronte unico sindacale e pone fondamentalmente l'accento sull'idea dello smascheramento al settarismo di Bordiga Tasca legge invece il fronte unico innanzitutto come la possibilità di poter ricucire lo strappo che si era aperto a Livorno con il partito socialista dalla scissione di Livorno infatti il partito comunista era effettivamente rimasto un partito di dimensioni modeste e questo infatti era il punto di partenza della proposta di fronte unico dell'internazionale la differenza sostanziale era che però se da una parte l'internazionale comunista riconosceva l'esigenza di conquistare il proletariato che si orientava anche al partito socialista italiano per Tasca invece l'accento è posto sul raggiungimento di un accordo tra i vertici dei due partiti la sua era una prospettiva sbagliata anche rispetto a dove stesse andando il partito socialista italiano ancora nel 22 Tasca infatti vede aperta la possibilità di un'ulteriore espansione del partito socialista che in realtà però si era chiusa già nel 21 nei primi mesi del 22 infatti si assiste al balzo in avanti dello squadrismo agrario che colpisce gravemente soprattutto il partito socialista italiano e nel 22 infatti potremmo effettivamente dire che il PSI è un partito ormai in completa disgregazione poco prima della marcia su Roma avviene l'ascissione all'interno del partito socialista con i turatiani e sono i mesi in cui Nenni si oppone fondamentalmente alla fusione tra i due partiti Tasca teorizza la necessità di creare una forza popolare di maggioranza proprio per sconfiggere l'avanzata del fascismo e arriverà nel 23 a dire a Mosca che il fronte unico deve essere un fronte unico esteso non solamente ai due partiti socialisti ma anche al partito popolare e al gruppo dei giolittiani che si raccoglieva intorno al quotidiano la stampa sono questi i suoi primi passi verso la liquidazione del partito e sono anche gli anni in cui si amplifica la divaricazione su diverse concezioni del partito c'è in realtà sullo sfondo una diversa analisi sulla natura del fascismo che per Tasca è innanzitutto un movimento della piccola borghesia che può essere strappata alla reazione attraverso delle manovre di alleanza e di neutralizzazione Borbiga invece contrariamente a quanto fa Tasca accentua il carattere autenticamente borghese della reazione tra il 23 e il 24 il peso di Tasca all'interno del partito e soprattutto il suo peso all'interno dell'internazionale è massimo sono i cosiddetti anni dell'interregno tra la direzione di Bordiga e quella della frazione del centro guidata da Gransch e da Togliatti che assumerà la guida del partito comunista con il congresso di Leone Gramsci nel 24 arriverà a dire che nel braccio di ferro tra la direzione italiana e l'internazionale comunista la minoranza di destra poteva presentarsi come la maggioranza internazionale nel 24 con l'approfondimento della repressione e a maggior ragione dopo il delitto Matteotti l'interpretazione di Tasca soprattutto quella in riferimento al fronte unico si spinge ancora più a destra e si accentuano in particolare i suoi elementi interclassisti e legalitali siamo nel 24 chiaramente il fronte popolare deve ancora essere teorizzato ma quello che propone Tasca ha molto più in comune con questo che non con il fronte unico leninista sono inclusi nel suo ragionamento infatti tutti i partiti che in ultima analisi sono disposti a lottare contro il fascismo nel 27 Tasca dirà che nella lotta antifascista la testa del movimento sarà presa da chi saprà realizzare intorno a sé l'unione con più larghi strati della popolazione la sua è una visione gradualista che è presente anche nel suo libro più famoso e mi riferisco a Nascita e Avvento del fascismo che se da una parte è utile per capire quali sono gli elementi alcuni tratti del regime di Mussolini dall'altra però approda continuamente alla necessità della rivoluzione democratica il suo peso nel partito durerà fino al congresso di Lione e la sua frazione sarà poi messa ai margini da Gramsci e da Togliatti che riguciranno i rapporti con l'internazionale che però è un internazionale ormai già sulla strada della degenerazione si noterà che però come diceva anche Francesco e Giuliani prima alcune delle delle di tasca saranno poi assorbite dalla nuova direzione del partito comunista in particolare quella sulla concezione del partito quella sulla questione delle alleanze con le altre organizzazioni e sul gradualismo queste concezioni emergeranno già negli anni 30 ma poi saranno un tratto tipico del partito comunista in particolare negli anni 40 e successivamente a questi grazie grazie Marzia ora c'è Massimiliana Piro a seguire Roberto Sarti se Massimiliana riesce a riattivare l'audio ok ci sono? perfetto ti sentiamo vai allora a proposito dell'errore di Gramsci storico diciamo di non riconoscere e dare spazio alle ragioni di Trotsky negli anni 20 errore gravissimo che ovviamente se non fosse stato compiuto avrebbe sicuramente passato un testimone molto diverso alle generazioni successive e io mi chiedevo diciamo ascoltando i compagni se il clima in cui nasce questo errore sia qualcosa che abbia a che vedere con quel clima che si respirava ancora negli anni 70 nel PC degli anni 70 e cioè il vero e proprio entusiasmo che i lavoratori italiani avevano verso ciò che era successo in Russia nel 1917 ciò che questo rappresentava in opposizione alle condizioni di sfruttamento che vivevano ogni giorno sotto il capitalismo e mi chiedo se in qualche modo Gramsci non avesse una vera e propria resistenza anche di tipo psicologico a cogliere in quegli anni la gravità di quanto stava avvenendo in Unione Sovietica pur essendo appunto un dirigente attento probabilmente io penso ci fossero anche in qualche modo delle resistenze a capire quanto fosse grave la situazione in quel momento questo questo soltanto perfetto grazie Massimiliana ora c'è Roberto Sarti e dopo di lui Jacopo Renda arrivo eccolo l'intervento breve mi ha preso un po' di sorpresa ecco allora penso che questo dibattito che noi stiamo conducendo ormai le diverse ore che ho visto interventi tutti di ottimo livello sia senza nessuna senza pecare di modestia il migliore dibattito che si stia facendo sulla nascita del Partito Comunista in qualunque ambito già molti hanno hanno parlato di alcune posizioni imbarazzanti degli ex dirigenti del Partito Comunista Italiano faccio una battuta per iniziare il mio intervento il giornale che in Italia si dice ancora comunista cioè il manifesto nel suo speciale dava spazio per definire appunto meglio cosa fosse l'edità del Partito Comunista Italiano oggi a Mattia Santori il leader delle Sardine che riesce a sprecare una colonna appunto di carte quindi di alberi dicendo varie amenità di cui non vi intratterrò oltre quello che su cui volevo incentrarmi il mio intervento era comunque soprattutto sull'ascito sull'edità e sul dibattito che raffigura soprattutto di Gramsci anche di Bordiga ma soprattutto di Gramsci ha lasciato nel mondo della sinistra e soprattutto dell'estima sinistra e delle organizzazioni che fanno riferimento al toschismo per condurci in questa analisi penso che sia giusto partire da una frase famosissima di Gramsci cioè che la verità è rivoluzionaria la verità è rivoluzionaria non solo nelle azioni ma anche nel dibattito politico è necessario presentare le posizioni di tutti i dirigenti di tutti gli esponenti del movimento operaio e del movimento marxista per quello che erano e non per quello che vorremmo che fosse oppure che non vorremmo che fosse una discussione seria deve partire per forza dalla verità dalla verità storica e quindi partire come stiamo facendo in questo dibattito come ha fatto Francesco Gigliani nel suo ottimo intervento e nel suo ottimo articolo che vi faccio tutti a leggere da nei grandi aspetti positivi del Consiglio di Gramsci un rivoluzionario un comunista ma anche dai suoi errori non possiamo avere una posizione ageografica di Gramsci per cercare di essere introdotti nel movimento comunista ufficiale come era qua come è stato per tanti anni qua in Italia o nel mondo accademico della nuova sinistra come è per altre in altri in altri paesi e per molti decenni si è sviluppata una una posizione nel genere che cercava di accumulare il pensiero di Trotsky a quello di Gramsci un libro molto famoso che alcuni di noi con i capelli non più del proprio colore ma grigi acquistò fu questo all'opposizione con Trotsky e Gramsci diversi dirigenti questo è Roberto Massari ma anche Lilo Maitan ma anche Antonio Moscato della che fanno differenza al trotskismo in questo paese cercano di sviluppare una similitudine tra il pensiero di Trotsky e quello di Gramsci è una similitudine che non è giusto fare anche per per lo stesso per per lo stesso Gramsci per rendere giustizia al suo pensiero c'è poi recentemente un libro appena pubblicato in italiano che circola da tempo in spagnolo di un dirigente del PTS che è un'organizzazione partito lavoratore del socialismo in Argentina un'organizzazione che fa riferimento al trotskismo intitolato il marxismo di Gramsci che continuamente ripropone questa questa analogia il diciamo oltre a questo Dalmaso già lo spiega in varie interviste dicendo che comprendendo Gramsci riesco a capire meglio Trotsky questa operazione però si sviluppa prima di tutto in una generale omertà sugli aspetti più scabrosi fra virgolette delle azioni di Gramsci cioè tutto il periodo della bolscivizzazione che altri compagni hanno hanno spiegato tutto il periodo appunto della lotta contro Bordiga che aveva la maggioranza del partito e a cui fu sottratta con metodi burocratici vengono diciamo messi veramente in secondo piano trattati in poche in poche righe tutto il periodo decisivo del dibattito sulla degenerazione della rivoluzione russa anche questo viene lasciato come un errore quello si ammette ma senza comprendere che fu un errore decisivo non capire quello che si stava sviluppando in una sovietica anche perché nel dibattito c'era una corrente quella della opposizione sinistra con gli Trotsky che stava sviluppando la posizione giusta quindi c'è veramente la posizione che sbalordisce di omertà su una serie di questa era l'idea la parola che mi è venuta in mente per prima di omertà su quello che sono state alcune azioni importanti di Gramsci quando fu dirigente fu dirigente del partito poi si conduce un'operazione di parallelismo un po' ne ha già parlato Francesco Gigliani tra il concetto di egemonia e il concetto di rivoluzione permanente addirittura Dalmaso dice che l'egemonia è spiega l'egemonia come meccanica della rivoluzione permanente ora i due concetti però non si possono assimilare a parte che Gramsci la rifiutava apertamente certo ci sono delle intuizioni in Gramsci nelle tesi di Leone anche in quaderni che possono avvicinare il pensiero di Gramsci a tutta una serie di concezioni di Trotsky però qua non è solo una questione di diverso teorico la posizione di Trotsky è molto più chiara più vicina più completa rispetto al marxismo di quella che era di Gramsci anche nella realtà e anche nell'applicazione nell'applicazione pratica lo abbiamo spiegato nei nostri articoli ma quando Gramsci alla guida del partito durante la crisi della crisi Matteotti il diritto Matteotti sviluppa delle alternative politiche appunto al governo del fascismo le sviluppa in maniera confusa e poco corretta dalla questione dell'antiparlamento alla questione dell'assemblea repubblicana sulla base dei comitati per i contadini criticata dallo stesso Trotsky nella lettera ai tre cioè le nette tre se la vazzoli e in varie corrispondenze con i borghisti Trotsky giustamente spiegava che era scorretto basare una proposta di transizione democratico borghese come era un'assemblea repubblicana perché è una repubblica una delle forme della della democrazia borghese con degli strumenti tipici della rivoluzione socialista cioè dei comitati per ai chi avrebbe avuto la leggemonia per riprendere questa parola in questa in questa in questa dialettica sui due organismi di potere questo non era molto chiaro affatto nella proposta della direzione del PCD nella crisi Matteo ci sono poi anche un'altra serie di questioni che vengono esagerate alcune ho già parlato della famosa lettera del partito della direzione del PCD dell'esecutivo del PCD a Mosca dell'ottobre del 26 poi criticato da Togliato in questa lettera sicuramente Gramsci fa delle critiche ma le critiche alla direzione del PCD sono soprattutto di metodo Gramsci critica la direzione del partito comunista russo perché pensa che voglia stravincere ma in nessuna parte di queste lettere e nemmeno nella risposta che poi Gramsci farà con gli atti c'è una differenziazione politica tra la linea del PCD russo e l'acquisizione di Gramsci che come in altri interventi è stato giustamente sottolineato in quel periodo servicinava più la posizione di Bukarin che allora era un blocco con Stalin sulla necessità di prolungare la NEP quindi al limite non abbiamo potuto sapere se questa critica sarebbe stata sviluppata in futuro per il resto di Gramsci e la sua detenzione era più vicina alla appunto alla posizione della posizione della destra della Bukariniana ora compagni noi non dobbiamo avere nessuna paura quando sviluppiamo la nostra la nostra argomentazione i nostri articoli le nostre discussioni a spiegare la realtà storica per quello che è Gramsci è stato un revoluzionario un revoluzionario importante un comunista ma i Trotsky sono state le organizzazioni attorno alla quattro internazionale è stata la nostra organizzazione la tendenza narcista internazionale è stato Ted Grant che ha elaborato in una maniera migliore più compiuta più complessiva il marxismo dopo Lenin su tutta una serie di questioni sull'analisi dello stalinismo sulle rivoluzioni norenti dell'occidente sulla tattica del fronte unico sulla rivoluzione coloniale perché questo? perché Trotsky era più intelligente di altri? sicuramente era più intelligente di tutti noi quadradunati questo con tutto rispetto per chi mi sta ascoltando questo secondo me sicuro però cento volte più intelligente era sottoscritto però la questione centrale è che la battaglia la discussione e l'elaborazione teorica su cui si basava Trotsky era basata scusate la rettizione sul bagaglio organizzativo e teorico del boscivismo su un bagaglio organizzativo e teorico di decenni di discussione di lotta politica fra le varie tendenze del momento operario e questo cosa fa capire che la grande superiorità dell'analisi di Trotsky di 20 anni e 30 era questa si basava su delle fondamenta molto solide anche sugli errori di Trotsky sulla questione del partito che quando li comprese come spiegò Lenin non ci fu nessun bolshevico migliore di Trotsky cosa significa questo per concludere il mio intervento che un partito non si può improvvisare e nemmeno una direzione rivoluziale non si può improvvisare ha bisogno di studio di lavoro teorico di confronto dell'elaborazione teorica con la realtà che ci circonda di discussioni sul patrimonio storico del marxismo e del comunismo quello che stiamo facendo oggi è quello che dobbiamo continuare a fare per riuscire a garantire finalmente a cento anni dalla fondazione del partito comunista d'Italia che la vittoria del socialismo sia garantita non solo in Italia ma a livello internazionale grazie grazie Roberto ora c'è Jacopo Renda perfetto a seguire Claudio Bellotti per l'ultimo intervento prima delle conclusioni prego il 21 gennaio abbiamo assistito nei media borghesi anche nel ricordo delle formazioni della sinistra italiana più che al centenario della nascita del partito comunista d'Italia all'anniversario dei 100 anni del partito comunista italiano noi giustamente ci siamo soffermati nel periodo di fondazione nei primi anni della storia del PCD però credo che possa essere utile un breve ragionamento su perché non solo non c'è continuità tra il partito comunista di Gramsci e Bordiga e quello di Togliatti Longo e Berlinguer ma addirittura il secondo sia frutto di una serie di rotture politiche dal punto di vista sia organizzativo che politico il PCI per essere ciò che è stato ha dovuto negare cancellare falsificare le origini del comunismo italiano e il primo strumento attraverso il quale lo ha fatto è l'utilizzo di Gramsci Togliatti torna in Italia alla fine del marzo 44 per la cosiddetta svolta di Salerno e per il settimo anniversario della morte di Gramsci scrive sull'unità due articoli nell'aprile del 44 proprio nei quali Ercoli prova a riesumare Gramsci per non sembrare colui che torna a cambiare la linea politica storica del comunismo italiano e semplicemente come un esecutore di Mosca e quindi Togliatti rilegge Gramsci a luce del settimo congresso dell'internazionale comunista che si era svolto nell'estate del 35 quello sui fronti popolari che sostanzialmente subordina gli interessi del movimento operaio a la borghesia la cosiddetta borghesia progressista e questa in realtà è lo sviluppo di un ragionamento che era già stato presentato in un documento del marzo del 1941 che come spiega Dimitrov nei suoi diari era frutto della conversazione e della linea che Stalin aveva imposto a Togliatti e al partito italiano in quel momento l'Italia subisce dei rovesci dei Balcani nella guerra si inizia a sviluppare anche nella classe operaia italiana una maggiore critica al fascismo c'è un pezzo della borghesia che inizia a pensare che Mussolini è un ingombro perché teme la rivoluzione e su questo terreno Togliatti individua la contraddizione su cui su cui puntare ed è per questo appunto che Togliatti fa appello anche diciamo nella rielaborazione di Gramsci alla parte sana del paese propone una politica nazionale nella quale scompare la borghesia come nemico ma viene sostituita con la politica reazionaria delle classi dirigenti il che appunto fa pensare che ci possa essere una borghesia progressista è qui che si inizia che si nega lo stato però il contadino delle tesi di Lione che si trasforma in uno stato di tipo nuovo e che poi diventerà l'elaborazione della democrazia progressiva di Togliatti viene fatto questo sul piano sul piano politico e nello stesso momento diciamo si continua una battaglia che è già iniziata negli anni 30 che sostanzialmente mentre il comunismo italiano si trasforma rispetto a quelle che sono le sue origini e apre alla collaborazione di classe si porta avanti una battaglia molto dura nei confronti degli oppositori questi vengono al confino in carcere esclusi dai collettivi politici vengono esclusi dal soccorso rosso che è quel sistema che faceva in modo che le famiglie dei comunisti potessero continuare a vivere mentre i loro parenti erano incarcerati erano al confino e quindi non potevano sostentare la famiglia una battaglia politica che si combatte con armi estremamente sporche che arrivano anche come succede nel caso di Leonetti che è emigrato in Francia a essere denunciato dagli attivisti del PC stalinizzato perché non aveva i documenti in regola con tutto quello che ciò comporta per un lavoratore in un paese straniero come disse Terracini vengono messi al bando nel partito e questo mentre subiscono allo stesso tempo la repressione fascista e questo non è casuale che accada tra l'altro è molto interessante che nei confronti della nuova opposizione italiana si pratica un'espulsione praticamente immediata alla sua fondazione nell'aprile del 1930 mentre i processi di allontanamento dal partito di Bordiga e di Tasca erano stati molto più lunghi erano durati un periodo di anni di divergenze e di polemiche Togliatti quando torna in Italia si preoccupa di cosa fa Bordiga ma dice una cosa ancora più importante espellere il bordighismo è più importante che espellere Bordiga cosa vuole dire con questo vuole dire che è necessario lottare aspramente depurare il partito nuovo dallo spirito rivoluzionario che è lo spirito di Livorno che è lo spirito dei primi anni del partito comunista d'Italia che in ultima analisi è lo spirito dell'internazionale comunista questo viene fatto appunto su vari terreni su quello politico ma anche su quello dello stracismo come ho spiegato già in precedenza che peraltro ha anche dei un utilizzo spesse volte delatorio l'ultima cosa che voglio dire è che l'evoluzione di questa cosa è il pensiero di Enrico Berlinguer Berlinguer nel secondo dei tre articoli che scrive su Rinascita nel 1973 per giustificare il compromesso storico dice quanto segue è necessario ricordare sempre le ragioni di fondo che ci hanno portato a elaborare e seguire quella strategia che Togliatti chiamò di avanzata dell'Italia verso il socialismo e la democrazia e la pazza è noto che le origini di questa elaborazione sono nel pensiero e nell'azione di Antonio Gramsci e del gruppo dirigente che si raccolse attorno a lui e lavorò nel corso del suo insegnamento il congresso dell'Iuno del 26 sancì la vittoria della lotta contro l'estremismo e il settarismo che avevano caratterizzato l'azione del partito nel primissimo periodo della sua esistenza e che lei ne aveva aspettato e questo evidentemente è il tentativo ancora una volta di cancellare di infangare e di falsificare la storia per l'evoluzione politica in ultimo nel 1981 Enrico Berlinguer utilizzò l'ascesa al potere del generale Jaruzelski in Polonia per dire che si era esaurita la spinta dell'ottobre e questo evidentemente compagni è la manifestazione finale di un processo l'incapacità di leggere il fenomeno dello stalinismo a livello internazionale produce che di fronte a una dinamica come quella che si è sviluppata negli anni 80 nei paesi stalinisti e in particolar modo nel caso specifico dell'81 nel caso Sbelli in Polonia produrrà poi quello che è stato l'ultimo approdo e cioè la manifestazione più evidente del processo di social democratizzazione del partito comunista italiano attraverso quello che è stato l'eurocomunismo oggi discutere le ragioni di fondo il programma certamente anche i limiti ma i limiti dentro un quadro appunto che è quello dei punti di adesione all'internazionale comunista è che è quello di una politica che si colloca dentro una politica rivoluzionaria ma discutere del partito comunista d'Italia oggi ci dice anche che cosa abbiamo da criticare e quale parte della storia del comunismo italiano non solo non rivendichiamo ma crediamo che vada combattuta anche nelle scorie e nei residui che ci lascia nel dibattito politico di oggi grazie a Jacopo colgo l'occasione dell'intervento di Jacopo per segnalare un'altra pubblicazione pubblicata da tempo dalla nostra organizzazione ma aggiunta molto di recente sulla nostra libreria online che è questo opuscolo sulla resistenza che affronta proprio quello che spiegava in una parte del suo intervento Jacopo e cioè il ruolo di freno e di tradimento del partito comunista della sua direzione verso quella che fu una mobilitazione rivoluzionaria e il contributo a ricostituire la parata dello stato borghese negli anni subito a cavallo e subito successivi della fine della seconda guerra mondiale a questo punto lascio la parola a Claudio Bellotti per l'ultimo intervento prima delle conclusioni prego ah sì però prego grazie ma devo dire che il livello degli interventi è stato molto approfondito per cui vorrei limitarmi alcune osservazioni sulla rilevanza e sui nessi che questa discussione ha per il lavoro che noi facciamo oggi in Italia e a livello internazionale alcune cose sono già state accennate nell'intervento di Roberto per esempio noi cioè quello che balza agli occhi se pensiamo alla fondazione del partito comunista d'Italia e per la verità di quasi tutti i partiti comunisti in quegli anni è la rapidità frenetica del processo che costringe dirigenti quadri poi militanti in generale politici ha un'accelerazione violentissima in cui pagano e pagheranno il prezzo appunto di non aver avuto alle spalle la maggior parte di loro appunto quell'accumulazione teorica e politica che invece c'era stata nel partito bolshevico Gramsci nel 1917 è permettetemi quasi il ragazzo di bottega della redazione torinese dell'Avanti inizia a scrivere lì perché la maggior parte dei quadri sono indisponibili perché c'è la guerra sono arruolati sono mobilitati eccetera togliati è uno che ancora non sa se farà della politica della militanza il centro della sua vita Tasca e Bordiga sono quadri più sperimentati sicuramente la preminenza di Bordiga nel processo della scissione non è una posizione abusiva deriva diciamo da una sua precisa azione che si radicava lo accennava Emilio anche nella battaglia di cui lui comunque si era fatto protagonista già prima della guerra contro alcune delle manifestazioni più clamorose del riformismo nel PSI così come Tasca aveva una storia nella CGL nel movimento sindacale che sicuramente gli dava un peso maggiore in questo e appunto nel 1921 dunque dopo pochi due tre quattro anni al massimo si trovano a dover fondare un partito nel mezzo di una rivoluzione in questo prendiamo le misure perché noi facciamo spesso giustamente il paragone col partito bolshevico però ovviamente non va visto diciamo come il modello e diciamo gli esempi che non arrivarono al modello la questione è un po' più complessa la storia del partito bolshevico è piena di errori e processi di apprendimento ovviamente Trotsky ci mise dal 1905 al 1917 per correggere il suo errore quello che lui chiamava il suo fatalismo il suo ottimismo fatalistico sulla questione del partito quello che appunto gli impedì di aderire prima alla corrente e poi al partito bolshevico Lenin ci mise circa allo stesso tempo 12 o 13 anni per formulare in maniera completa quella che era una posizione parziale sulla rivoluzione che si aspettava in Russia cioè per passare dalla sua teoria della rivoluzione della cosiddetta dittatura democratica degli operai dei contadini alla prospettiva di una rivoluzione proletaria in Russia anni peraltro densi di avvenimenti questi anni non li hanno a disposizione né Gramsci né Togliatti ma tutto sommato neanche Bordiga e Tasca che pure appunto avevano magari un profilo più definito ma erano sempre all'interno di quell'alveo che è stato descritto anche nella relazione e non avevano neanche la stessa connessione col dibattito internazionale dell'internazionale socialista però anche su questo ricordiamoci che lo stesso Lenin almeno fino al 1912 si considera un ortodosso seguace della seconda internazionale di Karkowski in particolare e ancora nel 19... cioè ci vuole la guerra come sappiamo nel 1914 perché maturi definitivamente la idea della rottura della necessità della nuova internazionale e appunto abbracci la famosa espressione di Rosa Luxemburg quando dice adesso capisco adesso possiamo dire perché Rosa Luxemburg ha definito la socialdemocrazia un fetido cadavere appunto quando i riformisti si schierano per la guerra per la prima guerra mondiale nei rispettivi paesi questa debolezza politica questa scarsa insufficiente diciamo base teorica si traduce in che cosa? Si traduce in degli errori di unilateralità che prova ad accennare non c'è il tempo ma che secondo me sono importanti perché hanno una connessione anche con fenomeni politici che vediamo oggi Gramsci ha come è stato anche accennato per un lungo periodo lungo almeno rispetto alla rapidità degli avvenimenti una posizione incompiuta sulla questione della scissione del partito di come formare il partito comunista e c'è indiscutibilmente nel periodo dell'occupazione delle fabbriche cioè parliamo tra il 19 e il 20 nel bienio rosso un suo eccessivo ottimismo sul fatto che il movimento possa risolvere di per sé il problema della direzione non che lui non si ponga il problema della direzione del movimento però sicuramente non lo vede nella stessa maniera chiara con cui lo vedeva il partito e questo è un errore che noi sentiamo a fare ancora adesso spesso da militanti benintenzionati che di fronte alla debolezza politica alla frantumazione delle forze della sinistra anche di chi sono considerati rivoluzionari eccetera pensano che la risposta sia semplicemente guardare dove ci sono le lotte beh Gramsci e in quel momento anche Togliatti che ancora diciamo era nella sua ombra e gli altri a Torino ce l'avevano un movimento di massa avevano un movimento che nel momento di punta abbracciava centinaia di migliaia di operai che aveva una struttura consigliare appunto dei consigli di fabbrica che aveva diciamo addosso l'occhio su di sé l'occhio di tutta la classe operaia italiana e non solo eppure questo non bastò a risolvere il problema della direzione anzi lo mise ancora più in evidenza in maniera ancora più drammatica infatti appunto proprio dopo quella sconfitta che ruppero gli indugi arrivando a maturare l'idea dell'inevitabilità della scissione in tempi rapidi un altro elemento di debolezza e questo penso che si vede sia nel massimalismo e sia nel bordeghismo anche se in forma diversa è quello di cercare e anche questo lo vediamo anche oggi di cercare la la formula risolutiva cioè la come posso dire la clausola di sicurezza quella che ti garantisce che per il bordeghismo era appunto l'astensionismo parlamentare e per il massimalismo anche in precedenza nella tradizione socialista il fatto di dire no alla collaborazione di classe cioè noi non entriamo nei ministeri borghesi nei governi borghesi ma poi magari accettavano questo che è un tratto appunto di molti gruppi di molti gruppi che hanno spesso poi l'evoluzione settare è proprio quello di tentare di trovare come dire la formula che per la sua rigidità ti garantisce della tua debolezza politica ti garantisce contro la possibile degenerazione questi sono tutti gli aspetti con cui noi ci confrontiamo tutti i giorni se ci guardiamo attorno rispetto a chi cerca appunto di risolvere questo problema della direzione politica del movimento operaio di una direzione rivoluzionaria dove spesso queste debolezze tornano a manifestarsi io volevo toccare l'ultima cosa perché ho già parlato parecchio mi sembra molto importante la domanda che ha posto Massimiliana anche se faccio un salto in una fase successiva sul ruolo che Gramsci ebbe di fronte allo stalinismo sicuramente ci fu c'è un episodio interessante che non riguarda direttamente Gramsci ma secondo me denota uno stato d'animo che è raccontato da Ignazio Silone che è un testimone diciamo da prendere con le molle ma che credo che in questo caso sia affidabile quando nel 1927 Silone che era ancora un dirigente del TCC è contogliato a Mosca all'esecutivo dell'internazionale comunista in cui verranno sancita l'esclusione di Trotsky di Zinovich Silone torna estremamente demoralizzato dallo spettacolo che ha visto la prevaricazione le calugne le menzogne non ho tempo di raccontare tutta la storia tornando parla con Pietro Tresso e dice cosa pensi come la vedi mi sembra di essere diciamo in mezzo ai processi dell'inquisizione e Tresso dice cosa vuoi che ti dica speriamo che una rivoluzione futura in Italia finisca meglio di come è finita in Russia poi Tresso in realtà smettì questo aderendo all'opposizione di sinistra come si diceva prima però io credo che c'era un ripiegamento e un elemento localistico se vogliamo provincialistico di non capire che nessuna organizzazione nessun partito poteva avere una traiettoria propria che fosse indipendente dallo sviluppo internazionale che era preeminente io credo che questo ci fu in Gramsci credo che c'è molto di questo nella sua piegarsi come si spiegava prima con quella lettera alle tesi preminenti alle tesi che venivano da Stalin e nella illusione di poter salvare diciamo il partito Silone racconta anche che quando si raccontò quella riunione nelle cellule clandestine ormai a Milano lui stava e dice ci furono dei compagni che proposero di andare davanti alle fabbriche milanese a scrivere sui muri viva Trotsky poi dopo scesero a più miti consigli però questo dimostra anche lo shock che causò quegli avvenimenti perché dico questo l'ultima osservazione che faccio io vorrei richiamarmi a un testo che non c'entra con questa discussione in senso stretto che abbiamo pubblicato di Ted Grant che si chiama il programma dell'internazionale in un punto in cui riflette sulla degenerazione delle internazionali operai precedenti della seconda della terza internazionale e anche della quarta quando dice questo penso che va al cuore della domanda di Massimiliano quando dice quei processi erano oggettivi lo stalinismo aveva una base oggettiva il riformismo aveva una base materiale e dunque forse a determinate condizioni non era possibile in quel momento sconfiggerli dice ma questo non assolve quei dirigenti quei quadri che si sono piegati o che hanno assecondato questo processo cioè l'analisi oggettiva non può mai sostituire a quello che è la scelta e l'azione soggettiva di un partito di un gruppo dirigente di un quadro di un'organizzazione questo secondo me è un punto che noi dobbiamo avere sempre chiaro e cioè il nostro studiare il movimento operario il nostro cercare di conoscere anche con discussioni come questa non è volto diciamo a dire che la nostra teoria si basa semplicemente su un accumulo di grandi conoscenze serve a dare le basi per un'azione che è sempre permettetemi la parola volontaristica per un'azione che è sempre consapevole naturalmente deve basarsi sulla realtà oggettiva se no volontaristicamente ci si va a sbattere contro un muro ma è l'esatto contrario diciamo di quel fatalismo o di quel meccanicismo a cui accennavo prima e che invece fu fatale alla fin fine allo spirito rivoluzionario che aveva animato la nascita del partito comunista e che lo fece prima degenerare e poi soccombere nei decenni successivi e penso che questo è un punto che noi dobbiamo sempre avere presente nelle nostre discussioni nel nostro lavoro di formazione grazie a Claudio per questo ultimo intervento direi che abbiamo avuto 15 interventi penso che abbiamo avuto un eccellente dibattito a questo punto lascio la parola a Franco Bavila per concludere questa discussione concordo con tutti i compagni che hanno detto che abbiamo avuto una discussione ottima è stato un pomeriggio lungo e impegnativo ma anche soddisfacente gli interventi hanno toccato tanti aspetti diversi ma tutti estremamente importanti e questa discussione dimostra che non siamo noi qui oggi così per celebrare i bei tempi andati cosa che verrebbe la tentazione di fare visto lo stato in cui si trova la sinistra da un po' di tempo in questo paese ma se noi siamo qui oggi a fare questa discussione è perché pensiamo che innanzitutto una rivoluzione una battaglia politica rivoluzionaria se necessaria oggi di fronte alla crisi del capitalismo un capitalismo che si trova di fronte a una crisi economica un capitalismo che è incapace di gestire quelli che sono i grandi problemi che abbiamo di fronte la pandemia ad esempio dove nessuno dei sistemi sanitari anche dei paesi più avanzati si è dimostrato minimamente in grado di coprire quelle che erano le esigenze dettate dalla diffusione dell'epidemia o pensiamo allo scempio che stiamo vedendo con il ruolo delle multinazionali sulla questione dei vaccini dove anche qui non si è in grado di dare le forniture necessarie e che sarebbero necessarie ai differenti paesi per garantire un piano di vaccinazione adeguata in tutti i paesi che sono estremamente colpiti dalla malattia ma questo è solo un esempio potremmo prendere tutti i temi che sono stati di attualità pensiamo alla questione del cambiamento climatico di come anche qui l'economia capitalista non si è in grado di offrire una via di uscita ai problemi ambientali pensiamo anche al degrado in cui sono ridotte le istituzioni politiche borghesi noi qua in Italia siamo reduci da una crisi di governo che tutti avete avuto modo di vedere le caratteristiche che ha assunto indecorose ma potremmo ma non è che negli altri paesi la situazione sia migliore da questo punto di vista quello che è accaduto nell'ultima settimana negli Stati Uniti in particolar modo nella sede del Parlamento americano eccetera dimostra il livello di debolezza di crisi in cui si trovano le vecchie istituzioni del potere politico in tutti i principali paesi capitalisti e di fronte a questo una rivoluzione è necessaria e per chi come noi vuole portare avanti oggi una battaglia rivoluzionaria è necessario studiare quelle che sono le tradizioni politiche rivoluzionari del passato e per quanto riguarda noi in particolar modo le tradizioni politiche rivoluzionari nel nostro paese in Italia e ci servono per trarne delle lezioni utili per la lotta rivoluzionaria che dobbiamo fare oggi e per quella che dovremo fare domani e la prima lezione che si può trarre da tutta la vicenda della nascita del partito comunista d'Italia è che un partito rivoluzionario una forza rivoluzionaria un movimento rivoluzionario non lo puoi costruire nel mezzo di una rivoluzione ma devi prepararlo prima e da questo punto di vista l'esempio dell'Italia di cento anni fa è un esempio lampante il partito comunista d'Italia nasce dalla rivoluzione italiana ci sono ci sono le tendenze politiche i dirigenti i bordiga i gramsci i loro gruppi l'ordine nuovo il soviet ma in ultima analisi quel partito nasce dall'esperienza rivoluzionaria che c'era stata in Italia nei due anni precedenti nel 1919 nel 1920 con il biennio rosso che è un'esperienza che non si può sottovalutare perché noi in quel periodo vediamo lotte operaie vediamo scioperi di massa vediamo nelle fabbriche che si creano organismi di contropotere i consigli di fabbrica organismi eletti da tutti i lavoratori all'interno delle fabbriche che rivendicavano il potere di organizzare la vita all'interno dei posti di lavoro ma vediamo anche l'occupazione delle terre da parte dei contadini vediamo ammutilamenti all'interno dell'esercito vediamo l'occupazione delle fabbriche il culmine di questo movimento con mezzo milione di operai che in Italia occupano le loro fabbriche creano delle milizie armate le cosiddette guardie rosse per difendere le fabbriche occupate e all'interno di queste fabbriche occupate provano a far ripartire in mezzo a mille difficoltà provano a far ripartire la produzione questo è stato il bienio rosso del 19 senza di questo non ci sarebbe stato nessun partito comunista in Italia è da lì che che arriva però va detto che il partito nasce quando si forma viene fondato formalmente quando di fatto l'occasione rivoluzionaria è già sfumata quando il processo rivoluzionario si è già concluso inizia una fase di riflusso ed è in quel momento che nasce il partito troppo tardi per poter svolgere il ruolo dirigente che sarebbe stato necessario e da questo punto di vista c'è una differenza enorme con quello che accade in Russia nel 1917 dove anche lì invece il partito si era formato tempo prima la battaglia per costruire un gruppo organizzato si era sviluppata tempo prima anche lì erano passati dei errori fasi estremiste rivoluzioni sconfitte come quella del 1905 ma tutto quel percorso era alle spalle e questo consente a quel partito di arrivare nel 1917 a seguito di un percorso di chiarificazione di maturazione di formazione di quadri che gli consente di cogliere quella che è l'occasione che si presentava di fronte in Italia questo non avviene il partito nasce dopo che le migliori occasioni rivoluzionarie purtroppo sono già sfumate il partito socialista che era il principale partito dell'epoca nel bienio rosso dimostra tutta la sua inadeguatezza di fronte a una situazione rivoluzionaria e non è che in quel partito c'erano diversi problemi il primo è che comunque c'era una consistente minoranza riformista anche nel 1920 e questa era sia una minoranza all'interno del partito ma aveva il controllo del gruppo parlamentare che non è cosa da poco e ancora più importante aveva il controllo del principale sindacato la confederazione generale del lavoro e utilizzerà questa influenza che aveva per determinare l'esito degli avvenimenti per impedire uno sbocco rivoluzionario e per riportare le lotte operai di quegli anni nell'alve di lotte più o meno tradizionali dal carattere sindacale e dall'altra però anche nella sua maggioranza questi massimalisti di cui si parlava prima che appunto difendevano l'obiettivo massimo del socialismo nessun compromesso con i governi borghesi non volevano avere niente a che fare con la guerra imperialista avevano un punto di riferimento nella rivoluzione d'ottobre in Lenin aderiscono entusiasticamente alla terza internazionale però di fronte a tutto questo non c'era nessun preparativo concreto per portare una politica rivoluzionaria concretamente tra i lavoratori sebbene le occasioni ci fossero e ogni volta che nel bienio rosso c'è un'occasione rivoluzionaria i massimalisti dicono che le condizioni non sono ancora mature e bisogna rimandare tutto a un domani migliore quando la situazione sarà più favoreva nell'estate del 19 c'è uno sciopero di due giorni in solidarietà con l'Unione Sovietica e con la Repubblica dei Consigli Ungherese che si era formata proprio in quei mesi i lavoratori pensano che sia l'occasione ma no il Partito Socialista dice non è ancora il momento sarà più avanti ad aprile c'è uno sciopero generale a Torino che si diffonde in tutto il Piemonte che arriva a coinvolgere mezzo milione di lavoratori ma anche quello non è il momento adeguato è un movimento peraltro che ha l'obiettivo di difendere gli organismi di potere dei lavoratori i consigli di fabbrica e in quel momento invece il Partito Socialista in quei giorni doveva fare una riunione a Torino che è l'epicentro della mobilitazione il Partito Socialista sposta la sede della sua riunione la mette a Milano Gramsci imbufalito giustamente commenterà dice a Torino dove c'erano gli operai che lottavano per i loro organismi di potere non sembrava una piazza adeguata per un dibattito tra rivoluzionari il Partito Socialista fa la sua riunione a Milano dove invece si discetta su dei Soviet completamente astratti su come verranno costruiti dopo la rivoluzione su come funzioneranno senza nessun legame con i veri organismi del potere dei lavoratori che erano i consigli di fabbrica e che a Torino stavano conducendo una battaglia per la vita e per la morte questi erano i massimalisti nell'autunno del 20 con l'occupazione delle fabbriche stessa suonata formalmente l'ora è arrivata però quando la CGL i riformisti che guidano la CGL si tirano indietro il Partito Socialista non se la sente di assumere la direzione della lotta e anche qui si rimanderà ma non ci sarà un'altra occasione perché oramai nel giro di due anni i lavoratori hanno dato fondo a tutte le risorse hanno dato vita a mobilitazioni straordinarie con morti feriti la repressione gli arresti e dopo due anni peraltro non solo due anni perché anche durante la guerra a Torino c'erano state delle mobilitazioni straordinarie e dopo inizia una fase di riflusso i lavoratori avevano preso in parola la propaganda rivoluzionaria dei massimalisti e quando vengono delusi per l'ennesima volta questo crea una forte demoralizzazione quegli stessi lavoratori che sembrava fossero così vicini all'occasione di poter prendere il potere una volta che vedono che ancora quando per l'ennesima volta i loro dirigenti tradiscono le loro aspettative a quel punto iniziano a non crederci più ad essere sfiduciati rispetto alla possibilità che questa rivoluzione la si possa fare veramente e appunto proprio sarà sulla base di questa delusione di questo tradimento di questa incapacità del Partito Socialista che si svilupperà effettivamente il Partito Comunista d'Italia e va notato che in quel periodo nel periodo del Bienio Rosso e in particolar modo nel 20 quando ci sono le lotte decisive Gramsci si ritroverà di fatto isolato lui a quell'epoca diciamo all'epoca dell'occupazione delle fabbriche si rendeva appunto dei limiti del 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 massimalismo però il gruppo che aveva intorno a sé il gruppo dell'Ordine Nuovo era un gruppo di carattere solamente locale era radicato a Torino ed intorno non era una forza nazionale e in più all'interno di questo stesso gruppo diciamo questo gruppo dell'Ordine Nuovo non aveva al suo interno delle posizioni omogenee c'è uno scontro tra Gramsci e Tasca che è stato ricordato nell'intervento di Marzia e Tasca sostiene che di fatto i consigli di fabbrica devono tornare nell'alvio delle organizzazioni sindacali tradizionali devono essere diciamo in qualche modo diventare un appendice delle camere del lavoro laddove invece Gramsci vedeva nei consigli di fabbrica lo strumento per sottrarre i lavoratori dall'egemonia della direzione sindacale guidata dai riformisti ma anche con gli altri due principali esponenti dell'Ordine Nuovo Togliatti e Terracini ci sarà uno sconto di fatto Terracini e Togliatti nei mesi prima dell'occupazione delle fabbriche si riavvicinano ai massimalisti e ci sarà nella sezione di Torino un cambio nella segreteria Togliatti diventa segretario con i voti dei massimalisti contro i sostenitori di Bordiga e contro la volontà dello stesso Gramsci che così si ritrova isolato e in quel contesto anche l'intelletto migliore e Gramsci aveva sicuramente un grande intelletto aveva sicuramente grandi capacità se sei isolato se non hai un'organizzazione attorno a te se non hai un partito un movimento una forza politica strutturata con delle idee politiche chiare anche l'intelletto migliore non può combinare assolutamente nulla e questa è una lezione importante se noi qui oggi stiamo a studiare le esperienze del movimento comunista in Italia fin dai suoi albori è perché dobbiamo formarci politicamente dobbiamo trarre le lezioni del passato per arrivare pronti alle sfide che avremo di fronte un domani e questo compito è assolutamente essenziale e peraltro è questo il motivo per cui noi guardiamo al partito comunista d'Italia nato nel 21 è proprio a quello perché il PC è vero lo ricordava Jacopo Renda ha avuto poi una storia molto più lunga ma perché a noi ci interessa proprio il partito comunista d'Italia che nasce nel 1921 però non è che non discutiamo di quello che è successo dopo ma proprio oggi perché ci stiamo concentrando su questo non perché quello fosse un partito perfetto era tutt'altro che un partito perfetto possiamo dire che fosse malato e avesse la malattia infantile del comunismo l'estremismo quella descritta da Lenin nel suo libro e diversi compagni hanno spiegato in che cosa consisteva la linea settaria di Bordiga e nemmeno guardiamo quel partito perché ha avuto una storia particolarmente felice perché è un partito che poco dopo che è nato finisce stritolato sotto i colpi della dittatura fascista e da questo punto di vista il destino personale di Gramsci è significativo di quello che fu il destino di tutto il partito cioè della fine che dovette fare Gramsci morendo dopo anni di prigionia nei carceri fascisti però ci interessa proprio quel tipo di esperienza perché pur con tutti i suoi errori perché pur con tutti i suoi limiti era un partito rivoluzionario anzi per la prima volta nel 21 in Italia i rivoluzionari si danno una propria organizzazione perché appunto il partito socialista non aveva questo tipo di caratteristiche era un partito che si ispira il partito comunista che nasce nel 21 si ispirava alla rivoluzione d'ottobre a quello che avevano fatto i bolshevichi in Russia era parte integrante della discussione all'interno dell'internazionale comunista quella internazionale che era l'internazionale dei suoi primi quattro congressi quella di Lenin e Trotsky che era un'internazionale democratica dove tutti dibattevano con pari diritti e sarà un partito ben diverso da quello che poi verrà ricostruito negli anni della resistenza a partire dal 1943 quel grande PC che poi è stato poi negli ultimi tempi è stato anche in molti casi idealizzato da tanti militanti a sinistra che vedendo il disastro della sinistra italiana negli ultimi anni non potevano che guardare con grande nostalgia all'appoggio di massa di quel che aveva il PC all'enorme forza di militanti che aveva un'enorme fiducia però noi dobbiamo dire che quella grande forza organizzativa quella grande forza di militanti il grande PC l'ha completamente dilapidata in particolar modo in quel PC la linea prevalente era quella di Togliatti era quella che è già stata ricordata della via italiana al socialismo la linea della democrazia progressiva e che era di fatto una politica riformista cioè per cui man mano che il PC si fosse rafforzato all'interno della società capitalista man mano che avesse aumentato il suo peso politico man mano che avesse preso più voti alle elezioni man mano che avesse conquistato più consigli comunali man mano che avesse preso più cooperative man mano che avesse diciamo così esercitato un'egemonia culturale sugli intellettuali eccetera a un certo punto tutto questo avrebbe determinato di arrivare al socialismo senza quegli strappi rivoluzionari quegli strappi violenti quelle rotture violente rivoluzionari insurrezionali che invece c'erano state in Russia nel 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 diciassetto ora non c'è tempo qua di entrare più di tanto però basta vedere qual è che è la prodo cioè la via italiana socialismo sebbene potesse contare su grandi risorse perché c'era un grande partito che sosteneva questo tipo di tesi non ha portato a costruire il socialismo in Italia senza strappi ma ha portato il partito comunista ad adeguarsi sempre di più al sistema capitalista fino all'evoluzione che c'è stata con i vari PDS DS PD e questa triste fine che è stata che è stata fatta invece appunto quello che noi interessa vedere quando il partito comunista era ancora una formazione rivoluzionaria c'era un dibattito al suo interno si scontravano diverse tesi diverse diverse opzioni e sicuramente una delle prime prove che il partito comunista d'Italia ha dovuto fronteggiare è stata quella della reazione perché appunto nasce negli anni in cui si sviluppa viene avanti il fascismo e facendo anni dopo il congresso di Livorno un bilancio di quel congresso di quella scissione Gramsci esagerando con una forte esagerazione avrà modo di dire che la scissione di Livorno era stata la più grande vittoria della reazione nel paese perché appunto aveva staccato i comunisti dalla maggioranza della classe operaia e questo aveva spianato la strada alla reazione è sicuramente un giudizio molto esagerato però pone l'accento su quelli che furono dei problemi che il neonato partito comunista dovette trovarsi di fronte e uno di questi era proprio quello della reazione e da questo punto di vista però bisogna sottolineare come l'internazionale comunista avesse avanzato delle proposte per fronteggiare questo problema quella politica che qua già in molti hanno spiegato quella politica del fronte unico e quello che vorrei sottolineare io qui è che non era solo un dibattito astrato tra due diverse posizioni politiche ma c'erano le condizioni concrete in Italia per applicare quella politica e mi riferisco qui a una cosa che non è stata citata oggi ma che è molto importante a quella degli arditi del popolo cioè questa milizia di ex combattenti che si forma negli anni dell'ascesa del fascismo una milizia armata antifascista che si poneva il compito di contrastare l'avanzata dei fascisti anche sul piano militare chiaramente era una formazione eterogenea aveva una composizione di classe anche eterogenea ma dove c'era una forte connotazione proletaria al suo interno c'erano sicuramente anime differenti ma era una forza reale era una milizia in campo che era in grado che poteva essere in grado di contrastare i fascisti se avesse avuto il necessario appoggio se avesse avuto il necessario sostegno da parte dei socialisti e dei comunisti ma da una parte i socialisti non l'appoggeranno per la loro linea legalitaria è lo Stato che deve difenderci dai fascisti e dall'altro i comunisti non l'applicheranno perché sotto la direzione di Bordiga si rifiutano di entrare in una formazione che politicamente è troppo omogenea in una formazione che non accetta il programma del partito comunista d'Italia e così sarà un'enorme occasione che verrà persa e questo consentirà ai fascisti di dilagare e di imporsi ma delle potenzialità enormi c'erano e basterebbe citare un caso che non si tratta di un caso isolato ma è un caso che fa capire come se si fosse applicata una politica diversa la vittoria del fascismo in Italia sarebbe stata tutt'altro che certa e l'episodio delle barricate di Parma del 1922 quando i militanti socialisti e comunisti infischiandosene delle direttive che arrivavano dalle direzioni nazionali confluiscono all'interno del movimento degli arditi un movimento che ha sicuramente delle caratteristiche eterogenee a Parma ancora di più che in altre parti c'erano anarchici c'erano sindacalisti rivoluzionari anche gente che erano stati interventisti di sinistra cioè avevano sostenuto l'entrata in guerra sulla base di posizioni di sinistra gente che aveva avuto anche una vicinanza col fascismo delle origini del 19 ma poi se ne era staccata gente che aveva guardato l'esperienza di d'annunzio a Fiume all'impresa di Fiume eppure in quel momento quelle forze erano in campo erano armate pronte a difendersi contro l'aggressione fascista i militanti comunisti e socialisti invece di ignorarle entrano dentro in queste organizzazioni e grazie all'appoggio popolare riescono a resistere agli attacchi dei fascisti e l'attacco che viene sferrato nell'estate del 22 contro Parma è un attacco di vastissima scala i fascisti fanno venire squadracci da tutta Italia le fanno confluire a Parma si parla di 10.000 camicie nere guidate da Italo Balbo che era il principale leader degli squadristi che aveva messo a ferre a fuoco un'enorme quantità di città di paesi in tutta l'Emilia Romagna e nel resto d'Italia e a Parma la forza militare è scarsa si parla di alcune centinaia di arditi ma ben sostenuti dalla popolazione nei quartieri popolari della città che costruiscono barricate eccetera riescono a rispingere l'attacco di tutti i 10.000 a questi fascisti questo era quello che sarebbe potuto accadere in Italia seguendo una politica differente questo fa capire dove le conseguenze a cui può portare una politica settaria e quale prospettiva diversa si sarebbe aperta se il partito si fosse posto risolutamente sulla strada del fronte unico non tardivamente ma quando ancora c'erano le condizioni per poterlo fare e fosse stato in grado di respingere gli attacchi dei fascisti in maniera sicuramente più efficace per carità l'esito sarebbe stato comunque però almeno non sarebbe stata una vittoria certa da parte dei fascisti questo è un aspetto che non può essere sottovalutato un'altra cosa sulla quale mi vorrei concentrare è sulla figura di Gramsci molti compagni hanno parlato di Gramsci questo è inevitabile perché purtroppo Bordiga anche se fu lui a svolgere il ruolo principale nella scissione di Livorno del 21 e nei primi anni di vita del partito comunista d'Italia Gramsci di fatto ebbe una posizione subordinata proprio perché si ritrovò isolato nel momento clou Bordiga che invece aveva la sua gruppo organizzato fu lui a dare il tono alla scissione di Livorno fu lui a dare la linea nei primi anni e Gramsci si ritrovò in una posizione subordinata ma Gramsci è la figura che è più conosciuta non solo in Italia ma anche nel resto del mondo ed è quella che ha subito anche più distorsioni mistificazioni che hanno completamente stravolto quella che è quello che era veramente il suo pensiero si può dire che i Gramsciologhi hanno utilizzato Gramsci non per spiegare quelle che erano le vere idee di Gramsci ma per sostenere le loro tesi attraverso le parole di Gramsci e ci sono naturalmente il periodo su cui tutti si sono sempre più concentrati è quello dei quaderni dal carcere però ci furono altri periodi nella vita di Gramsci quello in cui fu il dirigente del Partito Comunista d'Italia tra il 1924 e 1926 prima di essere arrestato e poi forse il periodo che invece è quello che piace di più a noi quello che spesso nelle analisi accademiche su Gramsci viene completamente rimosso viene completamente dimenticato che sono i suoi anni a Torino quando lui è immerso nella principale città operaia d'Italia quella che viene chiamata la Pietrogrado d'Italia sono gli anni del 19 e del 20 sono gli anni del Vienio Rosso gli anni dove c'è una rivoluzione in Italia Gramsci è immerso è immerso nella vita operaia è immerso nei consigli di fabbrica che si creano nelle officine torinesi è il Gramsci che è impegnato nel suo giornale L'Ordine Nuovo dove sviluppa una serie di idee originali estremamente importanti è il Gramsci che è influenzato dalla rivoluzione russa e che si chiede come si possono applicare in Italia le elezioni della rivoluzione d'ottobre qual è l'equivalente del ruolo dei Soviet nella rivoluzione russa chi può svolgere questo ruolo nella rivoluzione italiana e lo individua con una grande intuizione nei consigli di fabbrica che si estendono tra il 19 e il 20 in tutto il paese è il Gramsci che è sempre impegnato in una polemica contro i riformisti e naturalmente questo Gramsci è stato snaturato è stato ricordato l'operazione che ha fatto Togliatti trasformando completamente Gramsci prendendo i concetti di Gramsci di egemonia e di guerra di posizione e tirandoli 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 fino a trasformare Gramsci nel padre della via italiana al socialismo nel padre del nuovo corso riformista del PC e qua è la prima cosa che noi dobbiamo mettere Gramsci nel campo giusto nel campo dei rivoluzionari poi ha sbagliato ha fatto le sue cose ma le ha fatte stando in quel campo e la cosa bella di Gramsci che tutte queste ricostruzioni gli fanno torto soprattutto per un aspetto che anche nei primissimi anni della militanza politica di Gramsci erano anni in cui Gramsci era molto confuso aveva per esempio era molto influenzato dalla filosofia dell'idealismo dalla filosofia di Benedetto Croce e i suoi scritti sono molto confusi risentono di queste influenze in quegli anni ma anche in quegli anni in cui è massima la confusione in cui ancora non è maturato politicamente in quegli anni in cui magari si occupa a Torino di cronaca locale di costume di critica teatrale perché farà anche quel tipo di lavoro nei suoi primi anni anche in quegli anni una cosa chiara Gramsci in testa ce l'ha la polemica contro la tendenza riformista di Turati di Treves c'ha proprio un rifiuto delle concezioni gradualiste che sono delle concezioni che prevedono per la classe operaria la passività gli operai devono restare lì ad aspettare che il socialismo arriverà automaticamente gradualmente sulla base dello sviluppo questa cosa lui la combatte fin da subito anche da quando in testa c'ha la confusione però su questo punto invece è netto fin da subito e quindi trasformarlo nel Turati del secondo dopoguerra è veramente fargli un grande un grande tolto è altrettanto sbagliato e quelli che lo presentano appunto come il grande padre del marxismo occidentale cioè come una versione del marxismo più raffinata più avanzata rispetto a quella un po' grossolana un po' grezzona di Lenin quella di Lenin andava bene appunto nei paesi orientali lì erano tutti un po' barbari erano tutti un po' gelatinosi come ha spiegato Giuliani e allora lì andava bene fare le insurrezioni un po' un po' la vala che vai bene invece in occidente dove la società è più complessa ci vuole il pensiero un po' più un po' più raffinato ora questa tesi va smontata non solo perché nei paesi orientali non era così facile fare le insurrezioni e le rivoluzioni come la presenta e se noi vediamo la storia del partito bolshevico altro che l'insurrezione e l'offensiva continua la storia del partito bolshevico abbiamo pubblicato dei libri in proposito la storia del bolshevismo scritta da Alan Woods abbiamo pubblicato i primi due volumi e pubblicheremo in primavera il terzo è una storia estremamente ricca dove i bolshevichi sono passati attraverso una serie di fasi fasi di riflusso fasi di avanzata fasi di lavoro clandestino fasi di lavoro legale fasi di lavoro parlamentare fasi di lotta armata fasi di insurrezionali fasi di reazione dove bisognava tenere le forze e dove se noi guardiamo nello stesso 1917 la flessibilità tattica con cui i bolshevichi riescono di volta in volta a trovare le soluzioni giuste nelle giornate di luglio nel nel mese di ottobre di fronte al colpo di stato di Kornilov e c'è veramente una varietà di soluzioni tattiche che i bolshevichi mettono in campo nel 1917 che è impressionante rispetto alla quale nessuno nel movimento né socialista né comunista italiano poteva neanche avvicinarsi e da questo punto di vista questo viene completamente messo da parte però Gramsci non si pone come fonda così come qualcuno che vuole innovare ripensare il il marxismo di fatto Gramsci guarderà sempre a Lenin come un punto di riferimento e cercherà di applicare la lezione di Lenin e dei bolshevichi alla realtà italiana e appunto qua già è stata smontata la tesi che i bolshevichi o Trotsky o chi per loro erano sostenitori appunto della teoria dell'offensiva sempre comun anzi nei primi anni dell'internazionale comunista diciamo la verità le parti non esattamente invertite gli orientali come Lenin e Trotsky erano quelli che spiegavano la teoria del fronte unico che i partiti comunisti dovevano prima conquistare la maggioranza dei lavoratori prima di porsi la questione della conquista del potere mentre invece i dirigenti europei dei partiti comunisti di quello tedesco di quello italiano erano gli estremisti che negavano l'esigenza di fare questo tipo di lavoro quindi le parti sono completamente ribaltate e nemmeno si può parlare di un Gramsci spontaneista operaista perché anche questo è stato detto su Gramsci cioè siccome lui dava grande importanza alla questione dei consigli di fabbrica si dice che per lui la via della rivoluzione passava attraverso l'azione indipendente delle masse attraverso i propri organismi appunto i consigli di fabbrica e che negasse in qualche maniera il ruolo del partito rivoluzionario la verità è un'altra perché politicamente nei suoi scritti neanche in quelli più entusiasti sui consigli di fabbrica del 1919 Gramsci non nega mai il ruolo del partito rivoluzionario semmai il suo errore era che ancora nel 1919 pensava che il ruolo del partito rivoluzionario in Italia potessero svolgerlo il partito socialista o meglio la componente maggioritaria del partito socialista che era quella maggioritaria al congresso del partito socialista del 1919 il gruppo dell'ordine nuovo è ancora schierato con la frazione di Serrati con la frazione massimalista perché pensavano che loro potessero svolgere quel ruolo certo magari erano un po' fumosi però Gramsci pensava che un orientamento del partito verso i consigli di fabbrica fosse sufficiente a curare i mali dei parolai massimalisti e a riportare il partito con i piedi per terra e quando vedrà che nessuno nel partito socialista riprende le sue proposte le sue tesi rispetto al consigli di fabbrica solo allora si renderà conto che è necessario sviluppare una battaglia all'interno del partito però ripeto siamo già nel 1920 siamo già nel pieno della rivoluzione ed è troppo ed è troppo tardo e concordo con quello che hanno spiegato i compagni che lui quando nel 20 fa questo scritto per il rinnovamento del partito socialista è uno dei suoi scritti migliori perché a chiare quelle che sono i compiti che ha di fronte il problema è che è un discorso che porta avanti a livello individuale perché in quei mesi nemmeno quelli dell'ordine nuovo lo seguono su quella strada perché hanno preso strade differenti e quindi l'esigenza di arrivare con un processo di chiarificazione politica prima al momento cruciale della rivoluzione e sulle altre cose altre distorsioni che sono state fatte su Gramsci sulla questione Francesco Gigliani Roberto Sarti Emanuele Nidi hanno spiegato della questione contro Trotsky diciamo che non si può identificare le posizioni di Gramsci con quelle di Trotsky e su questo però vorrei dire che abbiamo criticato tanto Bordiga per i suoi limiti settari di estremismo eccetera eccetera però in quel dibattito internazionale lui comunque prese posizione e invece lui prese posizione a favore di Trotsky e quella è una posizione che gli fa onore perché non c'era una coincidenza tra le posizioni di Bordiga e quelle di Trotsky erano molto differenti però nel momento in cui a livello internazionale Trotsky viene marginalizzato dagli stalinisti Bordiga invece ne prende le difese e questo va tutto a onore di Bordiga e tra l'altro poi sarà quello che gli costerà la definitiva espulsione dal partito e quindi Gramsci invece fa una scelta differente i compagni hanno spiegato che non era uno stalinista al pari degli altri ma accetta quella direzione e di fatto lui fa un discorso che è molto incentrato sull'Italia cioè lui pensa che sostenendo la direzione la maggioranza attorno a Stalin e agli altri è la posizione che lo possa aiutare meglio a condurre la battaglia contro Bordiga all'interno del partito comunista d'Italia e basa la sua scelta su questo e come già è stato spiegato è un errore perché poi il dibattito internazionale ha enormi ripercussioni anche nel partito italiano e Gramsci se ne accorgerà nel 29 quando gli propinano una teoria che in Italia non ha nessun tipo di riscontro con la realtà però appunto anche lì sarà oramai troppo tardi e uno dei grossi problemi che ha avuto Gramsci è che si rende conto della correttezza che lui nei primi anni del partito comunista d'Italia Gramsci sostiene la linea estremista di Bordiga c'ha dei distinguo c'ha dei mal di pancia ma nei fatti la sostiene e quando si decide ad adottare la linea del fronte unico e iniziare la battaglia di Bordiga lo fa su spinta dell'internazionale comunista e anche sulla spinta di Trotsky che aveva discusso con lui a lungo quando Gramsci per un periodo aveva vissuto a Mosca però purtroppo lui si decide di iniziare questa battaglia alla fine del 23 all'inizio del 24 quando già nell'internazionale è in corso un processo di degenerazione Lenin è venuto a mancare Trotsky è stato messo ai margini il dirigente principale è Zinoviev e non c'è più la vecchia discussione democratica di prima che era quella discussione per cui Bordiga sosteneva un attesi Lenin per rispondere ai suoi nemici politici scriveva i libri come l'estremismo e Bordiga peraltro riconosceva l'autorità di Lenin il Partito Comunista Italia si candida nei primi anni alle elezioni non perché la linea di Bordiga che è ancora fermamente convinto dell'astensione ma perché accetta la disciplina internazionale se la maggioranza internazionale decide così noi lo facciamo questo era l'internazionale dei primi anni dove se c'era un limite Trotsky andava a discutere con Gramsci proponendogli di candidarsi come alternativa alla linea settaria di Bordiga invece Zinove inizia a usare le misure amministrative inizia a usare le misure burocratiche e se un gruppo dirigente non va bene lo sostituisce con un altro ed è quello che avviene in Italia in Italia Gramsci diventa il principale dirigente nel 24 non perché ha la maggioranza dei consensi all'interno del partito perché la maggioranza all'interno del partito anche in quegli anni c'era ancora Bordiga con tutti i suoi limiti è ancora il dirigente più riconosciuto e sono ancora le sue tesi quelle maggiorità Gramsci lo diventa con una serie di manovre organizzative amministrative con l'appoggio dell'internazionale comunista di Zinove perché di fatto lo mette a capo del partito nonostante la maggioranza del partito vorrebbe un'altra linea e questo è uno dei drammi uno dei problemi che ha avuto Gramsci nella sua traiettoria politica ora il mio tempo ecco scusate mi stavo dimenticando una cosa importantissima ha fatto benissimo Domenico Minadeo nel suo intervento a parlare di Pietro Tresso dell'opposizione dei tre perché anche nel partito comunista d'Italia ci fu appunto una opposizione di sinistra ci fu chi sostenne fece su le posizioni di Trotsky che sono già stati ricordati i Leonetti Tresso Rabazzoli che vennero espulsi nel 29 per la loro opposizione alla teoria del social fascismo e questa non è una tradizione alla quale ci dobbiamo integralmente rifare perché pensate le condizioni difficili sono già state ricordate fascismo da una parte stalinismo dall'altra una doppia persecuzione questi compagni e Tresso in particolare perché poi gli altri due hanno avuto degli sbandanti ma Tresso in particolare fino all'ultimo ha mantenuto la linea ha mantenuto la sua coerenza e questo gli va dato atto come uno dei più importanti dirigenti del movimento comunista in Italia che noi dobbiamo a cui noi dobbiamo giustamente dare il giusto riconoscimento e rispetto al quale noi dobbiamo si porci come gli eredi di una battaglia politica il tempo è finito comunque abbiamo discusso molto avremo modo di tornarci ci proponiamo anche con il materiale che è stato realizzato questi articoli queste cose non solo di tradurli nelle altre lingue perché appunto Gramsci è conosciuto molto anche negli altri paesi e anche di fare un libro questo è l'obiettivo poi vedremo se riusciremo concretamente a farlo ma l'obiettivo è quello di avere una pubblicazione in cartacea anche di questo materiale che possa rimanere nel tempo come contributo del nostro movimento alla riflessione sugli avvenimenti di quegli anni e quindi per concludere a cent'anni di distanza noi ci troviamo a dover combattere la stessa battaglia che coloro che fondarono il partito comunista d'Italia si trovavano a combattere una battaglia per rovesciare il capitalismo per costruire una società socialista è ancora attuale questa è ancora attuale sì per il semplice fatto che il capitalismo esiste ancora e per il semplice fatto che il capitalismo non ha risolto le sue contraddizioni rispetto a quelle degli anni 20 ma è anzi per certi aspetti le ha anche accentuate le sue e questo lo vediamo nella crisi che stiamo attraversando in questa fase che rischia di avere delle conseguenze assolutamente drammatiche e quindi noi qua dobbiamo riannodare un filo con quella tradizione rivoluzionare del 1921 non in modo acritico non in modo ageografico come è stato spiegato noi non facciamo dei santini ma appunto cerchiamo di imparare le lezioni anche dagli errori che sono stati commessi nel passato ma è tempo che quel filo venga riannodato perché quel filo per tanto tempo è stato spazzato via dall'egemonia stalinista sul movimento comunista in Italia oggi quell'egemonia non c'è più tante organizzazioni sono crollate e noi dobbiamo cercare di raccogliere questo testimone di riannodare questo filo e portare avanti la nostra battaglia facendo che cosa? ponendo basi politiche chiare nella nostra organizzazione maturando una serie di esperienze facendo crescere una serie di quadri per arrivare preparati ai grandi appuntamenti rivoluzionari che ci saranno inevitabilmente anche nella prossima nel prossimo periodo e che saranno e che sono inevitabili perché deriveranno da quella che è questa gravissima crisi del capitalismo che stiamo trovando noi dobbiamo lavorare per arrivare pronti a quell'appuntamento per costruire le forze rivoluzionari prima sappiamo che è un lavoro particolarmente complesso un lavoro particolarmente difficile ma nessun altro lo farà al posto nostro non ci sono scorciatoie e lo faremo anche qui sapendo prendere il meglio dell'esperienza del partito comunista di quegli anni guardando a riferimento della rivoluzione d'ottobre con una prospettiva internazionalista che è la stessa che ci guida oggi che ci fa essere la sezione italiana della tendenza marxista internazionale e ultimo ma non per importanza anche con l'orientamento ai giovani perché non dobbiamo dimenticare che il partito comunista d'Italia era un partito di giovani al momento della sua fondazione non solo perché Bordighe e Gramsci erano appena trentenni quando lo fanno quindi anche nel gruppo dirigente c'erano tanti giovani ma perché riuniva alcuni dei migliori operai dei giovani operai delle fabbriche che erano passati attraverso l'esperienza di quegli anni e anche molti dei migliori studenti Gramsci Tasca Togliatti Terracini erano studenti dell'Università di Torino che si attivano politicamente sull'onda anche delle mobilitazioni operai che c'erano in quella città oggi noi vogliamo fare altrettanto vogliamo cercare anche noi i migliori tra i giovani sia tra i giovani studenti sia tra i giovani operai per appunto riprendere questa battaglia contro il capitalismo che per troppo tempo è stata interrotta ma che adesso ci sono tutte le condizioni per poter riprendere e dunque noi lo ribadisco per l'ultima volta non celebriamo questo centenario con le commemorazioni con le corone di fiori ma dobbiamo farlo con la discussione con la formazione politica ma anche con la militanza politica e quindi è importante che tutti quanti noi raddoppiamo i nostri sforzi nella militanza politica quotidiana e che anche e che tutti quanti stanno seguendo e hanno apprezzato questa discussione si uniscano a sinistra classe rivoluzione si uniscono al nostro movimento politico di modo che si possa portare avanti di modo che si possa portare avanti questa battaglia e questa volta portarla fino in fondo grazie a tutti grazie davvero a Franco per queste splendide conclusioni che credo abbiano coronato nel modo migliore tutta la discussione che abbiamo avuto oggi mi sembra che la qualità e la partecipazione siano state straordinarie come diceva qualcuno che appena che ci stava salutando diceva una bellissima maratona siamo ancora in 130 eravamo collegati alla fine di questa discussione 270 persone si sono registrate hanno fatto l'accesso a questa riunione su zoom e alla fine quasi 350 si sono registrate con il modulo online vedo vari commenti entusiasti credo che il messaggio sia proprio quello finale che spiegava Franco cioè sulla base di queste idee sulla base dell'entusiasmo di questa discussione continuate a partecipare alle nostre iniziative restate in contatto con questa organizzazione che appunto su questa teoria su cui investiamo le nostre energie costruiamo una forza materiale per intervenire nei movimenti reali per cambiare la società per abbattere questo sistema riceverete tutti una mail con le coordinate per restare in contatto con noi e quindi questo è il messaggio con cui penso possiamo concludere vorrei solo lasciare due date da annotarsi la prima è quella del 19 febbraio quando terremo la presentazione il lancio pubblico nazionale del libro che abbiamo citato prima Lenin e Trotsky per cosa lottarono veramente e la seconda è il primo fine settimana di marzo il 6-7 marzo dove terremo un importantissimo convegno sulla condizione femminile che si intitolerà libere di lottare su due giorni con sessioni sulle basi storiche un'analisi teorica dell'oppressione di genere nella società di classe con una sessione dedicata alle condizioni delle lavoratrici con tante testimonianze dai posti di lavoro con una sessione sulla lotta per i diritti civili e infine per ribadire il carattere internazionale della nostra organizzazione con una sessione internazionale con interventi da tutto il mondo avremo interventi dagli Stati Uniti dal Brasile dall'Europa dal Pakistan dal Messico e altri che si aggiungeranno che si stanno aggiungendo proprio in questi giorni e quindi penso che davvero questo sia un appuntamento imperdibile per per tutti quelli che hanno partecipato oggi e per tanti altri ancora a cui lo renderemo noto nelle prossime settimane io vi ringrazio ancora vi auguro una buona serata e penso che concludiamo questa giornata con la consapevolezza di aver onorato nel modo migliore questo centenario e soprattutto aver riannodato quel filo di cui parlava Franco e che ci impegniamo a portare a grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.